L'uomo vestito di marrone di Agatha Christie. Prologo. Nadina, la ballerina russa che si era conquistata di slancio l'ammirazione di Parigi, si soffermò a lungo per rispondere agli applausi inchinandosi più e più volte davanti ad una platea delirante. Gli occhi scuri socchiosi erano ridotti a brillanti fessure e la lunga linea delle labbra scarlatte si sollevava appena agli angoli. I francesi entusiasti continuavano a battere mani e piedi mentre con un lungo fruscio il sipario scendeva, nascondendo alla loro vista il bizzarro fondale dipinto a tinte violente, un tripudio di varie tonalità di ameranto blu elettrico e rosso. In uno svolazzare di veli coloratissimi in cui dominavano il blu e l'arancione la ballerina lasciò il palcoscenico. Il direttore del teatro, un uomo grasso e barbuto, la ricevette entusiasta tra le braccia. «Magnifique, ma petite, magnifique!» le gridò estasiato. «Stasera vi siete superata!» e galante le baciò le guance arrossate con quel distacco che accompagna un gesto puramente formale. Madame Nadina accettò il tributo con la disinvoltura dettata da una lunga consuetudine e si recò nel suo camerino dove, sistemati a caso e a profusione, c'erano enormi mazzi di fiori coloratissimi e bellissimi indumenti dai disegni futuristici. Al profumo dei fiori si mescolava il sentore di effluvi ricercati e di essenze esotiche. Jeanne, la cameriera, si dedicò subito alla sua padrona, chiacchierando incessantemente e riversando sulla ballerina un profluvio di complimenti. Qualcuno bussò alla porta del camerino interrompendo il flusso delle sue parole. La cameriera andò ad aprire e tornò con un biglietto da visita. Madame, desiderate riceverlo? Fammi vedere. La ballerina tese languidamente la mano. Quando lesse il nome del conte Sergius Pavlovich, un lampo di interesse brillò negli occhi neri. Lo riceverò. Passami la vestaglia, Jeanne. Fa presto. Quando il conte sarà qui, te ne potrai andare. Bien, madame. Jeanne le portò un indumento squisito di chiffon color champagne, ornato di ermellino. Nadina lo infilò, si sedette sorridendo a se stessa, mentre con una lunga mano bianca tamburellava sul cristallo del tavolino. Il conte si affrettò ad approfittare del privilegio che gli era stato accordato. Era un uomo di altezza media, molto magro, molto elegante, molto pallido, con un'aria straordinariamente apatica. I suoi lineamenti non avevano nulla di particolare ed erano tali da passare inosservati, tanto che sarebbe stato difficile riconoscerlo se non per quel suo esagerato manierismo. Si chinò con una cortesia fin troppo enfatica davanti alla mano tesa della ballerina. Madame, è un vero piacere. Fu tutto ciò che Jeanne udì da lui prima di chiudere la porta del camerino alle sue spalle. Rimasta sola con il suo ospite, un sottile cambiamento modificò il sorriso con cui Nadina lo aveva accolto. Siamo compatrioti ma non parleremo in russo, penso, disse la donna. Sarà meglio, visto che nessuno di noi due conosce una sola parola in quella lingua, confermò il suo ospite. Di comune accordo passarono alla lingua inglese e nessuno avrebbe potuto dubitare, quando il conte abbandonò i suoi modi affettati, che quella fosse la sua lingua madre. Il conte aveva infatti cominciato la sua carriera nei locali notturni di Londra come trasformista e artista di varietà. Avete avuto un successo strepitoso stasera, mia cara, disse. Congratulazioni. Eppure non mi sento tranquilla, disse la donna. Sono preoccupata. La mia reputazione non è più quella di un tempo. I sospetti, nati intorno alla mia persona durante la guerra, non si sono mai completamente dissipati. Mi tengono sempre sotto controllo. Ho continuamente l'impressione di essere sorvegliata. Non siete mai stata accusata di spionaggio, vero? Il nostro capo è un pianificatore troppo brillante perché sia mai stato possibile cogliermi in flagrante. Lunga vita al nostro colonnello, disse devotamente il conte sorridendo. Stupefacente la notizia che intende ritirarsi, vero? Ritirarsi. Inverosimile. Come un macellaio, come un idraulico. O come un qualunque altro professionista, terminò Nadina. Non ci dovrebbe sorprendere. È ciò che il colonnello è sempre stato. Un eccezionale uomo di affari. Ha organizzato il crimine come un altro avrebbe organizzato un calzaturificio. Senza mai compromettersi ha progettato e diretto una serie eccezionale di colpi nell'ambito di quella che potremmo chiamare la sua professione. Furto di gioielli, falsificazioni, spionaggio. Quest'ultimo lavoro si è dimostrato molto redditizio in tempo di guerra. Sabotaggio, eliminazioni condotte in modo eccezionalmente discreto. Non c'è un campo in cui non si sia cimentato con successo. Il colonnello è sempre stato un uomo intelligente e prudente. Credo che ora si dimostri particolarmente saggio scegliendo di mettere fine al suo lavoro. Forse il gioco si sta facendo troppo pericoloso e lui allora si ritira, graziosamente, dopo aver accumulato un'enorme fortuna. Si limitò a borbottare il conte dubbioso. Questa sua decisione non ci conviene affatto e ci lascia in un vicolo cieco e senza sostentamento. Ma siamo stati liquidati molto generosamente, direi. Qualcosa nel tono della sua voce, una larvata ironia, attirarono l'attenzione dell'uomo che la fissò con uno sguardo acuto. La ballerina stava sorridendo e la qualità di quel sorriso destò la sua curiosità. Proseguì diplomaticamente. Sì, lo ammetto, il colonnello è sempre stato un datore di lavoro molto generoso. Attribuisco a questa sua qualità buona parte del suo successo e naturalmente all'abilità che ha sempre mostrato nel sapere trovare un capo espiatorio. Una mente straordinaria, non c'è dubbio, un'intelligenza fuori del comune. E aggiungerei che si è sempre dimostrato un fervente e devoto apostolo della massima. Se vuoi operare in perfetta sicurezza non agire di persona. Eccoci qui, tutti noi, sospettati da tutti e interamente nelle sue mani, mentre noi non abbiamo uno straccio di prova che possa incriminarlo. Si interruppe come se volesse che lei intervenisse per sostenere quanto andava dicendo. Ma la ballerina rimase in silenzio, continuando a sorridere a se stessa come poco prima. Nessuno di noi, ripetè per sottolineare ciò che aveva già detto. A proposito, lo sapete che il colonnello è molto superstizioso? Mi hanno detto che anni fa è andata a consultare una veggente che gli ha predetto una lunga vita di successo, ma gli ha anche profetizzato che una donna sarebbe stata lo strumento della sua rovina. Il conte era finalmente riuscita ad interessare la ballerina. Lei lo guardò attente e incuriosita. Davvero? Una veggente gli ha predetto che una donna sarebbe stata la sua rovina? Il conte sorrise e alzò le spalle. Così pare. Ora che ha deciso di ritirarsi finirà per cadere nella trappola del matrimonio. Sceglierà una di quelle giovani bellezze del bel mondo che sperpererà i suoi soldi in un tempo molto inferiore a quello che gli c'è voluto per accumularli. Nadina scosse la testa. No, no, non sarà così. Ascoltatemi, amico mio, domani mi recherò a Londra. E il vostro contratto qui a Parigi? Starò via solo una notte. Ci andrò in incognito, come fanno i reali. Nessuno saprà mai che ho lasciato la Francia. E perché credete che mi recchi a Londra? Non certo per divertimento, a quest'epoca dell'anno. Gennaio è un mese maledettamente nebbioso e triste. Ci andate per lavoro, vero? Azzeccato. La ballerina si alzò e gli si piantò davanti con un atteggiamento arrogante, mettendo in mostra tutta la sua squisita persona. Disse con orgoglio, secondo voi nessuno dei suoi collaboratori possiede una benché minima prova che possa incriminare il nostro capo. Ebbene, vi sbagliate. Io ce l'ho. Una donna ha avuto l'intelligenza, direi anche il coraggio, di ingannarlo. Vi ricordate dei brillanti della Dibir? Sì, certo, me li ricordo. A Kimberley, proprio prima che scoppiasse la guerra. Non ho partecipato al colpo e non ne conosco i dettagli. È stato un successo, vero? Pietre preziose per un valore di centomila sterline. Abbiamo lavorato in due, sotto gli ordini del colonnello, naturalmente. È stato allora che ho saputo cogliere l'occasione che mi si presentava. Il progetto consisteva nel sostituire ai diamanti della Dibir alcune pietre campione portate dall'America del Sud da due giovani cercatori che si erano recati a Kimberley per farle esaminare. Era evidente che i sospetti sarebbero caduti su quei due. Un colpo brillante e astuto la interruppe il conte per esprimere la sua ammirazione. Il colonnello è sempre stato un uomo molto abile. Io ho naturalmente seguito alla lettera i suoi ordini, ma ho anche fatto qualcosa che il colonnello non aveva previsto. Ho trattenuto un po' di quelle pietre sudamericane dal taglio particolare e riconoscibile. Non sarà difficile dimostrare che quei diamanti non sono mai appartenuti, alla Dibir. Con questi diamanti in mio possesso ho in mano un'arma contro il nostro stimatissimo capo. Se i due giovani venissero scagionati, i sospetti cadrebbero sicuramente su di lui. Non ho detto niente in tutti questi anni. Mi sono accontentata di sapere che avevo in mano quest'arma contro di lui. Ma ora la situazione è cambiata e io voglio essere pagata e non mi accontenterò di una liquidazione. Posso affermarvi che il mio prezzo sarà esorbitante. Eccezionale, esclamò il conte, e sicuramente voi vi portate sempre appresso quei diamanti. I suoi occhi fecero il giro del camerino tutto in disordine. Nadina sorrise dolcemente. Non lo crederete davvero? Non sono così sciocca. Le pietre si trovano in un nascondiglio dove nessuno penserà mai di andare a cercarle. Non vi ho mai considerato una sciocca, mia cara signora. Permettetemi comunque di ricordarvi che state rischiando grosso. Il colonnello non ha certo la tempra di un uomo che accetti facilmente di essere ricattato. Lo sapete, vero? Non mi fa paura, ribatte lei ridendo. C'è stato un solo uomo nella mia vita di di cui ho avuto veramente paura. Per fortuna è morto. L'uomo la fissò incuriosito. Spero quindi per voi che non torni mai più in vita, disse in tono leggero. Che cosa intendete dire? Esclamò la ballerina con voce brusca. Il conte la guardò mostrandosi un po' sorpreso. Vi facevo solo notare che una sua eventuale risurrezione non vi sembrerebbe affatto opportuna, le spiegò. Ma lo ammetto, è stato uno scherzo molto sciocco. Lei respirò sollevata. Oh no, è morto, proprio morto. È stato ucciso in guerra. Un tempo quell'uomo mi amava. In Sudafrica, chiese il conte con tono indifferente. Sì, se proprio lo volete sapere, in Sudafrica. Siete nata lì, vero? La donna annui. Il suo ospite si alzò e allungò la mano verso il cappello. Beh, penso che sappiate ciò che state rischiando. Ma se fossi in voi avrei molta più paura del colonnello che di un vecchio innamorato deluso. È un uomo che non è il caso di sottovalutare. Lei sorrise ironicamente. Come se dopo tutti questi anni non lo conoscessi. Mi chiedo se lo conoscete veramente, continuò lui con voce carezzevole. Me lo chiedo proprio. Oh, non sono sciocca e non sono sola. Il postale dal Sudafrica attraccherà domani al porto di Sudampton. A bordo c'è un uomo che viene espressamente dall'Africa e che ho mandato a chiamare. Un uomo che obbedisce ai miei ordini. Il sarà necessario. Siete sicura di quell'uomo? Un sorriso piuttosto ambiguo passò rapido sul volto della ballerina. Sono perfettamente sicura del mio uomo. In fondo è un inetto, ma è sicuramente degno della mia fiducia. Una lunga pausa. Polei aggiunse con un tono di voce diverso. A proposito, si tratta di mio marito. Capitolo primo. Sono stati molti ad insistere perché scrivessi questa storia. Lo hanno fatto persone autorevoli, come per esempio Lord Nasby, ma lo hanno fatto anche le persone più comuni, come la nostra ultima piccola cameriera di tuttofare, Emily, che abbiamo assunto ultimamente quando siamo tornati in Inghilterra. Davvero, signora, ne fareste un magnifico romanzo. Bello proprio come un film d'avventura. Ammetto di essere qualificata a portare a termine questo compito. Mi sono trovata coinvolti in questa avventura sin dall'inizio. Ne ho seguito il suo evolversi e ho trionfalmente assistito al suo epilogo. Inoltre, per mia fortuna, quelle lacune relative ai fatti che non giunsero direttamente a mia conoscenza potranno essere colmate dal diario di Sir Eustace Pedler, che mi ha autorizzato a farne l'uso che più mi conveniva. E allora, eccomi qui. Io, Anne Beddinfield, pronta a cominciare la mia fatica e a narrare la mia avventura. Ho sempre desiderato una vita avventurosa, diversa da quella noiosa e monotona che mi era toccata in sorte. Mio padre, il professor Charles Bedfield, era uno degli scienziati inglesi più autorevoli che si fosse occupato delle ricerche sull'uomo primitivo. Era uno omogeniale, questo nessuno avrebbe mai potuto metterlo in dubbio. Un uomo intelligente e colto, un ricercatore appassionato che si era sempre occupato esclusivamente di antropologia, dedicandosi in special modo al paleolitico. Il solo disagio che abbia mai provato in tutta la sua vita professionale è stato di dover accettare che il suo corpo vivesse in questo nostro tempo. A mio padre l'uomo moderno non interessava affatto. Persino l'uomo del neolitico lo lasciava indifferente e forse addirittura lo disprezzava in quanto, secondo lui, aveva solo saputo allevare il bestiame. Si entusiasmava solo quando la sua mente vagava alla ricerca di informazioni sul periodo cosiddetto musteriano. Sfortunatamente è difficile evitare di avere a che fare con l'uomo moderno. Bisogna in tutti i modi raggiungere una sorta di accordo con persone come il macellaio, il lattaglio, il panettiere, l'ortolano. Siccome mio padre viveva immerso nel nostro lontano passato e siccome mia madre era morta quando ero piccola, era toccata a me gestire il lato pratico della nostra vita. Per dirla con estrema franchezza, detesto l'uomo del paleolitico, chiunque gli sia. E sebbene io abbia battuto a macchina e corretto le bozze di quasi tutto il libro pubblicato da mio padre, l'uomo di Nedertal e i suoi antenati, questo stesso uomo di Nedertal mi riempie di odio e non posso far a meno di pensare che è una ben fortunata circostanza che si è esistinto in epoche remotissime. Non so se mio padre abbia mai sospettato questi miei sentimenti sull'argomento, ma è probabile che non se ne sia mai accorto. D'altra parte, se anche se ne fosse reso conto, dubito che se ne sarebbe curato. In genere l'opinione degli altri non lo ha mai realmente interessato. Credo che questo sia stato uno dei segni della sua grandezza. Con questo suo supremo distacco è sempre vissuto senza mai occuparsi delle solite e banali necessità della vita quotidiana. Mangiava tutto ciò che gli veniva messo davanti con indifferenze esemplare, ma si irritava se gli si poneva il problema di pagarne il prezzo venale. Il suo malumore durava poco, in quanto aveva raramente tempo da sprecare in simili quisquiglie. Non avevamo mai soldi a sufficienza. La sua celebrità non era di quelle che ottengono come premio il denaro. Per quanto fosse membro eminente di una quantità di fondazioni scientifiche e ci fosse, dopo il suo nome, una sfilza di lettere che segnalavano, come d'uso nel mondo scientifico anglosassone, tutti i titoli accademici che si era conquistato in anni di studi, ricerche e pubblicazioni, la gente comune non sapeva nemmeno della sua esistenza e dei molti volumi di profonda erudizione da lui scritti. I suoi studi hanno sicuramente arricchito il mondo della conoscenza di apporti significativi e importanti, ma non hanno mai interessato il grande pubblico. Una sola volta ebbe l'occasione di attirare l'attenzione di un vasto numero di lettori. Durante un congresso aveva letto una sua comunicazione che riferiva all'esito delle sue ricerche sui giovani scimpanze. I piccoli della razza umana mostrano evidenti aspetti antropoidi, mentre i piccoli degli scimpanze si avvicinano di più agli umani di quanto non lo facciano gli scimpanze adulti. Questa constatazione sembra mostrare che mentre i nostri antenati sono stati molto più scimmieschi di quanto non lo siamo noi, gli scimpanze invece erano una razza più progredita di quanto non lo siano le specie attuali. In altre parole, lo scimpanze attuale potrebbe rappresentare una forma di degenerazione della specie. Un quotidiano particolarmente intraprendente, il daily budget, sempre alla ricerca di notizie scabrose o eccezionali, si affrettò a scrivere un articolo sull'argomento intitolando a lettere cubitali «Noi non discendiamo dalle scimmie, ma forse sono le scimmie che discendono da noi» e aggiungendo come sottotitolo «Un eminente professore afferma che gli scimpanze sono umani degenerati». Poco tempo dopo, un giornalista venne a trovare mio padre cercando di convincerlo a scrivere una serie di articoli divulgativi su questa sua teoria. «Ho raramente visto mio padre così infuriato. Senza troppi complimenti ha sbattuto fuori di casa il malcapitato giornalista. Con mio grande dispiacere poiché in quel momento avevamo proprio bisogno di soldi. Ho persino pensato per un attimo di correre dietro al giovanotto per dirgli che mio padre aveva cambiato idea e che accettava di scrivere gli articoli richiesti. Mi sarebbe stata abbastanza facile scriverli io stessa ed era poco probabile che mio padre venisse a sapere di questo mio accordo poiché non era certo un lettore del daily budget. Rinunciai a quell'idea perché mi parve troppo rischiosa e mi limitai a mettermi il cappello in testa e ad andare in paese per affrontare un droghiere giustamente irritato per un conto che non avevamo ancora pagato. Il giovane giornalista del daily budget è stato il solo giovanotto che fosse mai venuto in casa nostra. C'erano momenti in cui invidiavo Emily, la nostra piccola cameriera che usciva ogni volta che le si presentava l'occasione con un giovane marinaio dalle spalle larghe con cui era fidanzata. Nel frattempo per non perdere l'abitudine, come diceva lei, usciva anche con il commesso del droghiere o con quello della farmacia. Notavo tristemente che io non avevo nessuno con cui uscire per non perdere l'abitudine. Tutti gli amici di mio padre erano anziani professori quasi sempre forniti di barbe fluenti. E' pur vero che il professor Peterson mi aveva un giorno abbracciata affettuosamente affermando che avevo un vitino di vespa e cercando di baciarmi. Ma già solo quel complimento denunciava l'epoca ormai remota in cui quell'uomo era forse stato interessante. Chi mai si sognerebbe ai giorni nostri di dire ad una giovane che ha un vitino di vespa, un complimento che risuonava già obsoleto ai tempi in cui ero ancora nella culla. Avevo una voglia folle di avventura, di amore, di passione ed ero invece apparentemente condannata ad un'esistenza scialba dedicata a risolvere i problemi pratici dell'esistenza quotidiana. In paese c'era una biblioteca comunale dove si potevano prendere i libri in prestito. Vi avevo naturalmente trovato moltissimi romanzi che avevo letteralmente divorato immedesimandomi nelle disavventure, nei pericoli e negli amori delle varie eroine, vivendo così di seconda mano un'esistenza un po' meno squallida della mia. La sera andavo a dormire e sognavo di austeri e silenziosi giovani rodesiani, di uomini forti che riescono ad atterrare il loro avversario con un sol colpo. Non c'era nessuno in paese che assomigliasse anche lontanamente al giovane atleta dei miei sogni, capace di atterrare un avversario con la sola forza del suo pugno. In paese avevamo naturalmente anche il cinema, dove andavo immancabilmente ad assistere all'episodio settimanale della famosa serie intitolata I pericoli di Pamela. Pamela, l'eroina, era una bella ragazza audace e coraggiosa. Niente le faceva paura. Si buttava da aeroplani in volo, s'arrampicava sui grattacieli, frequentava i bassi fondi più malfamati senza che nemmeno un ricciolo della sua acconciatura elaborata le andasse fuori posto. Non era particolarmente furba. Il capo della mala, la grande mente criminale contro cui lei si batteva coraggiosamente, riusciva sempre a rapirla. Ma siccome non pareva mai essere in grado di farla fuori con un colpo ben assestato in testa e inventava ogni volta sistemi inverosimili, atroci e crudeli per ucciderla, l'eroe riusciva sempre a correre in suo aiuto e a salvarla da morte sicura all'inizio dell'episodio seguente. Uscivo dalla sala cinematografica con la testa in fiamme e poi me ne tornava a casa dove mi aspettava magari una vecchia e donerosa fattura della compagnia elettrica che minacciava di interrompere l'erogazione della luce se non avessi pagato subito gli arretrati. Eppure, anche se non lo sapevo, ogni attimo di quella vita monotona mi portava sempre più vicino alla grande avventura che tanto sognavo. Saranno probabilmente innumerevoli le persone che in tutto il mondo non avevano mai sentito parlare della scoperta fatta a Broken Hill Mine nella Rhodesia del Nord di un cranio antichissimo e per la verità lo ignorava anch'io. Un mattino, appena scesa per preparare la colazione, trovai mio padre in uno stato di eccitazione indescrivibile, al limite dell'attacco di apoplessia. Mi raccontò subito della straordinaria scoperta che gli era stata appena comunicata. Lo capisci, Anna, lo capisci. Ci sono sicuramente delle somiglianze con il cranio di Java, ma solo superficiali, solo superficiali. Sono sicuro che ci troviamo davanti a ciò che ho sempre sostenuto, una forma primitiva e ancestrale dell'uomo di Nedertal. Lo ammetti anche tu, vero? Che il cranio di Gibraltar è più primitivo dei crani di Nedertal. E questo perché? Perché la culla dell'umanità è stata sicuramente l'Africa. Poi l'uomo primitivo ha attraversato lo stretto e si è diffuso in tutta Europa. Papà, non mettere la marmellata sulla ringa affumicata, mi affrettai a dirgli, fermando la mano del mio distratto genitore. Sì, che cosa stavi dicendo? L'uomo primitivo si è diffuso in tutta Europa. Questa volta fu lui a di interrompersi, rischiando di strozzarsi con il boccone che gli era andato di traverso. Dobbiamo partire subito, dichiarò con voce ferma, quando si algiò dopo aver finito di far colazione. Non c'è tempo da perdere. Dobbiamo trovarci sul posto. Ci sarà sicuramente un numero incalcolabile di reperti da trovare nei dintorni. Sarà interessante constatare se gli utensili avranno i caratteri peculiari del periodo musteriano. Si troveranno di certo resti di ossa di un bovide primitivo, direi, ma non quelli di un eventuale rinoceronte peloso. Sì, sono convinto che tutta una squadra di scienziati si recherà sul posto per avviare le ricerche. Dobbiamo arrivare prima di loro. scriverai alla CUC, la solita nostra agenzia di viaggio, vero, Anne? E i soldi, papà? Gli chiesi con quanta discrezione e garbo mi riuscì di mettere nel tono della mia voce. Mi fissò con uno sguardo di rimprovera. Figliola mia, riesci sempre a deprimermi. Non è permesso essere così meschini? No, no. Quando è in gioco la scienza non si può essere gretti. Temo che la CUC si comporterà in modo gretto e meschino, come dici tu. Papà assunse un'espressione addolorata. Mia cara Anne, non ti capisco, basterà pagare in contanti. Non abbiamo contanti, papà. Papà assunse un'espressione profondamente esasperata. Mia cara ragazza, non possa assolutamente preoccuparmi di questi sordidi dettagli economici. La banca. Ho ricevuto una lettera dal direttore. Ho 27 sterline sul mio conto corrente. Temo che si tratti del tuo scoperto, papà. Ah, ho capito. Allora scrivi al mio editore. Annui con aria dubbiosa. I libri che scriveva mio padre gli fruttavano molta fama, ma assai poco denaro. Mi piaceva immensamente l'idea di partire per la Rhodesia. Un giovane austero e silenzioso, mormorai a me stessa, estasiata. Poi qualcosa di strano nell'aspetto esteriore di mio padre mi colpì improvvisamente. Papà ha indossato le scarpe sbagliate. Togliti quella marrone e metti la nera per completare il paio. Non dimenticare la sciarpa. Oggi fa molto freddo. Pochi minuti dopo mio padre usciva con ai piedi le due scarpe nere e una sciarpa intorno al collo. Torno tardi quella sera e accorsi disperata che non aveva più né la sciarpa né il soprabbito. Mia cara, hai proprio ragione. Me li sono tolti per entrare nella caverna. Ci si sporca sempre là dentro. Annui vigorosamente ricordando l'occasione in cui papà era tornato ricoperto dalla testa ai piedi di fango del pleistogene. La principale ragione che aveva spinto mio padre ad abitare a Little Hamsley era la vicinanza di una caverna ricca di depositi della cultura aurignaziana. Avevamo in paese un piccolo museo molto interessante e il curatore e mio padre trascorrevano quasi tutto il loro tempo a frugare all'interno della caverna, riportando trionfalmente alla luce frammenti di ossa di rinoceronte peloso o di orso delle caverne. Papà tossì molto quella notte. Il giorno seguente aveva la febbre alta. Chiamai il medico. Il mio povero papà non ha mai avuto fortuna. Si era preso una polmonite doppia. Morì quattro giorni dopo. Capitolo secondo. Tutti furono molto gentili. Mi trovavi in uno strano stato di stupore e lo apprezzai. Non provavo un grande dolore. Papà non mi aveva mai voluto bene, lo sapevo. Se avesse provato affetto per me avrei potuto controcambiarlo. Tra noi purtroppo non c'era mai stato amore. Eppure avevamo vissuto insieme. eravamo appartenuti l'uno all'altro. Io mi ero occupato del suo benessere e lo avevo segretamente ammirato per la sua profonda cultura e la sua incondizionata devozione per la scienza. Mi era molto dispiaciuto che fosse morto proprio quando era giunto il momento più entusiasmante di tutta la sua vita. Sarei stata contenta se avessi potuto farlo seppellire in un paleosuolo o in una caverna piena di depositi del pleistogene, decorata di pitture rupestri o di graffiti. Ma la consuetudine e la pubblica opinione mi costrinsero a fargli preparare una tomba con tanto di pietra tombale in marmo nel modesto piccolo cimitero del paese. Le frasi consolatorie del vicario, per quanto piene di buone intenzioni, non mi consolarono affatto. Mi ci volle un po' di tempo per rendermi conto che avevo finalmente ottenuto ciò a cui aspiravo da tanto. La libertà. Ero orfana, praticamente senso un soldo, ma finalmente libera. Mi resi anche conto dell'estrema gentilezza di tutta quella brava gente. Il vicario fece del suo meglio per persuadermi che sua moglie aveva bisogno di qualcuno che l'aiutasse e le facesse compagnia. La nostra modesta biblioteca circolante sentì all'improvviso la necessità di un aiuto bibliotecaria. Il medico venne a trovarmi e dopo essersi scusato a proposito della sua parcella e aver tergiversato a lungo, si decisa a farmi una proposta ufficiale di matrimonio. Ne fui molto sorpresa. Il medico era più vicino ai 40 che ai 30 anni. Era piccolo di statura, tozzo e grassoccio. Non assomigliava nemmeno lontanamente all'eroe dei pericoli di Pamela e ancor meno al giovane erodesiano austere e silenzioso capace di disfarsi di un avversario con un sol pugno. Ci pensai per un buon momento e poi gli chiesi perché mi voleva sposare. La domanda sembrò imbarazzarlo molto. Mormorò che per un professionista una moglie è importante. La sua proposta diventava sempre meno romantica e allettante. Eppure qualcosa mi costrinse a non respingerla subito. Mi offriva sicurezza. Sicurezza è una casa confortevole. Ripensandoci credo di averlo giudicato male quel pover uomo. Probabilmente mi voleva bene, ma per una mal riposta discrezione non ebbe il coraggio di dirmelo. Comunque sia, il mio desiderio di avventura, di amore e di passione ebbe il sopravvento. Vi ringrazio per la vostra gentilezza, gli dissi, ma non posso accettare. Non potrei mai sposare un uomo senza amarlo alla follia. Non credete che... No. Lui sospirò. Mia cara ragazza, che cosa farete? Andrò incontro all'avventura e visiterò il mondo, gli risposi senza un attimo di esitazione. Signorina Anna, siete ancora tanto giovane. Non sapete ancora niente. Delle difficoltà della vita? Oh dottore, le conosco, le conosco. Non sono una scolaretta sentimentale. Sono un'astuta mercenaria. Ve ne accorgereste presto se accettassi di sposarvi. Vorrei tanto che ripensaste alla mia proposta. Non posso. Lui sospirò di nuovo. Avrei un'altra proposta da farvi. Una mia zia, che abita nel Galles, ha bisogno di una dama di compagnia. Vi piacerebbe andarci? No dottore, io voglio andare a Londra. Solo lì mi potrebbe forse capitare una buona occasione. Mi recherò nella capitale e terrò gli occhi bene aperti. Qualcosa succederà, ne sono certa. E voi sentirete dire che sono partita per la Cina o per Timbukut. Dopo quella del dottore, ricevetti la visita dell'avvocato Fleming, illegale londinese di mio padre. Venne apposta dalla capitale per vedermi. Ero un appassionato antropologo dilettante e fervente ammiratore di mio padre. Alto, snello, faccia magra, capelli grigi. Si alzò per venirmi incontro quando entrai nel salotto dove mi aspettava e mi strinse le mani con gesto affettuoso. Mia povera cara, disse, mia povera bambina. Senza essere effettivamente consapevole della mia ipocrisia, assunsi l'atteggiamento della povera orfana. Fu lui a spingermi a farlo, con il suo comportamento. Si mostrò benevolo, gentile, paterno e assolutamente certo di avere davanti a sé una ragazza sciocca, lasciata sola ad affrontare un mondo pericoloso e malvagio. All'inizio pensai che era assolutamente inutile cercare di convincerlo del contrario. E forse fu un bene, visto il modo in cui proseguì il nostro incontro. Mia cara bambina, credete di potermi seguire mentre cerco di chiarirvi alcuni aspetti della situazione in cui vi siete venuta a trovare? Sì avvocato. Vostro padre, come ben sapete, era un grande scienziato. La posterità saprà riconoscerne i meriti eccezionali, ma non era certo un uomo pratico. Questo lo sapevo, e forse meglio di quanto non lo sospettasse l'avvocato Fleming, ma evitai di dirglielo. Lui proseguì. Non credo che voi vi intendiate di problemi economici. Cercherò quindi di essere molto chiara e semplice. Parlò con circospezione, ma alla fine dovette giungere alla conclusione che avevo già previsto. Ero rimasta sola ad affrontare il futuro con un capitale di 87 sterline, 17 scellini e 4 centesimi. Una somma che mi sembrò straordinariamente insufficiente. Aspettai con trepidazione ciò che aveva ancora da dirmi. Temevo che anche l'avvocato Fleming avesse una qualche zia in Scozia, bisognosa di una giovane brillante e allegra dama di compagnia. Non l'aveva. Si tratta ora, mia cara, di pensare al vostro avvenire. Non avete parenti, vero? Sono sola al mondo, dissi, e mi sorpresi di nuovo a pensare che mi stavo comportando come la giovane eroina di un film. Avete amici? Tutti sono stati molto gentili, risposi piena di riconoscenza. Chi non sarebbe gentile con una giovane così carina? Disse galantemente l'avvocato Fleming. Beh, mia cara, vedremo quello che si può fare. Esitò un attimo, poi riprese. Che ne direste di venire a stare con noi per un po' di tempo? Balzai sull'occasione. Londra. Laddove di certo tutto può succedere. Siete molto gentili, avvocato. Vi ringrazio, dissi. Posso davvero? Almeno per un po'. Il tempo di guardarmi in giro. Dovrò cominciare a guadagnarmi da vivere, sapete? Sì, sì, mia cara, capisco. Cercheremo di trovare qualcosa. Un lavoro che vi convenga. Avvertì istintivamente che l'opinione che poteva avere l'avvocato Fleming su un lavoro che mi potesse convenire era molto diversa dalla mia. Ma non mi sembrò il momento di svelargli le mie idee. Allora siamo d'accordo. Perché non venite a Londra con me oggi stesso? Oh, grazie, ma la signora Fleming? Mia moglie sarà felice di ricevervi. Mi chiedo se i mariti conoscono le moglie come sembrano credere. Se io fossi sposata, non mi piacerebbe affatto che mio marito mi comparisse in casa insieme ad una giovane orfana senza nemmeno consultarsi con me. Le manderemo un telegramma dalla stazione, proseguì l'avvocato Fleming. Non ci missi molto tempo a fare le valigie. Prima di mettermelo in testa, contemplai con malinconia il mio cappello. Era stato in origine una sorta di maggio strina, uno di quei cappelli che dovrebbero portare le cameriere quando hanno la loro giornata libera, e non lo fanno mai. Era un affarino di paglia nera, con un nastro dall'aspetto deprimente. Un lampo di genio mi aveva spinto molto tempo prima a dare un paio di colpi alla tesa, deformandola e ad aggiungere come ornamento un mazzetto di fiori coloratissimi dall'aria vagamente liberty. Ne era risultato un cappello estroso e divertente. Avevo naturalmente già tolti il mazzetto di fiori, e ora, prima di mettermelo in testa, mi applicai a raddrizzarne la tesa, eliminando così la mia opera e tornando a ripristinare lo squallido copricapo nella sua forma tradizionale. Non più molto nuovo, aveva ora assunto un aspetto ancora più triste e deprimente. Tanto valeva che io assomigliassi, per quanto mi fosse possibile, a quell'immagine che la gente si fa di una povera orfana provinciale. Mi sentivo un po' nervosa pensando all'accoglienza della signora Fleming e speravo che il mio aspetto potesse disarmarla a sufficienza. Anche l'avvocato Fleming era nervoso. Me ne resi conto mentre salivamo le scale di una bella casa che si affacciava su Kensington Square. La signora Fleming mi accolse abbastanza gentilmente. Era una donna robusta e bonacciona, il classico esemplare di buona moglie e buona madre. Mi accompagnò in una graziosa camera da letto. Si augurò che io avessi lì tutto ciò che mi serviva. Mi informò che il tè sarebbe stato pronto un quarto d'ora dopo e mi abbandonò ai miei pensieri. Mi giunse la sua voce un po' stridula quando raggiunse suo marito nel soggiorno di casa al piano di sotto. Davvero, Henry, che cosa ti è venuto in mente? Persi il resto della frase ma l'irritazione del tono non mi era sfuggita. Pochi minuti dopo mi raggiunse un'altra frase detta con un tono ancora più acido. Sì, certo sono d'accordo e sicuramente molto carina. La vita è dura. Gli uomini non sono gentili se non sei almeno un po' carina e le donne non ti daranno mai una mano se lo sei davvero. Con un sospiro cercai di domare i miei capelli. Sono belli, lo so. Sono neri, veramente neri, non bruni. Mi lasciano scoperta la fronte e cadono armoniosamente a caschetto coprendo le orecchie. Con mano inesorabile li raccolsi dietro la nuca scoprendo le mie orecchie che sono orrende. Quando ebbi finito assomigliavo incredibilmente all'orfana brutta e insignificante di popolare memoria. Notai subito quando la raggiunsi in salotto che la signora Fleming osservava con uno sguardo gentile le mie brutte orecchie esposte. Il signor Fleming sembrò un po' sorpreso. Sono sicura che stava pensando tra sé. Che cosa diamine ha fatto questa ragazza per ridursi a questo modo? Quella sera, quando mi preparai per andare a letto, mi osservai a lungo allo specchio. Ero veramente carina. Onestamente non avrei saputo dirlo. Non avevo il classico bel naso greco, né una boccuccia di rose, né tutti quei lineamenti armoniosi di cui è dotata un'eroina da romanzo. Avrei tanto voluto avere gli occhi azzurri e invece li avevo verdi con riflessi dorati. Mi consolai pensando che il verde è il colore giusto per gli occhi di un'avventuriera. Mi avvolsi con un indumento nero lasciando scoperte le spalle e le braccia. Spazzolai vigorosamente i capelli lasciandoli ricadere sulle orecchie. Missi un velo di cipria sul viso per avere una pelle ancora più bianca e luminescente non economizzai sul rossetto. Con un tappo di sughero annerito sottolineai la linea delle ciglia. Sistemai una penna rossa nei capelli. Infilai in bocca un lungo bocchino. Mi osservai a lungo. In linea generale non mi dispiacque affatto quello che vidi riflesso nello specchio. Anna l'avventuriera, dissi a voce alta guardandomi compiaciuta. Anna l'avventuriera. Primo episodio, la casa a Kensington. Le ragazze sono a volta molto sciocche. Capitolo terzo. Mi annoiai moltissimo durante le settimane che seguirono. La signora Fleming e le sue amiche non erano persone molto interessanti. Parlavano per ore di se stesse, dei loro bambini, delle difficoltà di trovare del buon latte per quelle loro creature, di quello che avevano detto al lattaio. Poi passavano all'argomento servitù, alla fatica di trovare una buona cameriera, all'incomprensione di quelle signore che dirigevano gli uffici di collocamento. Non leggevano mai i giornali e non si occupavano di ciò che avveniva nel mondo. Non amavano viaggiare. Tutti i paesi sono così diversi dalla vecchia Inghilterra. La costa azzurra era bella e sopportabile perché naturalmente lì si incontravano tanti amici. Ascoltavo e contenevo a fatica la mia impazienza. Molte di quelle donne erano ricche. Tutto il vasto mondo era a loro intera disposizione eppure si accontentavano di starsene a Londra e di chiacchierare per ore ed ore di bambini e di problemi domestici. Ripensandoci ora mi accorgo di essermi dimostrata piuttosto intollerante. Fermo restando che si trattava di donne davvero stupide. Stupide persino nello svolgere il compito che avevano deliberatamente scelto quello di occuparsi dell'andamento della loro casa. Quasi tutte parevano inoltre assolutamente inadeguate al loro compito e non erano nemmeno in grado di tenere una contabilità corretta delle spese domestiche. La mia situazione non progrediva affatto. La casa e i mobili erano stati venduti e il ricavato era bastato appena per pagare i debiti. Io non avevo ancora trovato un lavoro, non che ne volessi veramente uno. Avevo la ferma convinzione che se mi fossi messa in cerca di avventure, le avventure mi sarebbero venute incontro. La mia teoria è che prima o poi si ottiene sempre ciò che si desidera e questa mia teoria stava per dimostrarsi esatta. Eravamo giunti all'inizio di gennaio, per l'esattezza era l'otto. Stavo tornando a casa dopo un'intervista deludente con una signora che affermava di aver bisogno di una segretaria e dama di compagnia, ma che in realtà voleva una donna di fatica disposta a lavorare 12 ore al giorno per la modica somma di 25 sterline all'anno. Dopo averla lasciata con muta e velata scortesia, avevo percorso Edway Road, l'incontro si era svolto in una casa di St. John Wood, attraversato Hyde Park ed ero passata davanti all'ospedale St. George. Lì entrai nella stazione della metropolitana di Hyde Park Corner e presi un biglietto per Glow Chester Road. Raggiunta la piattaforma, la percorsi sin in fondo. La mia curiosità mi spingeva a voler sapere se c'erano tratti in comune o aperture tra i due tunnel proprio sotto la stazione in direzione di Down Street. Fui scioccamente felice di constatare che c'erano davvero. Non c'era molta gente in attesa e in fondo alla piattaforma eravamo soli in due, io e un uomo. Nel passargli accanto arricciai involontariamente il naso. Se c'è un odore che non sopporto è proprio quello della naftalina. Il cappotto pesante che quell'uomo indossava emanava sgradevoli e fluvi di quelli inutile antitarma. Mi sembro strano. In fondo gli uomini cominciano a portare il cappotto molto prima del mese di gennaio e l'odore di naftalina avrebbe già dovuto svanire da un bel po'. L'uomo davanti a me se ne stava immobile vicino all'inizio del tunnel. Sembrava perso nei suoi pensieri e Dio ebbi la possibilità di osservarlo attentamente senza sembrare troppo indiscreta. Era piccolo di statura e molto magro. Aveva la faccia abbronzata che faceva risaltare l'azzurro chiaro degli occhi e una barbetta nera a punta gli ornava il mento. È appena arrivato dall'estero. Ne dedussi. Ecco perché il suo cappotto puzza tanto. Viene probabilmente dall'India. Non è un militare. Non avrebbe la barba. Forse fa il coltivatore di tè. In quel momento l'uomo si risultò come se avesse l'intenzione di ritornare sui suoi passi. Mi lanciò appena uno sguardo e poi i suoi occhi andarono a posarsi su qualcosa che si trovava alle mie spalle. La sua faccia cambiò espressione. I suoi lineamenti sembrarono sconvolti dalla paura, dal terrore. Fece un passo indietro come se involontariamente cercasse di allontanarsi da un pericolo, dimenticando che si trovava sul bordo della piattaforma. Cadde. Una luce sprizzò dai binari seguita da un terribile crepitio. Gridai. La gente accorse. Due funzionari della metropolitana sembrarono improvvisamente materializzarsi dal nulla e presero in mano la situazione. Io ribasi in piedi dove ero, inchiodata al suolo da una specie di orrendo incantesimo. Una parte di me era attonita per la rapidità con cui si era svolta la tragedia. L'altra era rimasta fredda e spassionata. Questo mi permise di osservare attentamente come sollevarono l'uomo caduto sui binari, riportandolo sulla piattaforma. «Lasciatemi passare, per favore. Sono un medico». Un uomo alto, con una grande barba bruna, mi passò vicino e si chinò vicino al corpo esanime. Mentre lo esaminava, io veni presa da uno strano senso di irrealità. No, non c'era niente di reale in quella scena. Alla fine l'uomo si raddrizzò e scosse la testa. «E' morto. Non c'è niente da fare». C'eravamo tutti affollati intorno al cadavere. Un facchino alzò la voce stizzito. «Indietro, per favore, indietro. Non è il caso di affollarsi intorno a questo poveretto». Fui presa da un improvviso senso di nausea. Mi voltai rapidamente e salì di corsa le scale verso l'ascensore. L'incidente era stato troppo orrendo. Avevo bisogno di ritrovarmi all'aria aperta. Il medico che aveva esaminato il cadavere mi precedeva di pochi passi. L'ascensore stava per risalire ed era già quasi pieno. Il medico allora si mise a correre per non perdere quella corsa e così facendo lasciò cadere un foglietto di carta. Mi fermai a raccoglierlo e gli corsi dietro. Ma la porta dell'ascensore si chiuse prima che avessi il tempo di raggiungerlo e io rimasi con il mio foglietto in mano. Quando il secondo ascensore mi portò a livello stradale, l'uomo che avevo cercato di inseguire era scomparso. Sperai che non avesse perso niente di importante e per la prima volta esaminai il foglietto. Era un mezzo foglio strappato ad un su cui erano stati scribacchiati a matita numeri e parole. Questo ne è il facsimile. 17.122 Kilmorden Castle. Non mi sembrò importante, eppure esitai a buttarlo via. E mentre ero ferma con quel biglietto in mano, arricciai di nuovo involontariamente il naso con disgusto. Di nuovo l'odore della naffitalina. Mi portai il foglietto al naso. Sì, ne era impregnato. Ma allora? Lo ripiegai con molta cura e lo misi nella borsetta. Tornai a casa camminando lentamente e seguitando a riflettere. Spiegai alla signora Fleming che avevo assistito ad un'orribile disgrazia nella stazione della sotterranea e che, sentendomi ancora sconvolta, desideravo salire nella mia stanza per riposare. La buona donna insistette perché bevessi una tazza di tè. Poi mi lascio sola. Io mi sinopera il progetto che avevo formulato durante il ritorno a piedi. Volevo scoprire la causa di quella curiosa sensazione di realtà che mi aveva accolto mentre osservavo il medico che esaminava il cadavere. Mi distesi a terra nella stessa posizione del morto. Poi misi al mio posto un cuscino e ripetei, per quanto mi fu possibile, tutti i gesti del medico. Quando ebbi finito avevo ottenuto ciò che volevo. Mi sedetti sui tacchi e aggrottai le sopracciglia fissando il muro di fronte. I giornali della sera raccontarono brevemente che un uomo era morto cadendo sui binari della metropolitana. E si chiesero se si trattasse di un suicidio o di una disgrazia. Mi sembrò necessario quindi chiarire il fatto e ne parlai con l'avvocato Fleming che dopo avermi ascoltato fu d'accordo con me. Sarà necessario che vi presentiate all'inchiesta. Affermate che nessun altro si trovava abbastanza vicino per vedere ciò che è veramente successo, vero? Ho avuto la sensazione che qualcuno stesse sopravvenendo alle mie spalle, ma non ne sono sicura e comunque non sarebbe stato più vicino di quanto non lo fossi io. Ci fu un'inchiesta. L'avvocato Fleming prese tutte le disposizioni necessarie e mi accompagnò. Sembrava convinto che sarebbe stata per me un'esperienza difficile e penosa, tanto che fui costretta a nascondergli la mia completa serenità d'animo. Il morto era stato identificato. Si trattava di un certo L.B. Carton. In tasca gli era stato trovato solo un permesso rilasciato da un'agenzia immobiliare per visitare una casa sul Tamigi, nelle vicinanze di Marlowe. Il permesso era intestato appunto a L.B. Carton, sceso al Russell Hotel. Il portiere dell'albergo riconobbe in lui il signore che era arrivato il giorno precedente e aveva fissato una camera dando il suo nome, L.B. Carton, Kimberley, Sudafrica. L'uomo si era evidentemente recato in albergo subito dopo essere sbarcato dalla nave. Ero la sola persona che avesse visto come si erano svolti i fatti. Pensate che si sia trattato di una disgrazia? Mi chiese il coroner. Ne sono certa. Qualcosa lo deve aver spaventato e lui ha involontariamente fatto un passo indietro. senza accorgersi del pericolo che stava correndo. Che cosa può averlo spaventato? Non lo so, ma qualcosa deve essere stato. Sembrava terrorizzato. Un giurato dalla faccia non troppo intelligente suggerì che alcuni uomini sono terrorizzati dai gatti. L'idea non mi parve molto brillante, ma gli altri giurati furono disposti ad accoglierla senza metterla in dubbio. Avevano tutti probabilmente voglia di tornarsene a casa ed erano contenti di poter emettere subito un verdetto di morte accidentale accantonando l'ipotesi del suicidio. Sono sorpreso che il medico che ha esaminato per primo il cadavere non si sia sentito in dovere di venire qui a deporre. Qualcuno avrebbe dovuto prendere il suo nome in dirizzo. Un'omissione molto grave e un comportamento irregolare delle autorità preposte. Io sorrisi tra me. Avevo un'idea ben precisa su quello strano medico e avevo già deciso di recarmi quanto prima a Scotland Yard. I giornali del mattino seguente avevano in servo un'altra sorpresa. I flaming comperavano il daily budget e il daily budget come al solito aveva un asso nella manica. Straordinario seguito all'incidente mortale della metropolitana. Una donna strangolata in una casa vuota. Lessi l'articolo con ansia. Una scoperta sensazionale è stata fatta ieri a Mill House, una villa disabitata che si trova a Marlowe, di proprietà di Sir Eustace Pegler, membro del Parlamento. In una stanza del primo piano è stata trovata strangolata una bellissima donna non ancora identificata ma che è probabilmente una straniera. La villa non arredata è stata affidata ad un'agenzia immobiliare che ha il compito di affittarla. La polizia aveva in effetti trovato nella tasca dell'uomo che in un primo tempo pareva essersi suicidato gettandosi sui binari della metropolitana nella stazione di Hyde Park Corner un permesso per visitare la villa. Si dice che la polizia abbia già in mano un indizio. Sir Eustace Prendler, proprietario di Mill House, sta trascorrendo l'inverno sulla costa azzurra. Capitolo quarto. Nessuno si presentò per identificare la donna morta e dall'inchiesta emersero i fatti seguenti. Poco dopo l'una, l'otto gennaio, una donna elegante che parlava con un leggero accento straniero era entrata negli uffici dell'agenzia immobiliare Butler and Park a Knight Bridge. Aveva detto di voler affittare o acquistare una casa sul Tamigi nelle vicinanze di Londra. L'impiegato che si era occupato di lei gliene aveva descritte diverse e fra queste la villa di Marlow. La signora aveva detto di chiamarsi De Castina e aveva dato come indirizzo il Ritz, ma in seguito era stato accertato che nessuno che portava quel nome era asceso in quell'albergo e il personale non era stato in grado di identificare il cadavere. La signora James, moglie del giardiniere di Sire Eustaz Pedler, che abitava nella piccola portineria della villa, costruita proprio vicina al cancello sul ciglio della strada principale, con l'incarico di sorvegliare la villa padronale, si era recata a deporre. Aveva affermato che verso le tre del pomeriggio di quel fattivico giorno una signora era venuta a visitare la casa. Aveva con sé il permesso dell'agenzia e come al solito la signora James le aveva consegnato le chiavi della villa. La casa era situata ad una certa distanza dalla portineria e la custode non aveva l'abitudine di accompagnare le persone che venivano a visitarla. Pochi minuti dopo era giunto un giovanotto. La signora James lo aveva descritto. Era un uomo alto, spalle larghe, faccia abbronzata e occhi grigi. Era sbarbato e indossava un abito marrone. Spiegò alla signora James che era un amico della signora che stava visitando la casa e che era in ritardo perché si era fermato all'ufficio postale per mandare un telegramma. La donna gli aveva indicato la strada per andare alla villa e non ci aveva più pensato. Cinque minuti dopo il giovane era riapparso, le aveva consegnato le chiavi e le aveva detto che era dispiaciuto ma che la casa non conveniva loro. La signora James non aveva visto la donna ma aveva pensato che si fosse già allontanata. aveva però notato che il giovane sembrava piuttosto turbato. Pareva un uomo che avesse visto un fantasma. Ho persino pensato che si sentisse male. Il giorno seguente un'altra coppia era venuta a visitare la villa ed erano stati loro a scoprire il cadavere che giaceva per terra in una stanza del primo piano. La signora James aveva subito riconosciuto la donna del giorno prima. Anche gli impiegati dell'agenzia immobiliare confermavano che si trattava della signora De Castina. Il medico legale dichiarò che la donna era morta da non meno di 24 ore. Il daily budget era subito arrivata alla conclusione che l'uomo della metropolitana aveva ucciso la donna e poi si era suicidato. Tuttavia siccome l'uomo della metropolitana era morto verso le due e la donna era ancora viva alle tre la sola logica conclusione era che si trattasse di due casi che non avevano niente in comune e che il permesso di visitare la villa di Marlow trovati in tasca al morto fosse solo una di quelle coincidenze che a volte si riscontrano nella vita. I giurati avevano emesso un verdetto di omicidio volontario commesso da ignoto o da ignoti e alla polizia e al daily budget rimase il compito di cercare l'uomo vestito di marrone. La signora James era stata perentoria. Non c'era nessuno nella villa quando vi era entrata la signora e nessuno ad eccezione del giovane in questione aveva più messo piede nella villa fino al giorno dopo. Era quindi logico presumere che lui fosse l'assassino della signora De Castina. La donna era stata strangolata con un pezzo di corda nera molto robusta. Era stata colta di sorpresa e probabilmente non aveva neppure avuto il tempo di gridare. La borsetta di seta nera che aveva con sé conteneva un portafogli pieno di biglietti di grosso taglio e un po' di spiccioli. Un bel fazzoletto di pizzo nero senza iniziali e il biglietto di ritorno in prima classe per Londra. Troppo poco per identificarla. Questi particolari pubblicati dal daily budget e l'esortazione trovata e l'uomo vestito di marrone erano all'ordine del giorno. Da allora una media di 500 persone al giorno scriveva per annunciare di essere sulle tracce dell'assassino e tutti i giovanotti alti dalla faccia abbronzata maledirono il giorno in cui si erano lasciati convincere dal loro sarto a farsi fare un abito marrone. L'incidente della metropolitana relegata ad una mera coincidenza fu presto dimenticato dal pubblico. Era davvero una coincidenza? Non ne ero sicura. Ero senza alcun dubbio prevenuta poiché consideravo un po' mio l'incidente della metropolitana e il mistero che lo circondava ma mi sembrava che tra le due morti ci dovesse essere un certo legame. In entrambi i casi appariva un misterioso uomo abbronzato evidentemente un inglese che viveva all'estero ma c'erano tanti altri dettagli. Fu proprio riflettendo su questi ulteriori indizi che mi sentì costretta a fare un passo che io stessa considerai piuttosto ardito. Mi presentai a Scotland Yard e chiesi di vedere il funzionario che era incaricato delle indagini sul caso di Milhouse. Ci volle un po' di tempo prima che capissero la mia richiesta poiché mi ero inavvertitamente rivolta all'ufficio degli oggetti smarriti ma alla fine fui accompagnata in un piccolo ufficio e presentata all'ispettore Middowes. L'ispettore Middowes era un uomo di bassa statura con un inverosimile testa di capelli rossi e in modi che trovai subito notevolmente irritanti. Seduta modestamente in un angolo della stanza vestita in borghese c'era un'altra persona. Buongiorno dissi nervosamente. Buongiorno accomodatevi per favore. Se ho ben capito avete qualcosa da dirmi che secondo voi potrebbe esserci utile. Il tono sembrava sottintendere che questo fatto fosse assai poco probabile. Sentì salire la mia irritazione. Voi sapete naturalmente tutto sull'uomo che è morto nella metropolitana, vero? L'uomo che aveva in tasca il permesso per visitare la villa di Marlow. Ah! esclamò l'ispettore. Voi siete la signorina Beddyfield. Avete deposto all'inchiesta. Sì certo, quell'uomo aveva in tasca il permesso di cui parlate. Come lo avranno avuti molto altri? Soltanto che gli altri non sono morti. Raccolsi le mie forze. Non vi è sembrato strano che quell'uomo non avesse in tasca il biglietto della metropolitana? Niente di più facile che perdere un biglietto. È capitato anche a me. Non aveva denaro. Abbiamo trovato alcuni spiccioli nella tasca dei pantaloni. Ma non aveva il portafogli. Alcuni uomini non lo portano. Provai a seguire un'altra tattica. Non vi è sembrato strano che il medico non si sia presentata all'inchiesta? Un medico berato di lavoro non sempre trova il tempo di leggere i giornali. È probabile che abbia completamente dimenticato quell'incidente. In effetti, ispettore, voi siete deciso a non trovare niente di strano in questa faccenda. Osservai con voce dolce. Sono inclina a pensare che voi vi siete lasciata coinvolgere troppo da questo caso, signorina Beddingfield. Voi giovani donne siete molto romantiche. Lo so per esperienza e tendete a lasciarvi influenzare dal lato misterioso e strano di una vicenda. Sono un uomo molto occupato. Afferrai l'allusione e mi alzai. L'uomo seduto in un angolo parlò con voce quieta. Forse la signorina vorrà dirci brevemente qual è la sua ipotesi sul caso, ispettore. L'ispettore accettò rapidamente il suggerimento. Sì, certo, signorina Beddingfield, non offendetevi. Avete fatto molte domande e molte insinuazioni. Ora diteci, senza tergiversare, che cosa vi passa per la mente. Rimasi per un attimo incerta tra la mia dignità offesa e lo spasmodico desiderio di esporre la mia teoria. Accantonai la dignità offesa. All'inchiesta avete affermato di essere certa che l'uomo non si era suicidato, vero? Sì, ne sono sicura. L'uomo era spaventato. Perché? Non ero certo io a fargli paura. Forse ha visto qualcuno avvicinarsi a noi sulla piattaforma. Qualcuno che ha riconosciuto. Voi non avete visto nessuno? No, dovetti ammettere. Non ho voltato la testa. Ma in seguito, quando hanno riportato il cadavere sulla piattaforma, un uomo si è fatto avanti e ha esaminato il corpo dichiarando di essere un medico. Niente di strano. Non ero un medico. Cosa? Non ero un medico, ripetei. Come fate a saperlo, signorina Bedinfeld? Non è facile spiegarlo. Durante la guerra ho lavorato in un ospedale e ho visto molti medici esaminare il corpo di un paziente. C'è nel loro atteggiamento una certa insensibilità e destrezza che quest'uomo non aveva. Inoltre un medico, di solito, non cerca il cuore a destra. E quell'uomo lo ha fatto? Sì, non me ne sono accorta subito. Mi sono solo resa conto che c'era qualcosa di inconsueto nel suo modo di fare. Ci ho ripensato quando sono tornata a casa e ho capito perché i suoi gesti mi erano sembrati poco professionali. Mmm, si limitò a commentare l'ispettore tenendo la mano verso la penna. Mentre gli passava le mani sul petto, può aver avuto l'opportunità di prendere tutto ciò che voleva dalle tasche del morto. Non mi sembra probabile, disse l'ispettore. Beh, comunque sia, potreste descrivercelo. Era alto, aveva le spalle larghe, indossava un soprabbito scuro, scarpe e cappello neri. Aveva la barba a punta e portava occhiali cerchiati d'oro. Se gli togliamo il soprabbito, la barba e gli occhiali, ci rimane ben poco per identificarlo, brontolò l'ispettore. Se lo volesse, potrebbe alterare i suoi connotati in pochi minuti e lo farebbe di certo se gli ha vuotato le tasche come sembrate suggerire. Non avevo avuto l'intenzione di suggerire niente del genere, ma da quel momento considerai che l'ispettore era un caso disperato e lo abbandonai alla sua sorte. Non avete altro da dirci? chiese mentre mi alzavo per andarmene. Sì, dissi, e afferrai l'occasione per lanciare una frecciata di commiato. La sua testa era chiaramente brachicefala e non gli sarà facile alterare questo dato somatico. Vidi con piacere l'ispettore Midous, la penna a mezz'aria, rimanere perplesso. Era evidente che la parola brachicefalo lo aveva raccolto di sorpresa. Capitolo quinto. Ancora scossa dall'indignazione, trovai incredibilmente semplice affrontare il passo successivo che avevo già più o meno progettato prima di recarmi a Scotland Yard. E' tenuto in riserva se il colloquio con la polizia non fosse stata abbastanza soddisfacente. Siccome, in realtà, non avevo dubbi che quello incontro fosse stata addirittura un vero e proprio fallimento, mi ci buttai senza esitazione. Quando avevo concepito quel piano, mi ero chiesta se avrei avuto il coraggio di metterlo in esecuzione. Ma spesso, sotto l'impulso della collera, si affrontano situazioni incredibili che si eviterebbero accuratamente se ci si trovasse in condizioni normali. Lord Nasby era il miliardario proprietario del daily budget. Possedeva anche altri giornali, ma il daily budget era certo quello che preferiva e in quanto suo proprietario era famoso in tutte le famiglie del Regno Unito. Pochi giorni prima il giornale aveva pubblicato il resoconto di una giornata del Granduomo. E per questa semplice ragione sapevo esattamente dove trovarlo in quel momento. Era l'ora in cui, comodamente seduto in casa sua, dettava lettere alla sua segretaria. Non ero così sprovveduta da pensare che qualunque giovane donna si fosse presentati in casa sua e avesse chiesto di vederlo sarebbe stata ricevuta e ammessa all'augusta presenza. Ma avevo già provveduta a questo aspetto del problema. Sul vassoio dei biglietti da visita, nell'atrio di casa Fleming, avevo notato il biglietto da visita del marchese di Lohamsley, uno dei più famosi sportivi del Regno. Mi ero impadronita del biglietto da visita, l'avevo accuratamente ripolito con mollica di pane e vi avevo scritto, Per favore, offri alla signorina Bendingfield pochi minuti del tuo tempo. Per un'avventuriera il fine giustifica i mezzi e non è il caso di avere tanti scrupoli. Lo stratagemma funzionò. Un dopo una breve schermaglia si ritirò sconfitto. Riapparve dopo un poco di tempo e mi pregò di seguirlo. Non me lo feci ripetere. Entrai in una stanza molto vasta. Un asteno d'attilografa dal viso spaventato mi passò vicino come un pallido visitatore del mondo degli spettri. La porta venne chiusa e io mi trovai ad affrontare Lord Nasby. Un uomo alto, una testa leonina, un paio di baffi, un addome voluminoso. Chiamai a raccolta coraggio e determinazione. Non era andata là per osservare il suo aspetto. Lui stava già aggredendomi con voce stentoria. Ebbene, che cosa volete? Che cosa vuole Lord Lomsley? Siete la sua segretaria? Accidenti, di che cosa si tratta? Prima di tutto cominciai con tutta la calma e sicurezza di cui ero capace. Permettetemi di dirvi che non conosco Lord Lomsley e lui non conosce me. Ho trovato il suo biglietto da visita nella casa di una famiglia che mi ospita e sono stata io stessa a scrivere quelle poche parole. Era importante che riuscissi a vedervi. Per un lungo momento non fu chiaro se Lord Nasby avrebbe o non avrebbe avuto un attacco di apoplessia. Alla fine inghiottì la saliva un paio di volte e parve riprendersi. Ammiro il vostro sangue freddo, ragazza mia. Ebbene, siete riuscita a vedermi e continuerete a vedermi per un altro paio di minuti, non di più. Mi basterà, gli risposi, e sono certa che sarete interessato. Si tratta del mistero di Mill House. Se avete trovato l'uomo vestito di marrone, scrivete al direttore del giornale. Si affrettò ad interrompere Lord Nasby. Se continuerete ad interrompermi, mi ci vorranno più di due minuti, gli ricordai severamente. Non ho trovato l'uomo vestito che ci riesca. In poche parole gli raccontai l'incidente della metropolitana e le conclusioni a cui ero giunta. Quando ebbi finito, mi chiesi inaspettatamente. Che cosa ne sapete voi di teste brachicefale? Gli parlai di mio padre. Ah, l'uomo delle scimmie. Capisco. Ebbene, dimostrate di avere la testa sulle spalle, ragazza mia. Ma c'è ben poco di consistente, sapete? Niente in pratica su cui indagare. Niente che ci possa servire per ora. Lo so. E allora che cosa volete? Un posto nel vostro giornale per proseguire le mie indagini. Impossibile. Abbiamo già un inviato speciale che ci lavora. Ma io ho la mia speciale conoscenza del caso. Quello che mi avete detto? Oh no, Lord Nasby. Ho naturalmente un asso nella manica. Ah sì, mi sembrato una ragazza intelligente. Di che cosa si tratta? quel cosiddetto medico si allontanò quasi insieme a me ed entrò nell'ascensore lasciando cadere un foglietto di carta. Lo raccolsi. Odorava di naffitalina, come l'uomo morto. Il medico non emanava lo stesso sentore. Questo mi ha fatto subito capire che lo aveva sottratto al cadavere. Ci sono scritte alcune parole e delle cifre. Fatemelo vedere. Lord Nasby tese la mano con simulata indifferenza. Preferisco di no, ribattei sorridendo. La scoperta è mia, mi capite, vero? Ho avuto ragione a dire che siete una ragazza intelligente. Fate bene a non lasciarvi privare del vostro indizio. Non vi sentite in colpa per non averlo fatto vedere alla polizia? Sono andata stamane a Scotland Yard con l'intenzione di consegnarlo. Ma si sono mostrati così insistentemente sicuri che l'incidente non avesse niente a che fare con il delitto di Marlow che, viste le circostanze, mi ritengo ampiamente giustificata per non aver mostrato il foglietto. Inoltre, l'ispettore Meadows mi ha praticamente congedata facendomi capire che era meglio dimenticassi tutto quello che sapevo del caso. Piuttosto corto di mente, lo ammetto. Ebbene, ragazza mia, ecco ciò che posso fare per voi. Continuate a seguire la vostra pista. Se riuscirete a trovare qualcosa, qualunque cosa che possa essere pubblicata? Mandatemela e vi offrirò un'opportunità, statene certa. C'è sempre posto al daily budget per chi ha talento, ma prima dovete darvi da fare, capito? Lo ringraziai e gli chiesi scusa per lo cartagemma che avevo usato per arrivare sino a lui. Non ne parliamo più. Mi fa piacere che una bella ragazza sappia mostrarsi intraprendente. A proposito, mi avete chiesto due minuti e ne avete usati tre, comprese le mie interruzioni. Niente male per una donna. Lo dovete sicuramente alla vostra istruzione scientifica. Capitolo sesto. Tornai a casa esultante. Il mio stratagemma aveva avuto un successo che andava al di là delle mie più rose aspettative. Lord Nasby mi aveva trattata con molta gentilezza e ora stava solo a me di dar prova della mia intelligenza. Per usare la sua stessa espressione dovevo darmi da fare. Non appena mi ritrovai chiusa in camera, presi in mano il prezioso foglietto e lo esaminai attentamente. Era la chiave del mistero. Che cosa rappresentavano quelle cifre? Erano cinque e c'era un punto che separava le prime due dalle altre. diciassette, centoventidue, mormorai. Non mi ispirava niente. Poi feci la somma delle cifre, l'ho letto nei romanzi. A volte porta a deduzioni sorprendenti. Uno più sette fa otto, più uno fa nove, più due fa undici, più due fa tredici. 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 Si trattava forse solo di un avvertimento che ricevevo di non occuparmi più della faccenda? Comunque fosse, tranne che come avvertimento, il risultato appariva assolutamente inutile. Mi rifiutavo di pensare che nella realtà un cospiratore o un criminale avrebbe scelto quel sistema per scrivere il numero tredici. Se voleva scrivere tredici lo avrebbe fatto. Fra l'uno e il due c'era uno spazio. Allora pensai di sottrarre ventidue da centosettantuno. Il risultato che ottenni fu centocinquantanove. Rifeci il calcolo e ottenni cento quarantanove. Tutte queste operazioni di matematica rappresentavano certamente un eccellente esercizio mentale, ma non servivano affatto a chiarire il mistero. Abbandonai la matematica senza nemmeno ricorrere alle altre due operazioni, la moltiplicazione e la divisione. Mi dedicai alle parole. Kilmorden Castle. Qui almeno c'era un'informazione ben definita. Si trattava di un'antica dimora. Probabilmente la culla avita di una famiglia aristocratica. Un erede scomparso, un pretendente al titolo. Oppure era una rovina pittoresca. Allora c'era forse un tesoro nascosto? Sì, tutto considerato, propendevo per l'ipotesi di un tesoro nascosto. Un passo a destra, sette passi a sinistra, scavare per una trentina di centimetri, scendere ventidue passi. Un messaggio del genere su cui avrei lavorato in seguito. Si trattava ora di localizzare Kilmorden Castle. Feci un'uscita strategica dalla mia camera e vi tornai con alcuni libri da consultare. Il Guaitaker, il Gazettir e l'annuario dei castelli di Scozia. Il tempo passo veloce. Compì una ricerca a tappeto con tutta la diligenza di cui ero capace. Ma sentendo via via salire in me una sorda irritazione. Alla fine delusa, chiusi con un tonfo l'ultimo libro. Kilmorden Castle non sembrava esistere. Mi trovavo di fronte ad un ostacolo inatteso. Eppure doveva esserci un posto che portava quel nome. Perché mai qualcuno doveva inventarlo e poi scriverlo su un foglietto? Assurdo. Mi venne un'idea. Forse Kilmorden Castle era il nome pretenzioso inventato da un proprietario pieno di boria e appioppato a una qualche orrenda villa dei sobborghi. Se così fosse, non mi sarebbe stato molto facile individuarla. Mi accovacciai sui talloni. Mi siedo sempre per terra quando mi devo concentrare su un problema importante. E riflettei a lungo su come procedere. C'era forse un'altra via da seguire? Meditai a lungo e poi balzai in piedi tutta felice. Naturalmente dovevo recarmi sulla scena del delitto. Così fanno tutti i bravi investigatori. E anche se ci vanno con molto ritardo, riescono sempre a trovare qualche indizio sfuggita alla polizia. Era chiaro. Doveva andare a Marlow. Come entrare in quella villa? Scartai tutta una serie di sistemi avventurosi e preferì ricorrere alla più noiosa praticità. Mill House era da affittare e molto probabilmente era ancora vuota. Bastava che mi presentassi come un'eventuale inquilina. Mi rivolsi ad un'agenzia di secondaria importanza sperando che non avesse molte case da offrire. Qui ebbe a che fare con un impiegato pieno di buona volontà che mi illustrò una mezza dozzina di abitazioni gradevoli e mi ci volle tutta la mia fervida fantasia per trovare difetti e inconvenienti a tutte le sue offerte. giunta alla fine delle mie argomentazioni pensai di aver fallito nell'impresa. Tentai ancora una volta non avrete proprio nient'altro? Chiesi fissando con sguardo patetico il povero impiegato. Una casa sul Tamigi con un grande giardino e una piccola portineria, aggiunsi, riassumendo tutto ciò che avevo letto sui giornali a proposito di Mill House. Beh, ci sarebbe la casa di Sir Eustace Pedler, disse il poveretto con tono dubbioso. Si tratta di Mill House. Non dove? Dissi quasi balbettando. Balbettare stava diventando una delle mie specialità. Sì, proprio quella dove è stata assassinata una donna. Forse non vi piacerà. Non credo che mi importerebbe, dissi, fingendo di radunare tutto il mio coraggio. Pensai di dover sottolineare in qualche modo la mia buona fede. Quindi aggiunsi esitante. Forse mi sarà possibile averla per meno, date le circostanze. Un tocco da maestro, pensai. Può darsi. è inutile pretendere che sia facile affittarla ora. Lo capite. C'è oltre a tutto anche il problema della servitù. Se dopo averla vista vi interesserà, vi consiglio, signorina, di fare voi stessi un'offerta. Volete che vi rilasci un permesso di visita? Sì, grazie. Mezz'ora dopo ero davanti alla portineria di Milhouse. In risposta al colpo leggero sul pannello di legno, la porta si spalancò e una donna alta, di mezza età, ne uscì come un bolide. nessuno può entrare in casa. Lo volete capire? Sono stufa di voi giornalisti. Si Reustasa ha dato ordine. Mi sembrava di aver capito che la casa era da affittare, risposi freddamente, mostrando il mio permesso. Naturalmente, se l'avete già data via. Mi scusi tanto, signorina, ma sono stata talmente assillata dai giornalisti. Non un minuto di pace. No, la casa non è stata ancora affittata, ed è poco probabile che lo sia ormai. Perché? L'impianto idrico non è in buono stato, forse? Chiesi in un sussurro allarmato. Oh no, signorina, l'impianto idraulico è in perfette condizioni. Ma avrete sicuramente saputo di quella signora straniera che è stata assassinata qui, vero? Mi sembra di averlo letto sui giornali, dissi con tono distaccato. La mia indifferenza urtò la brava donna. Se avessi mostrato un benché minimo interesse, si sarebbe chiusa come un'ostrica. La mia aria non curante diede invece la stura alle sue confidenze. Certo che lo avete letto. C'era su tutti i giornali. Il daily budget sta ancora dando la caccia all'uomo che l'ha uccisa. Secondo quanto dicono loro, i nostri poliziotti non valgono niente. Spero proprio che lo acciuffino. Per quanto non possa negare che si trattava di un gran bel giovane. Aveva un po' l'aspetto di un militare e direi anche che deve essere stato ferito in guerra. Lo sapete che a volte dopo diventano un po' strani e vanno fuori di testa. Così è successo a mio nipote, il figlio di mia sorella. Forse quella donna lo avrà trattato male. Anche se mi era sembrato una bella signora. L'ho vista benissimo. Se ne stava lì in piedi dove state ora voi. Era biondo bruna, mi azzardai a chiedere. Non lo si capiva dalla foto sui giornali. Capelli neri e pelle bianchissima. Troppo bianca per essere naturale, ho subito pensato. E poi tutto quel rossetto dava alle sue labbra una piega crudele. Troppo truccata. Non mi è piaciuta affatto. Non che sia contraria ad un po' di cipria di tanto in tanto, sapete? Stavamo ormai conversando come due vecchie amiche. Mi permiso un'altra domanda. Vi è sembrato che fosse nervoso o preoccupata? Per niente. Sorrideva tranquillamente tra sé. Come se pensasse a qualcosa che la divertiva. E' per questo che sono rimasta stravolta il giorno dopo quando sono venuti a dirmi di chiamare la polizia perché una donna era stata assassinata. Non riuscirò mai a riprendermi del tutto. Non metterò più piedi in quella casa, di notte, nemmeno per tutto l'oro del mondo. E non sarei certo rimasti in questa portineria se Sir Eustace non mi avesse supplicato in ginocchio di non andarmene. Mi era sembrato di capire che Sir Eustace si trovasse a Cannes. E lo era, infatti. E' rientrata a Londra quando ha saputo del delitto. E quando vi ho detto che mi ha supplicato in ginocchio, lo ha fatto per modo di dire. In realtà il suo segretario, il signor Padgett, mi ha offerto un salario doppio per farmi rimanere. E come dice John, il denaro è sempre denaro, specie di questi tempi. Approvai con tutto il cuore l'opinione non troppo originale di John. Il giovanotto, invece, proseguì la signora James, tornando improvvisamente all'argomento precedente delle loro conversazioni. Lui mi è sembrato turbato. I suoi occhi, occhi chiari, l'ho notato, brillavano in modo inconsueto. Mi è sembrato sovrecitato. Ma non mi sarei mai sognata di supporre che sarebbe successo un fatto così grave. Neppure quando è tornato per darmi le chiavi e l'ho vista ancora più strano. Quanto tempo si è fermato nella villa? Oh, non molto, forse cinque minuti. Era molto alto, un metro e ottanta. Direi di sì. Aveva le guance rasate, vero? Sì, signorina. Non aveva nemmeno quei baffetti che si usano ora a forma di spazzolino da denti. Avete notato se il mento era lucido? Le chiesi, spinta da un impulso improvviso. La signora James mi fissò stupita. Ora che me lo dite e che ci penso, è vero. Aveva il mento lucido. Come avete fatto a saperlo? È un fatto curioso. Spesso gli assassini hanno il mento lucido. Mentì spudoratamente. La signora James accettò fiduciosa la mia assurda spiegazione. Non l'avevo mai sentito dire. Avete notato che tipo di testa avesse? Una testa come tutte le altre, signorina. Volete che vada a prendervi le chiavi? Accettai la proposta e mi diressi poco dopo verso Miller House. Mi sembrava di aver fatto un buon lavoro. Mi ero subito resa conto che la differenza tra l'uomo descritto dalla signora James e il mio medico della metropolitana non era essenziale. Un soprabbito, una barba, un paio di occhiali cerchiati d'oro. Il medico mi era sembrato un uomo di mezza età, ma avevo anche ricordato che quando si era inginocchiato vicino al cadavere, i suoi movimenti agili che denunciavano giunture piuttosto giovani mi avevano dato l'impressione che non fosse poi così anziano. La vittima dell'incidente, l'uomo della naftalina, come avevo preso l'abitudine di chiamarlo, e la donna straniera che si faceva chiamare signora de Castina, avevano probabilmente un appuntamento a Mill House. Così almeno collegavo i due delitti. Forse perché temevano di essere sorvegliati, forse per un'altra ragione che non mi riusciva di intuire, avevano scelto il metodo piuttosto ingegnoso di farsi dare tutti e due un permesso per visitare Mill House. Il loro incontro sarebbe sembrato sfortunio. Che l'uomo della naftalina avesse improvvisamente e inaspettatamente visto il medico e che si fosse spaventata a morte era un altro fatto di cui ero sicura. Che cosa era successo in seguito? Il medico si era tolto il suo travestimento e aveva seguito la donna sin a marlo. Ma era possibile che qualche traccia di colla gli fosse rimasta sul mento. Questo era il sospetto che mi aveva spinto a fare quella domanda alla signora James. Immersa in questi pensieri raggiunsi la vecchia porta d'ingresso di Mill House. L'aprì con la chiave che mi era stata consegnata ed entrai. L'ingresso buio aveva il soffitto basso. C'era un odore di muffa e di abbandono. rabbrividì. Mi chiesi se la donna che era entrata là dentro sorridendo a se stessa pochi giorni prima avesse provato un senso di premonizione. Chissà se quel sorriso si era raggelato sulle sue labbra truccate e un terrore senza nome aveva stretto il suo cuore in una morsa. Forse invece era salita al primo piano continuando a sorridere. Ignara del terribile destino che l'ala aspettava. Il mio cuore si mi sa battere disordinatamente. La casa era vuota? Stava andando anch'io verso un destino fatale? Per la prima volta compresi il significato di una parola troppo sfruttata. Atimosfera. In quella casa c'era in effetti un'attimosfera pesante, carica di crudeltà, di minaccia, di malvagità. Capitolo settimo. Scuotendomi di dosso le paure che mi opprimevano salì al piano superiore. Non mi fu difficile trovare la stanza dove si era verificata la tragedia. Il giorno in cui era stato scoperto il cadavere aveva piovuto abbondantemente e un numero imprecisato di scarponi infangati aveva percorso in lungo e in largo il pavimento nudo della stanza. Mi chiesi se il giorno precedente anche l'assassino avesse lasciato delle impronte. Se così era stato mi resi anche conto che la polizia si sarebbe mostrata reticente nell'ammetterlo. Però ripensandoci decisi che era poco probabile. Quel giorno il tempo era stato particolarmente secco e gradevole. Non c'era niente di interessante nella stanza quasi quadrata. Due grandi finestre si aprivano sulla parete che dava sul giardino. Le altre pareti erano bianche e il pavimento nudo mostrava ancora il segno che vi aveva lasciato un grande tappeto. Compì un accurato sopra l'uovo ma non trovai assolutamente niente, nemmeno uno spillo. La giovane intelligente detective non pareva avere alcuna possibilità di scoprire un indizio rimasto negletto. Avevo portato con me un tacquino e una matita. Non c'era praticamente niente da annotare. Eppure schizzai accuratamente una pianta della stanza tanto per mascherare la mia delusione e il totale fallimento della mia iniziativa. Mentre stavo tentando di rimetterla nella borsetta la matita mi cadde di mano e rotolò sul pavimento. Mill House è una casa molto vecchia e i pavimenti non erano perfettamente piani. La matita continuò a rotolare quasi aumentando di velocità e si fermò ai piedi di una delle finestre sotto la quale c'era una specie di armadietto. L'armadietto era chiuso ma mi balenò d'improvviso il pensiero che se fosse stata aperto la mia matita sarebbe rotolata all'interno. Apri l'anta e infatti la mia matita ruzzolò nel ripostiglio e andò a fermarsi nell'angolo più recondito. Mi chinai per raccoglierla notando che sia per mancanza di luce sia per la forma peculiare dell'armadietto nessuno avrebbe potuto vederla e per recuperarla potevo solo procedere a tentoni. Dentro l'armadietto vi era solo la mia matita ma essendo molto meticolosa per natura pensai di esaminare anche l'armadietto sotto l'altra finestra. A un primo esame mi sembrò che fosse completamente vuoto ma preferì perseverare nella mia ricerca e fui ricompensata quando avvertì sotto la mano un rotolino rigido che giaceva in una sorta di depressione nell'angolo più lontano dell'armadietto. Non appena lo ebbi in mano capì subito di cosa si trattava. Era una pellicola fotografica Kodak. Naturalmente poteva essere una vecchia pellicola che era appartenuta a Sir Eustaz Pedler ed era rimasta in fondo al ripostiglio quando la casa era stata svuotata per darla in affitto ma non mi sembrava probabile. La carta rossa che avvolgeva il rotolo pareva troppo nuova ed era appena coperta da un leggero strato di polvere come se fosse lì solo da due o tre giorni cioè da quando era avvenuto il delitto. Se fosse stata là dentro da molto tempo sarebbe apparsa molto più sudicia. Chi l'aveva lasciata cadere? La donna oppure l'uomo? Ricordai che il contenuto della borsetta della vittima non sembrava essere stato toccato. Se la borsetta si fosse aperta durante la lotta della donna contro il suo aggressore anche altri oggetti, e sicuramente alcuni spiccioli si sarebbero sparpagliati per terra. No, non era stata la donna a perdere la pellicola. Annusai l'aria e mi venne un sospetto. Possibile che l'odore della naftalina fosse diventato per me un'ossessione? Avrei giurato che anche la pellicola fotografica ne fosse impregnata. L'avvicinai cautamente alle narici. La pellicola aveva naturalmente un suo particolare odore un po' acre, oltre al quale però riuscì ad avvertire distintamente anche quell'altro sentore che non mi piaceva affatto. Scoprì presto la causa. Un sottile filo di stoffa di lana era rimasto impigliato nella carta e odorava di naftalina. La pellicola era quindi rimasta per un certo lasso di tempo nella tasca del cappotto dell'uomo che era morto nella metropolitana. Era stato lui a perderla in quella stanza? Improbabile. La polizia aveva scrupolosamente ricostruito tutti i suoi movimenti. No, a perderla era stato l'altro uomo, il medico. Aveva preso la pellicola come si era impadronito del foglietto che avevo ritrovato. Era lui che l'aveva persa mentre lottava con la donna uccisa. Avevo trovato un indizio. Avrei fatto sviluppare la pellicola e avrei avuto ulteriori indizi su cui lavorare. Trionfante lasciai la casa, restituì le chiavi alla signora James e mi direi si in fretta verso la stazione. Durante il tragitto che mi riportava in città tirai fuori il mio foglietto e lo ristudiai con molta attenzione. All'improvviso le cifre presero ai miei occhi un ben altro significato. E se si fosse trattato di una data? 17.1.22. Il 17 gennaio del 1922. Ecco cos'era. Che sciocca non averci pensato prima? In tal caso doveva assolutamente trovare dov'era Kilmordennast Castle e dovevo anche affrettarmi poiché eravamo già il 14 gennaio. Mancavano solo tre giorni. Troppo pochi. provai un certo senso d'apprensione. Che speranze potevo nutrire, specie considerando il fatto che non sapevo dove indirizzare le mie ricerche? Era troppo tardi ormai per andare a fare sviluppare la pellicola fotografica. Mi affrettai a tornare a casa per non giungere in ritardo per la cena. Mi venne in mente che non sarebbe stato difficile controllare almeno in parte le mie deduzioni e domandai all'avvocato Fleming se tra gli oggetti lasciati dal morto non avessero trovato una macchina fotografica. Sapevo che si stava interessando al caso e che era al corrente di tutti i particolari. Fui sorpresa e delusa quando affermò con sicurezza che non si era mai parlato di una macchina fotografica. Tutti gli effetti personali di Carton erano stati accuratamente esaminati nella speranza di un indizio che potesse far luce sui suoi progetti e sul suo stato mentale. L'avvocato Fleming ne era sicuro. Nel bagaglio del morto non era stata trovata una macchina fotografica. Questa affermazione assestava un duro colpo alla mia teoria. Se non avevo una macchina fotografica perché mai avrebbe dovuto avere in tasca una pellicola? Il mattino seguente uscì di casa molto presto per andare a portare la pellicola a sviluppare. Mi premeva di avere delle buone copie per cui decisi di recarmi in Regent Street e di indirizzarmi direttamente al negozio della Kodak. Consegnai il rullino e chiesi una copia di ogni fotografia. Il commesso finì di radunare un mucchio di pellicole inserite in piccole custodie cilindriche in metallo giallo usate per proteggere la pellicola nei climi tropicali e prese quella che gli tendevo. Mi guardò. Vi siete sbagliata signorina disse sorridendo. Oh no dissi sono sicura di non aver fatto alcun errore. Mi avete portato la pellicola sbagliata insistette. Questa non è stata adoperata. Me ne andai facendo appella tutta la dignità che fu in grado di chiamare in aiuto. Forse salutare essere di tanto in tanto confrontati con la propria idiozia ma sono lezioni che non piacciono a nessuno. Poco dopo mentre passavo da Gvanti a una grande agenzia di viaggi mi fermai di botto. Nella vetrina troneggiava il modellino molto bene eseguito di uno dei piroscafi più moderni. Vanto di una famosa linea di navigazione. Il piroscafo si chiamava Kilmorden Castle. Un'idea pazzesca mi balenò in mente. Entrai senza esitare un attimo. Mi avvicinai al banco e con voce balbettante e questa volta non dovetti fingere mormorai. Il Kilmorden Castle parte il diciassette da Sud Hampton per Città del Capo. Prima o seconda classe? Quanto costa? La prima classe 86 sterline. Interruppi l'impiegato. Che eccezionale coincidenza. Non potei evitare di pensare che si trattasse della mano del destino. Era esattamente l'ammontare della mia eredità. Decisi di rischiare il tutto per tutto. Mi ero finalmente lanciata nell'avventura. Capitolo ottavo. Brano estratto dal diario di Sir Eustaz Pedler, membro del Parlamento. Sembrerà inverosimile ma non riesco mai ad avere un momento di pace. Sono un uomo a cui garba la vita tranquilla. Mi piace andare al club, mi piace giocare a brigio, mangiare bene e gustare un buon bicchiere di vino. Mi piace l'Inghilterra d'estate e la costa azzurra d'inverno. Non desidero assolutamente essere coinvolto in avvenimenti sensazionali. Anche se a volte, seduto davanti ad un cammino acceso, il giornale in mano, mi abbandona la lettura di fatti di cronaca nera. Questo però è il massimo del coinvolgimento a cui mi va di arrivare. Il solo vero scopo della mia vita è di assicurarmi un'esistenza confortevole. Per raggiungerlo ho dedicato molto del mio impegno intellettuale e certamente un considerevole ammontare di denaro. Non mi è possibile affermare di esserci sempre riuscito. Se a me personalmente non succede quasi mai niente che possa turbare la mia tranquillità, vicino a me, di frequente, avvengono fatti in cui spesso mi trovo coinvolto contro la mia volontà. Questo lungo preambolo perché Guy Paget è venuto stamane a svegliarmi con un telegramma in mano e una faccia triste e immota come se si apprestasse ad andare ad un funerale. Guy Paget è il mio segretario. È un giovane premuroso, zelante, strenuo lavoratore. A tutti gli effetti un essere ammirevole. Non conosco nessuno che mi annoi quanto lui. È da molto tempo che mi sto spremendo le meningi per trovare il modo di liberarmene. Ma come licenziare un segretario perché preferisce all'ozio il lavoro, perché si alza presto al mattino e perché non ha praticamente nessun vizio? Di divertente questo povero ragazzo ha solo la faccia. Una faccia da avvelenatore. Guy Paget sembra essere uno di quei mercenari che i borgia soldavano per compiere i loro misfatti. Credo che in fondo finirei con il riuscire a sopportarlo se quel giovane non pretendesse di fare lavorare anche me. Secondo me il lavoro dovrebbe essere affrontato con una buona dose di allegria e dispensieratezza. Insomma, senza mai prenderlo veramente sul serio. Dubito che Guy Paget abbia mai affrontato niente in tutta la sua vita con questo particolare atteggiamento scherzoso. Prende tutto terribilmente sul serio ed è per questo che non è facile vivere vicino a lui. La settimana scorsa ebbi la brillante idea di mandarlo a Firenze. Parlava sempre di Firenze e di quanto gli sarebbe piaciuto visitarla. Mio caro ragazzo, gli dissi, partite domani per l'Italia e visitate Firenze. Pago io tutte le vostre spese. Gennaio non è il mese più adatto per godere delle bellezze di Firenze, ma questo non era un particolare che potesse trattenere il mio paggetto. Lo potevo immaginare andare in giro con la guida in mano. Visitare devotamente musei, chiese e conventi. In quanto a me non mi sembrò di pagare molto una settimana di libertà. Ed era stata una settimana bellissima. Avevo fatto tutto ciò di cui avevo voglia e niente di tutto ciò che non mi garbava. Tutto finì purtroppo quel mattino quando socchiudendo appena gli occhi avevo intravisto paggetto in piedi tra me e la luce che filtrava dalla finestra ancora chiusa. Allora antelucana delle nove del mattino. E mi resi conto che era finita la mia settimana di libertà. Mio caro ragazzo, gli dissi, c'è già stato il funerale o lo hanno rimandato alla tarda mattinata? Pagget è impermeabile a qualunque tentativo di ironizzare sui fatti della vita. Mi cosa dovrei avere già saputo? Ribattei irritato. Dall'espressione della vostra faccia direi che un vostro parente stretto dovrà essere tumulato stamane. Pagget finse per quanto gli fu possibile di non afferrare la mia battuta. Mi pareva infatti poco probabile che voi aveste già avuto la notizia, disse mostrando il telegramma. Lo so che non gradite di essere svegliato così presto ma sono già le nove. Pagget insistette come se per lui le nove del mattino significassero la mattinata inoltrata e ho pensato che date le circostanze e di nuovo mostrò il telegramma. Che cosa avete lì? Gli chiesi. È un telegramma spedito dalla polizia di Marlow. Una donna è stata assassinata nella vostra casa. La notizia mi irritò profondamente. Che insolenza! Esclamai. Nella mia casa? E chi l'ha uccisa? Non lo dicono. Immagino che partiremo subito per l'Inghilterra. Si Reustas. Non è proprio il caso. Perché diamine dovrei tornare in Inghilterra? La polizia. Cosa centro io con la polizia? Beh, il delitto è avvenuto nella vostra casa. Mi pare che questo dettaglio rappresenti per me un inconveniente ma non una mia colpa. Guy Paggett scosse la testa tristemente. Avrà un effetto disastroso in Parlamento, commentò in tono lugubre. Non capivo per quale ragione dovesse avere quell'effetto disastroso che sembrava paventare. Eppure intuivo che in questioni del genere l'istinto di Paggett vedeva sempre giusto. Esaminando attentamente la situazione, non c'è ragione di credere che un membro del Parlamento non sia in grado di fare il suo dovere perché una donna va a farsi uccidere in una delle sue case sfitte. Ma non si può mai sapere che atteggiamento assumerà il pubblico inglese in circostanze del genere. La donna è anche una straniera e questo peggiora la situazione. Proseguì Paggett sempre più cupo. E di nuovo dovetti ammettere che aveva ragione. Se è già disdicevole che una donna venga assassinata in casa vostra, lo scandalo cresce se si tratta di una straniera. Poi fui colpito da un'altra idea. Santo cielo! Esclamai. Non vorrei che Caroline ne fosse rimasta sconvolta. Caroline è la mia cuoca ed è anche incidentalmente la moglie del mio giardiniere. Che tipo di moglie sia non lo so proprio, ma possa affermare che è una cuoca straordinaria. James, suo marito, non vale niente come giardiniere e mi sono rassegnata a sopportare la sua pigrizia e gli permetto di alloggiare nella portineria di Mill House unicamente per assicurarmi l'abilità culinaria di Caroline. Non credo che vorrà rimanere dopo ciò che è successo, disse Paggett. Siete sempre il solito ottimista, Paggett, ribattei esasperato. Mi toccherà tornare in Inghilterra. Paggett me lo sta imponendo senza mezzi termini. E inoltre dovremo trovare il modo di tranquillizzare Caroline e convincerla a rimanere. Tre giorni dopo. Mi sembra sempre incredibile che chi si può permettere di abbandonare l'Inghilterra d'inverno non lo faccia. Il clima è abominevole. Questa faccenda è molto seccante. L'agente immobiliare afferma che dopo tutta la pubblicità data dal delitto sarà quasi impossibile affittare Mill House. Caroline si è lasciata convincere a rimanere raddoppiandole la paga. Per giungere a questo stesso risultato sarebbero bastati un paio di telegrammi mandati da Canna. In effetti, come ho sempre detto, non c'era alcuna ragione di tornare in Inghilterra. Domani ripartirò immediatamente. Un giorno dopo. Sono successi molti fatti sorprendenti. Ieri ho incontrato Augustus Milray, il più perfetto esemplare di Somaro che il governo sia riuscito a selezionare. I suoi modi erano improntati a un'aria misteriosa da agente segretissimo. Quando mi ha tratto in disparte in un angolo della sala del nostro club. Mi ha parlata a lungo del Sudafrica e della situazione industriale di quel paese. Si è soffermato sulle voci che correvano riguardo ad un eventuale sciopero generale nel RAND e sulle ragioni segrete che erano la vera causa per cui quello sciopero sarebbe stato attuato. Lo ascoltai con tutta la pazienza di cui ero capace. Alla fine ha abbassato la voce in un sussurro e mi ha spiegato che erano stati trovati alcuni documenti, anch'essi segretissimi, e che bisognava assolutamente consegnarli direttamente nelle mani del generale Smat. Non ho dubbi che voi abbiate ragione, gli dissi, dissimulando a malapena uno sbadiglio. Ma come farglieli recapitare? Vedete, mio caro, la nostra è una posizione molto delicata. Perché non provate ad usare le poste del regno? Gli chiesi scherzosamente. Mettete un francobollo adeguato sulla busta e buttatela nella prima buca che vi capiterà a tiro. Mi sembrò oltraggiato dal suggerimento. Mio caro Pedler, la posta? Impossibile. Non ho mai capito la ragione per la quale il governo usi questi suoi messi diplomatici che secondo me presentano l'unico vantaggio di attirare l'attenzione sui documenti confidenziali che trasportano. Se non vi garba l'idea di spedirli per posta, perché non mandate uno dei vostri giovani e valenti funzionari del Ministero degli Esteri? Impossibile, esclamò Milwright, scuotendo la testa come un vecchio idiota. Mio caro Pedler, per diverse ragioni, gravissime ragioni, ve lo assicuro. Beh, dissi io alzandomi, è stato molto interessante, ma ora devo andare. Un minuto, mio caro Pedler, un minuto per favore. In confidenza, caro amico, non è forse vero che avete l'intenzione di recarvi tra non molto in Sudafrica? Mi pare che abbiate degli interessi in Rhodesia e che la Rhodesia entri a far parte dell'Unione Sudafricana vi deve sicuramente interessare. Sì, è vero, avevo infatti l'intenzione di partire tra un mese. Non potreste andarci prima? Questo mese? Anzi, questa settimana? potrei. Potrei, certo, dissi guardandolo incuriosito, ma non credo di averne veramente voglia. Rendereste un servizio al governo, ve lo assicuro, e noi ve ne saremmo grati. Questo significa che dovrei fare il postino? Precisamente. La vostra non è una posizione ufficiale. Il vostro viaggio era già stato programmato. Tutto si combina quindi in modo soddisfacente. E va bene, ribattei con voce ancora esistante. Dopotutto, ciò che mi preme ora è di lasciare al più presto l'Inghilterra. Troverete in Sudafrica un clima gradevole. Caro amico, so tutto sul clima sudafricano. Vi ci sono recato poco prima della guerra. Vi sono molto grato, pedre. Vi manderò il pacco mediante un corriere. Lo dovrete consegnare proprio nelle mani del generale Smat. Mi capite, vero? Il Kilmorden Castle parte sabato. Un ottimo piroscafo. Lo accompagnai per un buon tratto di pal balla prima di lasciarlo. Mi strinse cortesemente la mano e mi ringraziò. Tornai a casa a piedi, riflettendo sui sistemi misteriosi usati dai nostri uomini politici. La sera del giorno seguente, Jarvis, il maggiordomo, mi informò che un signore desiderava parlarmi di una faccenda privata, ma si rifiutava di dire il suo nome. Poiché vivo sempre nell'apprensione di essere preso di mira da uno di quegli insopportabili agenti assicurativi, dissi a Jarvis che non aveva alcuna intenzione di riceverlo. Disgraziatamente Guy Padgett, che in questa occasione avrebbe finalmente potuto essermi di aiuto, era a letto in preda ad una crisi di fegato. Questi giovani e strenui lavoratori sono portati ad avere problemi di fegato. Jarvis si tornò a riferire. Sire Eustaz, quel signore mi ha pregato di dirvi che viene da parte del signor Milrei. Ovviamente dovetti cambiare atteggiamento. Pochi minuti dopo ricevetti il mio ospite in biblioteca. Mi trovai davanti un giovane di bell'aspetto dalla faccia abbronzata. Una cicatrice che partiva dall'angolo esterno dell'occhio. Egli attraversava la guancia e gli sfiguravi lineamenti piuttosto belli e incisivi. Che cosa volete, giovanotto? Mi manda il signor Milrei. Ho l'incarico di accompagnarmi in Sudafrica in qualità di segretario. Sire Eustaz. Mio caro ragazzo, ribattei. Ho già un segretario, non me ne serve un altro. Credo proprio che ne abbiate bisogno. Dove si trova il vostro segretario ora? A letto, in preda ad una crisi di fegato. Siete certo che si tratti di una crisi di fegato? Naturalmente ne va soggetto. Il mio ospite sorrise. Può darsi che si tratti di una crisi di fegato. Il tempo ce lo confermerà. Ma vi faccio osservare, Sire Eustaz, che il signor Milrei non sarebbe affatto sorpreso se venisse fatto un tentativo di mettere fuori gioco il vostro segretario. Oh, voi non avete nulla da temere, ha proseguito, poiché suppongo che debba aver notato un'espressione allarmata sulla mia faccia. Non siete direttamente minacciato. Una volta tolto di mezzo il vostro segretario, sarà sicuramente più facile avvicinarvi. Comunque sia, il signor Milrei desidera che vi accompagni. Le spese di viaggio saranno naturalmente al nostro carico. Ma voi dovrete pensare al passaporto. e a tutti gli altri dettagli del viaggio. Proprio come se vi foste accorto della necessità di avere un altro segretario. Sembrava un giovane molto risoluto. Ci siamo fissati a lungo e sono stato io ad abbassare gli occhi. D'accordo, ho mormorato debbolmente. Non dovrete dire a nessuno che vi accompagno. D'accordo, ripetei. Dopotutto forse era meglio avere con me quell'individuo, ma avevo la premonizione che stavo andando ad invischiarmi in una brutta faccenda. E proprio quando invece avevo creduto di aver raggiunto la sospirata pace. Fermai il mio ospite mentre se ne stava già andando. Sarebbe bene che conoscessi almeno il nome del mio nuovo segretario, dissi sarcastico. Dopo un lungo momento di riflessione disse Henry Rayburn mi sembra un nome adatto. Un modo alquanto bizzarro di rispondere. D'accordo, mi limitai a dire per la terza volta. Capitolo nono. Riprende il racconto di Anne. Il mal di mare quanto di più sconveniente possa capitare ad un'eroina. Nei romanzi più la nave rulla e oscilla e ondeggia e più la protagonista pare a suo agio. Quando tutti i passeggeri sono in preda alla nausea, lei da sola avanza barcollando sul ponte, affrontando gli elementi scatenati e godendosi la violenza della tempesta. Mi rincresce ammettere che non appena il Kilmorden Castle cominciò a beccheggiare. Impallidì e mi precipitai sotto coperta dove mi accolse una cameriera comprensiva. Fu lei a suggerirmi la dieta di pane secco e acciuga. Rimasi per tre giorni a soffrire nella mia cabina, dimentica della mia indagine. Non avevo più alcun desiderio di risolvere il mistero dei due delitti. Era un Anne tutta diversa da quella che dopo aver acquistato il biglietto nell'agenzia marittima, si era precipitate sul tante in casa dell'avvocato Fleming. Sorrida ancora quando ripenso al mio brusco ingresso nel salotto. Trovai la signora Fleming ancora da sola. Sentendomi entrare, voltò la testa nella mia direzione. Siete voi, Anne? Ho qualcosa da dirvi. Sì, la interrogai trattenendo la mia impazienza. La signorina Emery ha intenzione di lasciarci. La signorina Emery era la governante. Siccome non siete ancora riuscita a trovare un'occupazione, mi chiedo se vi farebbe piacere. Sarei così contenta se voleste rimanere con noi. Che ne dite? Ne fui commossa. Lo sapevo che non mi voleva per casa. La sua offerta era dettata da pura carità cristiana. Provai un notevole senso di colpa per avere segretamente criticata. Mi alzai d'impulso e corsi ad abbracciarla. Siete molto cara, signora Fleming, esclamai affettuosamente. Molto, molto cara. Grazie. Ma ho già deciso. Parto sabato per il Sudafrica. La mia brusca aggressione sorprese la cara donna. Non era abituata a così improvvise e plateali dimostrazioni d'affetto. Le mie parole la sorpresero ancora di più. Partite per il Sudafrica, mia cara Anna, sarà meglio riflettere a fondo su una decisione del genere. Era proprio quello che non volevo fare. Le spiegai che avevo già fissato il passaggio e che mi proponevo, appena arrivata a Città del Capo, di trovare un lavoro di governante o di dama di compagnia. Fu il solo lavoro che mi venne in mente sul momento. Affermai con una falsa sicurezza che c'era una grande richiesta di governanti nella colonia inglese sudafricana. La rassicurai sul fatto che ero perfettamente in grado di badare a me stessa e alla fine, con un sospiro di sollievo per essersi tolta di torno una presenza imbarazzante, la signora Fleming accettò il mio progetto senza più cercare di discuterlo. Al momento dell'addio mi fece scivolare in mano una busta. Ci trovai cinque banconote nuove da cinque sterlina l'una e un biglietto su cui aveva vergato queste poche parole. Spero che non vi offenderete e accetterete questa somma modesta e tutto il mio affetto. Mi ritrovavo dunque con venticinque sterline in tasca, pronta ad affrontare il mondo e a seguire il mio spirito d'avventura. Il quarto giorno di viaggio la cameriera di bordo mi convinse a salire sul ponte. Sino a quel momento, convinta che sarei morta più rapidamente nella mia cuccietta, non mi ero mossa dalla cabina. Ma lei mi tentò facendomi balenare la possibilità, non appena la nave avesse attraccato a Madera, di scendere a terra. Sentì rinascere in cuore la speranza. Potevo dunque abbandonare quel vascello beccheggiante e andare a cercare lavoro. Ero pronta a tutto pur di mettere piede sulla terraferma. Avvolta nel cappotto e nelle coperte, fui trasportata sul ponte, debole come un gattino appena nato, e depositata come una massa inerte su una sedia a sdraio, dove rimasi ad occhi chiusi, piena di disgusto per la vita. Il commissario di bordo, un bel giovane biondo dalla faccia tonda e infantile, venne a sedersi accanto a me. Salve, ce l'avete con il mondo intero, vero? Sì, risposi bruscamente odiandolo. Tra un paio di giorni non vi riconoscerete più. Abbiamo trovato un mare particolarmente agitato attraversando il golfo di Biscaglia, ma stiamo andando incontro al bel tempo. Domani vi sfida ad una partita al lancio degli anelli. Non gli risposi nemmeno. Pensate di non riuscire più a rimettervi, vero? Eppure ho visto persone in condizioni assai peggiori delle vostre, diventare dopo un paio di giorni gli animatori della vita di bordo. Succederà anche a voi, ve lo assicuro. Non mi sentiva abbastanza in forze per dargli del bugiardo, ma cercai di farglielo capire con uno sguardo agghiacciante. Lui mi parlò ancora gentilmente per alcuni minuti. Poi, per grazia di Dio, se ne andò. La gente passeggiava sul ponte, passando e ripassando davanti a me. Coppie che camminavano con passo sostenuto per fare esercizio, bambini che correvano e giocavano, giovani che ridevano felici. C'erano poi naturalmente alcuni altri, pallidi e smunti convalescenti che, come me, giacevano sulle sedie a sdraio. L'aria era piacevole, frizzante ma non troppo fredda e il sole brillava. Lentamente cominciai a sentirmi meglio. Mi missi ad osservare la gente con più attenzione. Una giovane donna attirò particolarmente la mia attenzione. Aveva più o meno 30 anni, di media statura, biondissima, un viso ovale, due fossette e un paio di occhi azzurri. I suoi vestiti, per quanto semplici, avevano quel taglio particolare e indefinibile che solo a Parigi i sarti sanno dare alle loro creazioni. In modo piacevole ma imperativo sembrava essere la padrona a bordo. I camerieri accorrevano rapidi a ogni suo minimo cenno. Aveva una sedia a sdraio riservata, fornita di un numero inverosimile di cuscini. Cambiava spesso parere su dove voleva venisse sistemata. Eppure, nonostante tutto, rimaneva sempre bella e simpatica. Sembrava essere una di quelle rare creature che sanno ciò che vogliono, fanno in modo di ottenerlo e riescono a farlo senza apparire offensiva. Pensai che se mai fossi guarita mi sarebbe piaciuto conoscerla meglio e chiacchierare con lei. Raggiungemmo Madera verso mezzogiorno. Mi sentivo troppo debole per muovermi, ma mi divertì ad osservare i pittoreschi venditori indigeni che salirono a bordo per offrire la loro mercanzia. C'erano anche fiori, molti fiori coloratissimi. Affondai l'inviso in un mazzo di violette e mi sentì subito molto meglio. Pensai addirittura che forse ce l'avrei fatta a terminare il mio viaggio. Quando la cameriera mi suggerì una tazza di brodo di pollo, protestai solo debolmente. E quando me lo portò, lo gradì molto. La mia simpatica sconosciuta era scesa a terra. Tornò a bordo scortata da un uomo alto dal piglio militaresco e dalla faccia abbronzata, che avevo già notato quel mattino mentre passeggiava sul ponte. A guardarlo mi veniva in mente che così doveva essere l'uomo severo e quieto della Rhodesia. Era sulla quarantina, aveva le tempie appena brizzolate ed era l'uomo più interessante che ci fosse a bordo. Quando la cameriera tornò sul ponte per portarmi un'altra coperta, le chiesi se sapeva chi fosse quella bella giovane donna che aveva risvegliato il mio interesse. È una signora dell'alta società. Si chiama Susan Blair e la moglie del nobiliuomo Clarence Blair. Ne avrete sicuramente sentito parlare. A noi, osservandola con rinnovato interesse. La signora Blair era famosa e la si considerava la donna più elegante del nostro tempo. Notai, divertita, che era al centro dell'attenzione di tutti gli altri passeggeri e che parecchi tentavano di abbordarla approfittando della piacevole mancanza di formalismo che contraddistingue la vita a bordo di un quiroscafo e ammirai la cortesia con cui lei riusciva a tenere tutti a debita distanza. Sembrava aver scelto come cavaliere servente quell'uomo austere e silenzioso che avevo subito individuato e che pareva giustamente sensibile alla grazia che lei che gli era stata concessa. Il mattino seguente, con mia grande sorpresa, Susan Blair, dopo aver fatto un certo numero di giri lungo il ponte insieme al suo premuroso accompagnatore del giorno precedente, venne a fermarsi vicino alla mia sedia a sdraio. Vi sentite meglio stamane? La ringraziai e ammisi che mi parevi in effetti di tornare lentamente a nuova vita. Ieri ci siete sembrata molto grave. Il di un funerale in mare. Ma mi sembra che abbiate la ferma intenzione di deluderci. Risi. L'aria aperta mi ha fatto bene. Non c'è niente di più corroborante di una boccata d'aria di mare, disse sorridendo il colonnello Reis. Rimanere chiusi in cabina ucciderebbe chiunque, dichiarò la signora Blair, lasciandosi cadere sull'asdraio vicino alla mia e congedando il suo accompagnatore con un semplice gesto della testa. Spero che vi abbiano almeno dato una cabina esterna. Scossi la testa. Mia cara ragazza, fatevela cambiare. C'è tanto posto. Molta gente è scesa a Madera e il piroscafo ora è quasi vuoto. Parlatene con il commissario di bordo. È un ragazzo simpatico. Mi ha dato una bellissima cabina perché non mi piaceva quella che mi avevano assegnato. Chiedeteglielo quando scenderete a colazione. Rabbrividi. Non mi posso muovere. Non siate sciocca. Andiamo. Venite a fare due passi con me. Sorrise incoraggiante. Da principio mi sentì debole e insicura ma poi camminando mi rinfrancai e ritrovai le mie forze. Dopo un paio di giri il colonnello Reis ci raggiunse. Dall'altra parte del ponte si vede l'enorme cono del pico d'Eteide, il vulcano più alto dell'isola di Tenerife. Davvero? Credete che potrei fotografarlo? No, è troppo lontano ma questo non vi impedirà di provare, vero? Susan Blair sorrise. Non siete gentile. Alcune delle mie fotografie sono veramente belle. direi che lo sono almeno il 3% di quelle che scattate. Andiamo insieme dall'altra parte del ponte. Lucente, la cima coperta di neve, avvolti in una nebbiolina rosata, si elevava un magnifico pinnacolo roccioso. Mi sfuggì un'esclamazione di sorpresa. La signora Blair corse a prendere la sua macchina fotografica. Incurante dei commenti ironici del colonnello Reis scattò una foto dopo l'altra. Oh, sono giunta alla fine della pellicola, e poi desolata. Accidenti, ho tenuto chiuso l'obiettivo. Mi diverto sempre a vedere una bambina alle prese con un suo nuovo giocattolo, mormorò il colonnello. Siete insopportabile, ma io ho un'altra pellicola. Con aria trionfante la tirò fuori dalla tasca della sua giacca. Un improvviso rullio della nave le fece perdere l'equilibrio, e mentre lei si aggrappava al parapetto per non cadere, la pellicola le sfuggì di mano. Oh, esclamò su Sabler, comicamente sgomenta. Si affacciò al parapetto. Credete che sia caduto in mare? No, sarà probabilmente finito in testa ad uno sfortunato cameriere che passava sul ponte inferiore. Un ragazzino, giunto inosservato alle nostre spalle, soffiò dentro una specie di corno emettendo un mugito. È l'ora di pranzo, dichiarò felice su Sabler. Non ho mangiato niente da stamane. Andiamo a pranzo, signorina Beddinfield? Non so, dissi esitante. In effetti mi sembra di avere un certo appetito. Benissimo. Siete al tavolo del commissario. Lo so. Chiedetegli di assegnarvi un'altra cabina. Scesi in sala da pranzo, cominciai a mangiare svogliatamente e finì per consumare un pasto pantagruelico. Il mio amico del giorno precedente si congratulò per la mia pronta guarigione. Tutti cambiavano cabina quel giorno, mi disse, e mi promise che il mio bagaglio sarebbe stato subito trasportato in una delle cabine che si affacciano sul ponte. Al nostro tavolo, oltre al commissario, c'erano tre altre persone. Due anziane signore e un missionario che non faceva che parlare dei nostri poveri fratelli neri. Mi guardai in giro. La signora Blair sedeva al tavolo del capitano e aveva accanto il colonnello Reis. Dall'altro lato del capitano c'era un signore molto distinto con i capelli grigi. Avevo già visto passeggiare sul ponte molta della gente in sala. Ma lì, al tavolo del capitano, c'era un giovane che di sicuro non avevo mai visto prima. Non mi sarebbe sfuggito. Era alto e bruno. Avevo una faccia dall'espressione così torva e sinistra che ne rimassi colpita. Incuriosita, chiesi al commissario chi fosse. Quell'uomo? Oh, si tratta del segretario di Sir Eustace Pedler. Ha avuto il mal di mare, poveretto. Viene oggi a tavola per la prima volta da quando siamo partiti. Sir Eustace ha con sé due segretari e tutti e due non hanno certo il piede marino. L'altro non si è ancora visto. Questo si chiama Paget. E così Sir Eustace Pedler, il proprietario di Mill House, era a bordo. Una coincidenza? Forse. Eppure Sir Eustace, proseguì il mio informatore, siede vicino al capitano. Un vecchio somarampolloso. Più studiavo la faccia del segretario e meno mi piaceva. Il suo estremo pallore, lo sguardo sfuggente degli occhi semi nascosti dalle palpere pesanti, la testa stranamente appiattita. Tutto di lui contribuiva a darmi una sensazione di apprezzione e di antipatia. Poco dopo lasciai la sala da pranzo quasi contemporaneamente a Sir Eustace e al suo segretario e li seguivo da vicino mentre salivano verso il ponte. L'uomo dalla faccia patibolare stava parlando con il suo datore di lavoro. Afferrai alcune crasi. Vado subito a farmi dare un'altra cabina. Non è possibile lavorare nella vostra. C'è troppo bagaglio. Mio caro ragazzo, gli rispose Sir Eustace, la mia cabina mi deve servire per dormire e per cercare di vestirmi decentemente. Non ho mai avuto l'intenzione di permettervi di usarla per installare quella vostra infernale macchina per scrivere. Né tanto meno di sopportare quel vostro insopportabile e continuo ticchettio. È proprio quello che vi stavo dicendo, Sir Eustace. Dobbiamo trovare un posto adatto per lavorare. A questo punto li abbandonai alla loro sorte e mi recai a sorvegliare il trasloco della mia roba. Trovai il cameriere in piena attività. Una bella cabina, signorina, il numero 13 del ponte D. Oh, esclamai, non il 13. Il 13 è l'unica mia superstizione. La cabina che andai a vedere era molto graziosa e per un attimo rimasi incerta. Ma la mia sciocca superstizione prevalse. Mi appellai quasi in lacrima al cameriere. Non potrei averne un'altra? Ci sarebbe il numero 17, poco più in là, verso Tribordo. Stamane era libera, ma ho l'impressione che l'abbiano già assegnata a qualcuno. Non hanno ancora portato il bagaglio del Signore che ce l'ha richiesta e siccome gli uomini non sono superstiziosi come le donne, non credo che farà il difficile e si opporrà al cambio. Accolsi la sua proposta con un sospiro di sollievo e il cameriere si allontanò per andare a chiedere il nulla a osta del commissario. Tornò tutto sorridente. Va tutto bene, signorina. Possiamo portare lì il vostro bagaglio. Mi precedette e mi accompagnò fino alla cabina numero 17. Non era bella e spaziosa come la numero 13, ma la trovai perfettamente adeguata alle mie esigenze. Vado a prendere il vostro bagaglio, signorina. In quel momento l'uomo dalla faccia patibolare, così lo aveva ormai soprannominato, apparve sulla soglia. Scusatemi, disse, ma questa cabina è stata prenotata per Sireustaz Peidler. Non vi preoccupate, signore, abbiamo già provveduto, gli spiegò il cameriere. Vi stiamo preparando la cabina numero 13. Mi era stata assegnata la numero 17. La 13 è una cabina molto più bella e spaziosa, signore. Ho scelto la numero 17 e il commissario me l'aveva già promessa. Mi dispiace, intervenni freddamente. Ma la cabina numero 17 è stata assegnata a me. Non è possibile. Il povero cameriere provò ad insistere. Signore, l'altra cabina è sicuramente più bella di questa. Voglio la numero 17. Che cosa sta succedendo? Chiesa un'altra voce. Cameriere, mettete qui il mio bagaglio. Questa è la mia cabina. Chi aveva parlato era il missionario, mio vicino di tavola, il reverendo Edward Cicester. Vi chiedo scusa, intervenni. È la mia cabina. È stata assegnata a Sir Eustace Pedler, insistette Paget. Cominciavamo tutti a riscaldarci. Mi dispiace di dovermi impuntare, disse Kicester, con un sorriso mite che non riusciva a mascherare la sua determinazione ad ottenere ciò che voleva. Gli uomini miti sono ostinati. L'ho notato. Si piazzò bloccando la soglia della cabina. Vi è stata assegnata la cabina numero 28, gli disse il cameriere. Una bellissima cabina, signore. Mi dispiace ma devo insistere. La cabina che mi è stata promessa è la numero 17. Eravamo giunti ad un punto morto. Tutti e tre eravamo decisi a non cedere. Per dire la verità, io mi sarei potuta ritirare dalla competizione accettando la cabina numero 28. In fondo non mi importava molto quale cabina mi veniva assegnata. Mi bastava che non fosse la numero 13. Ma ero profondamente irritata e non aveva alcuna intenzione di essere io la prima a cedere. Kicester mi era antipatico. Portava la dentiera e quando masticava sentivo i denti falsi ticchettare. Era insopportabile. Tutti e tre mantenemmo quindi la nostra posizione intransigente. Il cameriere continuava ad insistere che le altre due cabine erano più belle e spaziose. Ma nessuno pareva dargli diretta. Paget cominciava a perdere la calma. Kicester si mostrava fermo e sereno ma irremovibile. Con uno sforzo notevole io riusciva a non mostrare la mia irritazione. Ma nessuno di noi aveva l'intenzione di lasciar perdere. Una strizzatina d'occhio e alcune parole sussurrate dal cameriere mi misero sulla buona strada. Scomparvi furtivamente dalla scena e andai alla ricerca del commissario di bordo. Fui fortunata e lo incontrai subito. Per favore gli dissi. Mi avevate promesso che poteva avere la cabina numero 17. Ma gli altri due, il reverendo Kicester e il signor Paget insistono per averla loro. Me la farete avere, vero? Ho sempre sostenuto che i marinai sono gli uomini più galanti. Il mio giovane commissario si comportò in modo eccezionale. Accorse sul luogo del dissidio e informò i contendenti che la cabina 17 era stata assegnata a me e che loro due potevano scegliere tra la cabina 13 e la 28 oppure rimanere dove si trovavano già. Lasciai che i miei occhi gli dicessero che lo consideravo un eroe e presi possesso del mio nuovo regno. Lo scontro mi aveva fatto bene. Il mare era calmo, il tempo tiepido diventava di ora in ora più clemente. Il mal di mare era ormai solo un lontano ricordo. Salì in coperta e mi iscrissi ai vari giochi che si svolgevano sul ponte. Servirono il tè. Tutti furono straordinariamente gentili con me. Sentì che la vita era tornata a sorridermi. Il mugito che ci chiamava raccolta per la cena mi colse di sorpresa e mi precipitai nella mia nuova cabina. La cameriera con faccia turbata mi stava aspettando. C'è una puzza terribile nella vostra cabina signorina. Non riesco a capire che cosa possa essere. Ma temo che voi non possiate dormire qui. Sarà meglio che vi trasferiate in un'altra cabina, almeno per questa notte. Mi sembra che ce ne sia ancora una sul ponte D. La puzza era veramente insopportabile, nauseante. Dissi alla cameriera che ci avrei pensato mentre mi vestivo. Mi affrettai a prepararmi per la cena respirando con disgusto l'aria mefitica. Che cos'era quell'odore? Un topo morto? No, peggio. Era qualcosa di diverso, qualcosa che già conoscevo. All'improvviso ricordai. Era l'odore ripugnante dell'assa fetida. Durante la guerra avevo lavorato per un po' di tempo nell'ambulatorio di un ospedale. E avevo imparato a riconoscere l'odore dei vari medicinali. Assafetida, ecco cos'era. Ma com'era possibile? Mi lasciai cadere sul divano. Avevo compresa all'improvviso ciò che doveva essere successo. Qualcuno aveva messo un pizzico di assa fetida nella mia cabina. Perché? Perché la lasciassi libera? Perché c'era qualcuno così determinata a farmela lasciare? Ripensai alla scena del pomeriggio da un ben diverso angolo visuale. Che cosa c'era nella cabina 17 che spingeva tanta gente a volerlo occupare? Le altre due cabine erano certamente migliori. Perché allora quei due uomini erano stati così insistenti? Il 17. Un numero che riappariva insistentemente in questi ultimi tempi. Il piroscafo era partito da Sudampton il 17 del mese. Era il 17. Interruppi bruscamente le mie riflessioni con un'esclamazione. Apri rapidamente la valigia e presi il prezioso foglietto che avevo nascosto in fondo ad una calza. Rilessi le cifre. 17 1 22. Avevo pensato che si trattasse di una data. La data di partenza del Kilmorden Castle. E se mi fossi sbagliata? A pensarci bene perché mai qualcuno doveva scrivere una data trovando necessario di metterci anche mese ed anno? E se con il 17 lo sconosciuto avesse voluto segnalare invece il numero della cabina? Che cosa significava l'uno? Un orario? Luna di notte? Allora il 22 era probabilmente la data? Ricorsi al mio piccolo calendario tascabile. Il giorno seguente era il 22. Capitolo decimo. Mi sentì profondamente elettrizzata. Ero finalmente sulla buona strada. Ne ero certa. Non doveva assolutamente lasciare quella cabina. Il puzzo della safetida andava sopportato. Riesaminai i fatti. L'indomani era il 22. E sicuramente a luna di notte o a luna pomeridiana qualcosa sarebbe successo. Erano le sette di sera. Fra sei ore avrei forse saputo tutto. Non so come trascorsi quella serata. Mi ritirai presto nella mia cabina e dissi alla cameriera che siccome ero un po' raffreddata la puzza non mi dava molto fastidio. La poveretta era avvilita ma io fui ferma. Le ore non sembravano passare mai. Mi preparai per andare a letto ma in vista di ciò che poteva succedere indossai una vestaglia di flanella e mi misi le pantofole. Così bardata mi sembrava di essere pronta a tutto. Che cosa sarebbe successo? Non ne avevo idea. Mi passarono in mente fantasie assurde e improbabili. Di una cosa ero certa. All'una qualcosa sarebbe sicuramente successo. Udì i passeggeri raggiungere le cabine vicine. Frammenti di conversazione, allegri commiati, mi giunsero attraverso le pareti sottili. Poi il silenzio. Quasi tutte le luci si spensero. Nel corridoio rimase accesa una lampadina che illuminava appena la mia cabina. Sentì battere la mezzanotte. L'ora che seguì fu la più lunga di tutta la mia vita. Ogni tanto consultavo l'orologio da polso per essere certa di non lasciarmi sfuggire il momento fatidico. Se le mie deduzioni fossero state errate. Se niente fosse successo a l'una voleva dire che mi ero comportata come una sciocca e che avevo rischiato alla roulette tutto il mio capitale sul numero sbagliato. L'angoscia mi faceva battere il cuore. L'orologio di bordo batte l'una. Non successe niente. Un momento. Cosa poteva essere? Un lieve scalpiccio. Qualcuno correva nel corridoio. Poi all'improvviso la porta si spalancò bruscamente e un uomo entrò barcollando nella cabina. Salvatemi, disse con voce rauca. Mi stanno seguendo. Non era il momento di chiedere spiegazioni. Udivo già il rumore di altri passi. Avevo pochi secondi per agire. Ero in mezzo al mio alloggio di fronte allo sconosciuto. Mi affrettai a chiudere la porta. Una cabina di piroscafo non abbonda di nascondigli per un uomo alto più di un metro e ottanta. Con un braccio spostai in avanti il baule. Lui si infilò dietro lo spazio lasciato libero. Sollevai il coperchio del baule e contemporaneamente con l'altra mano calai il lavabbo incassato nella parete. In un secondo sollevai i capelli e li fissai in cima alla testa. Da un punto di vista estetico non mi stavo mostrando nella mia forma migliore. Ma una signora con i capelli trattenuti in un ciuffo poco elegante, sorpresa nell'atto di prendere una saponetta dal suo baule per lavarsi il collo, non avrebbe potuto certo essere sospettata di dare asilo ad un fuggiasco. Bussarono alla porta e senza aspettare che io rispondessi qualcuno l'aprì. Non so che cosa mi aspettassi. Mi ero vagamente immaginata di vedere apparire paggett armato di rivoltella. Ho il mio amico missionario con un sacchetto di sabbia o qualche altra arma letale. Ma non mi aspettavo certo di vedere la cameriera di notte. La faccia preoccupata e un inequivocabile aspetto di grande rispettabilità. Scusatemi signorina, mi è sembrato che avesse chiamato. No, risposi, non vi ho chiamato. Mi dispiace di avervi disturbata. Non preoccupatevi, le dissi freddamente. Non riusciva a dormire. Ho pensato che rinfrescarmi viso e collo mi avrebbe fatto bene. Lo dissi come se si trattasse di una mia abitudine. Mi dispiace, signorina, proseguì la cameriera. C'è in giro un signore che è piuttosto ubriaco e temiamo che gli venga in mente di entrare nella cabina di una donna sola e la spaventi. tremendo, esclamai fingendomi allarmata. Non verrà qui, spero. Oh, non credo, signorina. Suonate il campanello se dovesse farlo. Buonanotte. Buonanotte. L'accompagnai alla porta e ne approfittai per dare un'occhiata al corridoio. Non c'era nessuno. Ubriaco. Tutto il mio talento istrionico sprecati inutilmente. Scostai il baule e con voce acida dissi. Potete uscire ora. Non mi rispose. Guardai con più attenzione e vidi il mio ospite accovacciato e immobile. Sembrava dormire. Gli scossi la spalla. Non reagì. Ubriaco fradicio. Pensai offesa. Che cosa ne faccio? Poi vidi qualcosa che mi fece rimanere senza fiato. Una piccola macchia rossa sul pavimento. Usando tutte le mie forze riusci a trascinare l'uomo in mezzo alla cabina. La faccia mortalmente pallida mi fece capire che era svenuto. E mi fu facile individuare la causa dello sveglimento. Era stato colpito sotto la scapola. Una brutta ferita profonda. Gli tolzi il soprabbito e mi preparai a medicare la ferita. L'acqua fredda lo rianimò. Si mise a sedere. Non muovetevi per favore, dissi. Lo sconosciuto era una di quelle persone che riacquistano rapidamente le loro facoltà mentali. Raccolse le sue forze e riuscì a rialzarsi rimanendo in piedi davanti a me, anche se un po' vacillante. Grazie, non ho bisogno di niente. Aveva modi bruschi e aggressivi. Non mostrava alcuna gratitudine. La ferita è abbastanza grave. Lasciate che ve la medichi. Non è proprio il caso. Mi buttò quelle parole in faccia come se io gli stessi chiedendo un favore. Il mio carattere è tutt'altro che calmo. Quel suo tono mi fece infuriare. Posso solo congratularmi per le vostre buone maniere, gli dissi freddamente. Ma posso liberarvi della mia presenza. e così dicendo si avviò verso la porta e barcollò. Con un gesto brusco lo sospinsi verso il divano. Non fate lo sciocco, gli dissi senza tanti complimenti. Non vorrete andarvene in giro perdendo sangue per tutto il piroscafo, vero? Sembrò accettare il consiglio e rimase seduto quietamente mentre gli medicavo la ferita e la fasciavo come mi era possibile. Ecco fatto, dissi dando un colpetta al mio operato. Questo potrà bastare per ora. Com'è il vostro umore? Siete disposto a raccontarmi ciò che vi è successo? Mi dispiace, ma non posso assolutamente soddisfare la vostra naturale curiosità. E perché? Ribattei mortificata. Mi sorrise villanamente. Se si vuole che un fatto venga risaputo basta dirlo ad una donna. Se invece lo si vuole mantenere segreto è meglio tenere la bocca chiusa. Non mi credete capace di tenere un segreto? Non lo credo, lo so. Si alzò in piedi. Comunque sia, ribattei dispettosa, posso sempre raccontare a destra e a manca ciò che è successo stasera. Non ne dubito che lo farete, rispose indifferente. Come osate? Gli gridai rabbiosa. Eravamo l'uno di fronte all'altro e ci fissavamo con occhi furenti come se fossimo nemici. Per la prima volta potei esaminare attentamente lo sconosciuto. Vidi la testa bruna e i capelli folti. La linea forte della mascella. La cicatrice che gli attraversava la guancia abbronzata. Gli strani occhi grigi che mi fissavano con ironia e distacco, difficili da descrivere. Ero un uomo pericoloso. Non mi avete nemmeno ringraziato per avervi salvato la vita, dissi con finta dolcezza. La mia frase parve colpirlo. Lo vidi chiaramente sussultare. Capì istintivamente che odiava sopra ogni cosa che gli ricordassi che mi doveva la vita. Non me ne importava niente. Volevo ferirlo. Non c'era stato nessun altro nella mia vita che avessi voluto ferire quanto lui. Oddio, quanto avrei voluto che non lo aveste fatto, proruppe con ira. Preferirei esserne definitivamente fuori. Preferirei essere morto. Sono lieta di sentirvi ammettere il vostro debito. Ora potrete sicuramente venirne fuori. Vi ho salvato la vita e pretendo che mi ringraziato. Se lo sguardo potesse uccidere, credo che mi avrebbe volentieri fatto fuori. Mi respinse bruscamente. Giunto alla porta, mi disse al di sopra della spalla, senza quasi voltarsi. Non vi ringrazierò né ora né mai, ma riconosco il mio debito. Un giorno o l'altro lo pagherò. Se ne andò lasciandomi con le mani nervosamente strette e il cuore che batteva all'impazzata. Capitolo undicesimo. La notte trascorse senza altre emozioni. Il mattino seguente feci colazione al letto e mi alzai tardi. Appena giunsi sul ponte, Susan Blair mi chiamò a voce alta. Buongiorno, piccola zingara. Sedetevi qui vicino a me. Ho l'impressione che non abbiate dormito bene. Perché mi chiamate così? Le chiesi obbedendo e sedendomi al suo fianco. Vi dispiace? In un certo senso vi si addice. Vi ho chiamata così sin dal principio. C'è qualcosa in voi che richiama il carattere avventuroso del popolo dei gitani e che vi rende così diversa da tutti gli altri. Ho subito pensato che voi e il colonnello Reis eravate le due sole persone a bordo con cui non mi sarei mortalmente annoiata. Strano, è proprio quello che ho pensato anch'io, ma nel mio caso è più che comprensibile. Voi siete un prodotto così squisitamente raffinato. L'avete detto con molto garbo, ammise la signora Blair annuendo. Parlatemi di voi, piccola zingara, perché vi recate in Sudafrica? Le parlai specialmente di mio padre e della passione della sua vita. Siete la figlia di Charles Benfield. Lo avevo capito che non eravate una qualunque ragazza di provincia. Andate a Broken Hill per scovare altri crani? Forse, temporeggiai con cautela, ma ho anche altri progetti. Siete una ragazzina misteriosa, ma mi sembrate stanca stamane. Non avete dormito bene? Io invece non riesco a tenere gli occhi aperti quando sono su una nave. Dicono che solo un pazzo dorme dieci ore per notte. Io potrei dormire venti. Sbadigliò come un gattino assornato. Uno stupido cameriere mi ha svegliato in piena notte per riportarmi la pellicola che avevo perso ieri. Lo ha fatto in modo alquanto melodrammatico. Ha teso il braccio attraverso una presa d'aria e me l'ha tirata sullo stomaco. Ecco il vostro colonnello, dissi, non appena vi dispuntare l'alta figura atletica del colonnello Reis. Non è il mio colonnello. Anzi, devo confessarvi che vi ammira molto, piccola zingara. Non ve ne andate. Vorrei solo tornare in cabbina per prendere un car mi darà meno fastidio di un cappello. Mi eclissai rapidamente. Non so per quale ragione non mi sentivo a mio agio in presenza del colonnello. Era una delle poche persone che mi intimidivano. Entrai nella cabbina e aprì un cassetto alla ricerca di una sciarpa o di un fazzoletto di seta per trattenere i capelli. Sono piuttosto ordinata. Sistemo la mia roba in un particolare modo e a quello mi attengo. Mi accorsi subito che qualcuno aveva frugato tra i miei indumenti. Guardai gli altri cassetti e il piccolo armadio a parete. Confermavano la mia prima impressione. Tutto era stato buttato all'aria e messo in disordine nell'affannosa ricerca di qualcosa. La faccia era buiata. Mi mise a sedere sulla cucetta. Chi aveva frugato nella mia cabbina e che cosa cercava? Il foglietto di carta con quelle poche parole e cifre scarabocchiate? Scossi la testa. Quell'ipotesi non mi convinceva. Il foglietto ormai non aveva più importanza. Ma chi poteva essere? Avevo bisogno di riflettere. Gli avvenimenti della sera prima, sebbene eccitanti, non erano serviti a chiarire la faccenda. Chi era il giovane che si era precipitato nella mia cabbina? Non l'avevo mai vista a bordo, né sul ponte, né in sala da pranzo. Chi lo aveva ferito? E perché? Inoltre, che importanza rivestiva in tutto quel guazzabuglio la cabbina numero 17? Il mistero si infittiva, ma non c'era dubbio che qualcosa di strano stava succedendo a bordo del Kilmorden Castle. Contai sulle dita le persone che avrei fatto bene a sorvegliare. Scartai il mio sconosciuto visitatore della sera prima, promettendomi di scoprire al più presto chi fosse e dove si nascondeva, e selezionai le seguenti persone considerando le degne della mia attenzione. Sir Eustace Pedler era il proprietario di Mill House e la sua presenza sul Kilmorden Castle pareva una strana coincidenza. Guy Padgett, il segretario dall'aspetto patibolare che si era mostrato, a mio parere, troppo ansioso di ottenere la cabbina numero 17. Decisi anche di scoprire se aveva accompagnato Sir Eustace a Canne. Il reverendo Edward Kichester non avevo niente da rimproveragli se non quella sua assurda cocciutaggine ad impadronirsi della cabbina 17 che forse era interamente dovuta al suo carattere piuttosto eccentrico. L'ostinazione a volte non è buona consigliera. Decisi comunque che una breve conversazione con il reverendo Kichester mi sarebbe stata utile. Mi annodai un fazzoletto in testa per trattenere i capelli e tornai sul ponte risoluta a proseguire la mia indagine. Fui fortunata. Il mio primo obiettivo, appoggiata al parapetto, stava bevendo una tazza di brodo. Mi avvicinai. Spero che mi avrete perdonato la faccenda della cabbina 17, reverendo. Gli dissi con il più dolce dei miei sorrisi. Serbare rancore non è da buon cristiano, ribatte freddamente il reverendo Kichester. Ma il commissario mi aveva promesso quella cabbina. I commissari sono persone così indaffarate, non vi pare? Gli dissi in tono un po' vago. È probabile che lo abbia dimenticato. Il reverendo Kichester non rispose. È la prima volta che vi recate in Sudafrica? Gli chiesi tanto per intavolare la conversazione. In Sudafrica? Sì, è la prima volta. Durante questi ultimi due mesi ho vissuto tra le tribù cannibali che vivono all'interno dell'Africa orientale. Interessante. E ce l'avete sempre fatta? A fare cosa? A non farvi mangiare? Non dovreste trattare gli argomenti religiosi con tanta leggerezza. Non sapevo che il cannibalismo fosse un argomento religioso. Ribattei offesa. Mentre gli rispondevo mi balenò in mente una domanda. Se il reverendo Kichester aveva veramente trascorso gli ultimi due anni in Africa orientale tra i cannibali, come mai non era molto abbronzato? Avevo davanti agli occhi un uomo dal colorito bianco e rosio di un bambino. C'era forse qualcosa di poco chiaro nella personalità del reverendo? La sua voce, i suoi modi, tutto era così adeguato al ruolo. Forse troppo adeguato. Era veramente un reverendo o si spacciava per tale. Ripensai ai religiosi che avevo conosciuto a Littolo Ampisli. Alcuni mi erano stati simpatici, altri no. Ma certamente nessuno di loro assomigliava neppure lontanamente al reverendo Kichester. Loro mi erano sembrati esseri umani. Lui si atteggiava a essere superiore. Stavo facendo mentalmente queste riflessioni quando Sir Eustace Pedler, che passeggiava sul ponte, giunse alla nostra altezza. Arrivato vicino al reverendo si fermò, si chinò, raccolse un foglietto di carta e glielo porse dicendogli. Vi è caduto questo biglietto? Si allontano subito e probabilmente non si accorse nemmeno dell'agitazione del reverendo. Ma io sì. Qualunque cosa fosse ciò che aveva perso, il fatto di averlo ritrovato lo scombussolò notevolmente. Impallidì e accartocciò il biglietto con un gesto nervoso. I miei sospetti nei suoi confronti si ingigantirono. Incontrò il mio sguardo attento e si affrettò a darmi una spiegazione. Un frammento di sermone che sto preparando, disse con un debole sorriso. Davvero? Mi limitai a notare educatamente. Il frammento di un sermone. Ma per chi mi prendeva? No, caro signor Tichester, non me l'ha data a bere. Mi lasciò presto mormorando alcune parole di scusa. Ho come avrei voluto essere stata io a raccogliere quel biglietto invece di Sireustaz Pledler. Di una cosa ero certa. Non potevo cancellare il reverendo Tichester dalla lista dei sospetti. Dopo il pranzo, entrando nel bar per prendere il caffè, notai che Sireustaz Pledler e il suo segretario Guy Pudgett erano seduti ad un tavolino insieme alla signora Blair e al colonnello Reis. La mia nuova amica mi sorrisse e io allora li raggiunsi. Parlavano dell'Italia. Su Sambler si lamentava delle difficoltà linguistiche incontrate nei paesi latini. Sireustaz le fece notare ridendo che le sue difficoltà derivavano dalla sua scarsa conoscenza della lingua di Cicerone. Gli uomini si vantano sempre della loro superiorità culturale, ribattè su Sambler, ma ho notato che quando si chiede loro di tradurre una modesta iscrizione in una vecchia chiesa non sono mai in grado di farlo. E dopo essersi raschiati la gola in genere cambiano discorso. Avete ragione, ammise il colonnello Reis. Quella figura barbina io la faccio sempre. Gli italiani mi sono simpatici, proseguì su Sambler. Sono sempre così garbati e premurosi, anche se a volte proprio per queste loro virtù sono spesso imbarazzanti. Se chiedete loro un'informazione, invece di limitarsi a darvi le indicazioni, insistono per accompagnarvi e se vi mostrate stupite vi prendono gentilmente per il e vi scortano per tutta la strada. Anche voi, Paget, avete avuto questo genere di esperienza quando siete andato a visitare Firenze? Chiese sorridendo Sire Eustasa al suo segretario. Per chissà quale ragione la domanda sembrò sconcertare il signor Paget che arrossì e balbettò. Oh sì, certo, proprio così. E subito dopo, mormorando una scusa, si alzò e se ne andò. Comincio a credere che Paget debba aver commesso chissà quale misfatto a Firenze, osservò Sire Eustasa seguendo con lo sguardo il suo segretario che si stava allontanando. Tutte le volte che si nomina l'Italia o Firenze cambia discorso e si dà alla fuga precipitosa. Forse ha ucciso qualcuno, suggerì speranzosa Susanne Blair. All'aspetto, spero di non offendervi Sire Eustasa, ma quel giovane ha proprio l'aspetto di un assassino. È vero, mia cara. Sembra giungere sino a noi dal più buio medioevo. Questo suo aspetto mi diverte a volte, specialmente perché lo conosco bene e so quanto quel povero ragazzo sia rispettabile e profondamente ligio alla legge e al dovere. È molto che lavora con voi, vero? chiese il colonnello Reis. Sei anni, disse Sire Eustasa con un profondo sospiro. È sicuramente per voi un aiuto prezioso, osservò Susanne Blair. Oh certo, prezioso, sì, proprio prezioso. Il pover' uomo lo disse con tono lamentoso, come se le virtù del signor Paget fossero fonte di una segreta afflizione. Poi aggiunse più allegramente. Ma il suo aspetto dovrebbe ispirarvi fiducia, mia cara. Nessun criminale che si rispetti potrebbe permettersi di avere una faccia come la sua. Mi pare che il famoso Crippen avessi i tratti più gradevoli che si possano immaginare. Lo hanno preso su un piroscafo, mi pare, mormorò la signora Blair. Udimmo un rumore di cocci alle nostre spalle. Mi voltai rapidamente. Il reverendo Ticester aveva lasciato cadere la tazzina del caffè. Il nostro gruppetto non tardò a disperdersi. La signora Blair si ritirò nella sua cabina per riposare. Io salì sul ponte. Il colonnello Reiss mi seguì. Avete l'arte di farvi desiderare, signorina Beddingfield. Ieri sera vi ho cercati in vano per per invitarvi a ballare. Sono andata a letto presto, gli spiegai. Anche stasera sparirete o accetterete di ballare con me? Mi farà molto piacere ballare con voi, mormorai timidamente. Ma la signora Blair non ci tiene al ballo. Mentre a voi piace. Vorrei ballare con voi. Oh! Mi limitai ad esclamare sempre più in nervosita. Avevo un po' paura del colonnello Reiss, ma mi piaceva la sua compagnia. Piacchierare con lui era certo più divertente che ascoltare vecchi scienziati discutere sulle ossa fossili risalenti alle più antiche ere della Terra. Il colonnello Reiss rappresentava in fondo il mio ideale di uomo rodesiano austere e silenzioso. Avrei anche potuto prenderlo in considerazione come marito. Non me lo ero chiesto, ma ogni donna, anche se non ne ha l'intenzione, non può far a meno di considerare ogni uomo interessante che incontra come un probabile pretendente. Quella sera ballaiata, a lungo, col colonnello Reiss. Ballava molto bene. Quando finì il ballo, invece di ritirarci subito in cabina, il colonnello mi invitò a passeggiare sul ponte. Dopo aver fatto per tre volte il solito percorso intorno alla nave, ci sedemmo su due sedie a sdraio. Non c'era nessun altro in giro. Credo di aver avuto il piacere di incontrare vostro padre, signorina Beddingfield, mi disse. Un uomo molto interessante. Mi ha sempre affascinato la sua ricerca sulle origini dell'uomo. Me ne sono interessata anch'io, anche se da profano. Mi è capitato di visitare uno dei paleosuoli più interessanti della Francia meridionale. La nostra conversazione divenne eminentemente tecnica. Il eppure si lasciò sfuggire due o tre strani errori che avrei potuto quasi considerare lapsus. Era stato comunque pronta a correggersi, afferrando subito il senso del mio intervento. Una volta, per esempio, parlò del periodo musteriano come se seguisse l'aurignaziano, un errore assurdo per chiunque abbia una certa conoscenza dell'argomento. Era già mezzanotte quando scesi nella mia cabina. Quegli errori assurdi mi avevano lasciata perplessa. Chissà se il colonnello non si fosse data per l'occasione un'infarinatura per far credere di aver studiato paleontologia, mentre in realtà ne sapeva ben poco. Scossi la testa, vagamente insoddisfatta di questa spiegazione. Stavo per addormentarmi quando fui colpita da un'altra idea. E se il colonnello Reis avesse tentato di farmi cadere in crappola? E se quelle inesattezze che si era lasciato sfuggire fossero state un modo per mettermi alla prova? Per sapere se conoscevo veramente l'argomento di cui stavamo parlando? In altre parole il colonnello mi sospettava di non essere veramente Anne Beddinfield. Perché? Capitolo dodicesimo. Estratto dal diario di Sir Eustace Peddler. La vita di bordo, lo ammetto, ha i suoi lati positivi, perlomeno pacifica. I miei capelli grigi mi dispensano per fortuna dal partecipare a quegli sciocchi giochi ginnici o di società che si svolgono sul ponte. Come facciano a divertirsi facendo tutta quella fatica è per me un mistero. Il mondo, si sa, è pieno di folli. E a noi non rimane che ringraziare Dio per la loro esistenza, evitandoli accuratamente. Per mia fortuna ho il piede marino. Invece Paget, poveretto, ha uno stomaco che non regge il rullio del piroscafo. Non appena usciti dal Solent è impallidito. Suppongo che anche l'altro mio cosiddetto segretario stia soffrendo il mal di mare. Non l'ho ancora visto. Forse a tenerlo lontano non è la nausea, ma un atto di alta diplomazia. L'importante per me è che non mi tocca sopportarne la presenza. Nell'insieme tutti i nostri compagni di bordo sono piuttosto squallidi. Ci sono solo due decenti giocatori di bridge e una bella donna, la signora Susan Blair. L'avevo naturalmente già incontrata in società e devo ammettere che è una delle poche donne di mia conoscenza che possa vantarsi di possedere il senso dell'umorismo. Mi piace chiacchierare con lei e mi piacerebbe ancora di più se non fosse, per la continua presenza al suo fianco, di un individuo taciturno dalle gambe lunghe che le sta sempre appiccicato come una sanguisuga. Nel suo genere è un bell'uomo, ma noioso come un giorno di pioggia. È uno di quegli uomini austeri e silenziosi che piacciono tanto alle romanziere e infiammano gli animi delle ragazze. Guy Padgett si è trascinato sul ponte dopo che la nave aveva lasciato Madera e ha cominciato subito a blatterare con voce cavernosa a proposito di lavoro. Chi diamine può aver voglia di lavorare a bordo di un piroscafo? È vero che ho promesso al mio editore di consegnargli le mie memorie per l'inizio dell'estate. E allora? Chi mai può aver voglia di leggerle? Anziane signore che abitano in provincia? Nel corso degli anni mi è capitato di incontrare quelli che si chiamano personaggi famosi. Con l'aiuto di Padgett io mi limita a diventare aneddoti che li riguardano. Padgett è un uomo troppo onesto per il mio carattere. Non mi permette nemmeno di inventare aneddoti di persone che avrei potuto incontrare ma che in realtà non ho mai visto. L'ho accolto con gentilezza. Che brutta c'era mio caro ragazzo, gli ho detto con tono comprensivo. Quello che vi occorre è riposare su una sedia a sdraio. No, non dite niente, il lavoro può attendere. Purtroppo subito dopo ha suggerito di prendere un'altra cabina. Non c'è posto per lavorare nella vostra cabina, si reustase, è troppo ingombra di bauli. Dal tono della sua voce si sarebbe creduto che i bauli fossero scarafaggi che non avevano alcun diritto di trovarsi lì. Gli ho spiegato che, anche se lui non lo sapeva, chi viaggia ha in genere l'abitudine di cambiarsi d'abito di tanto in tanto. Mi ha rivolto il solito debole sorriso con cui risponde ai miei reiterati tentativi di umorismo ed è tornata al problema che lo assillava. Non si può lavorare nel buco in cui alloggio. So per esperienza come sono i buchi in cui alloggia Paget, le migliore cabine di tutta la nave. Mi dispiace che questa volta il capitano non vi abbia ceduto la sua, ribattei sarcastico. Ma forse potreste trasportare una parte del vostro bagaglio nella mia cabina. Il sarcasmo è un'arma pericolosa quando c'è di mezzo il mio ineffabile segretario. La sua faccia si illuminò. Beh, potrei sbarazzarmi della macchina per scrivere e del baule che contiene la cancelleria. Il baule della cancelleria pesa in modo spaventoso e causa infinite discussioni con i facchini che lo devono trasportare. Paget sembra avere come unico scopo della sua vita quello di scaricarlo nella mia cabina. Tra noi è fonte di eterne discussioni. Secondo il mio segretario il baule è di mia proprietà personale. Io invece insisto nell'affermare che in quanto mio segretario il baule rientra nelle sue strette competenze. d'accordo, fatevi dare un'altra cabina, mi sono affrettata a concludere. Il problema mi sembrava semplice e di facile soluzione. Ma Paget è una persona che riesce sempre a complicare qualunque semplice avvenimento individuandone l'aspetto misterioso e occulto. Il giorno seguente è venuta a trovarmi con l'espressione di un cospiratore sulla faccia. Mi avete ordinato, Sire Eustaz, di farmi assegnare la cabina numero 17. Non è vero? E allora che è successo? Il baule non entra in quella cabina. Le porte di tutte le cabine hanno la medesima larghezza, mi ha risposto con serietà Paget. Ma vi assicuro che c'è qualcosa di strano nella cabina numero 17. Se intendete dirmi che è abitata da spiriti maligni, ho ribattuto, vi assicuro che non è un problema, non ci dobbiamo dormire e i fantasmi non danneggeranno di sicuro la macchina per scrivere. Paget ha dovuto ammettere che non si trattava di spiriti maligni e che in realtà non c'era stata assegnata la cabina numero 17. Mi ha raccontato una storia ingarbugliata. Sono riuscita a capire che il reverendo Chichester, il mio segretario e una ragazza che si chiama Beddinfield si erano quasi accapigliati per farsi dare quella cabina. Inutile dire che era stata la ragazza a vincere la tensone. La propria disfatta aveva molto avvilito il mio povero Paget. Le altre due cabine, la 13 e la 28, erano migliori, ha insistito in tono lamentoso. Ma nessuno degli altri due contendenti le ha volute nemmeno vedere. Beh, gli ho risposto soffocando uno sbadiglio. Neanche voi avete voluto prenderle in considerazione? Mi ha rivolto uno sguardo pieno di rimprovero. Voi mi avevate chiesto di farci assegnare la cabina 17. Mio caro ragazzo, ho ribattuto irritato. Vi avevo detto di farvi dare la cabina 17 solo perché mi ero accorto che era libera. Ma non vi avevo chiesto di battervi per averla. La 13 o la 28 serviranno ugualmente al nostro scopo. Paget ha assunto un'aria mortificata. Non vi ho ancora detto tutto, ha insistito. La signorina Beddingfield ha avuto la cabina. Ma stamane ho visto il reverendo Kichester uscirne furtivamente. L'ho fissato severamente. Se state cercando di farmi credere che è successo qualcosa di scandaloso. Tra il reverendo Kichester, che per quanto mi sia antipatico, è un bravo missionario, è quella bella ragazza. Ann Beddingfield, vi avverto subito che non sono disposto a credervi. Gli ho detto freddamente. La signorina Beddingfield è una giovane molto carina e ha le più belle gambe di bordo. A Paget non è piaciuto affatto il mio apprezzamento sulle gambe della giovane. È uno di quegli uomini che non noterebbero mai un simile dettaglio e se mai lo facesse morirebbe piuttosto che ammetterlo. Mi considera un uomo troppo frivolo e siccome mi diverto sempre a metterlo in imbarazzo, ho proseguito con tono malizioso. Poiché siete riuscita a fare la sua conoscenza, potreste invitarla al nostro tavolo domani sera. Danno un ballo mascherato. A proposito, sarà bene che andiate a procurarvi un costume anche per me. Non avrete l'intenzione di mascherarvi, vero? Ha detto indignato. Povero Paget. Era sconvolto e addolorato. La mia richiesta gli doveva sembrare incompatibile con la dignità della mia persona. In realtà non avevo nessuna intenzione di mascherarmi. Ma la tentazione di fare sprofondare Paget nel più nero sconforto è stata più forte. Perché non dovrei farlo? Ho ribattuto con tono divertito. Indosserò il costume che riuscirete a trovare e così farete anche voi. Paget ha avuto un fremito d'orrore. Andate subito a procurarveli. Gli ho ordinato, mettendo fine alla controversia. Non penso che abbiano un costume che si adatti alla vostra taglia. Ha mormorato Paget, misurandomi con lo sguardo. Senza volerlo, il mio segretario riesce a volte ad essere particolarmente offensivo. Fissate un tavolo per sei nella sala da ballo. Gli ho raccomandato. Inviteremo il capitano, la ragazza dalle belle gambe, la signora Blair. La signora Blair non accetterà se non ci sarà anche il colonnello Reiss. Mi interrubbe Paget. L'ha già invitata a cena lui. Lo so. Paget sa sempre tutto. Ho provato un giusto senso di irritazione. Ma chi è questo dannato Reiss? Gli ho chiesto. Come vi ho appena detto, Paget sa sempre tutto o pensa di sapere tutto. Ha ripreso il tono misterioso che tanto lo delizia. Dicono che sia del servizio segreto. Un pezzo grosso pare. Ma di questo naturalmente non sono sicuro. Incredibile. Solo i politici possono mostrarsi così pessimi organizzatori. Ho esclamato. C'è a bordo un uomo che per mestiere deve occuparsi di faccende segrete. E che quindi dovrebbe essere scelto quale corriere di documenti riservati. E invece che cosa fanno? Obbligano a farlo un povero cittadino qualunque che chiede soltanto di essere lasciati in pace. Paget ha assunto un'espressione ancora più sospettosa. Mi si è avvicinato con fare circospetto e ha abbassato la voce. A dirvi il vero, si reustase, tutta questa faccenda mi sembra molto strana. Pensate al malore che mi accolto poco prima che partissimo. Mio caro ragazzo, l'ho interrotto bruscamente. È stato una crisi di fegato. Vi capita spesso di averne. Paget è rabbrividito. Non si è trattato della solita crisi. Questa volta è stato diverso. Per l'amor del cielo, Paget, evitatemi particolari della vostra indisposizione. Non voglio saperne niente. E va bene, si reustase, ma io sono convinto che mi abbiano deliberatamente avvelenato. Ah, ho detto, ne avete parlato con Rayburn. Non ha negato. Lui ne è convinto e penso che si trovi nella posizione di sapere, meglio di chiunque altro, che cosa sta veramente succedendo. A proposito, dov'è? Ho chiesto. Non l'ho più visto da quando ci siamo imbarcati. Mi ha fatto sapere che sta male e che non uscirà dalla sua cabina, si reustase. Ha abbassato di nuovo la voce. Sospetto che si tratti di una scusa per poter sorvegliare meglio. Sorvegliare? Sorvegliare cosa? Ma voi, si reustase, voi, in caso di aggressione. Siete il solito ottimista, Paget, ho detto. Mi auguro che si tratti solo della vostra immaginazione malata. Se fossi in voi, per il ballo mascherato, sceglierei un bel travestimento, come per esempio quello della signora con la falce o quello del boia di sua maestà. Sarebbero adatti al vostro umore funereo. Questo mio sfogo ha messo fine alla nostra conversazione. Sono salito sul ponte. La signorina Beddingfield stava chiacchierando con il reverendo Kicester. Strano come le donne provino una particolare inclinazione per gli uomini di chiesa. Un uomo della mia corporatura detesta di doversi chinare. Tuttavia non ho esitato a compiere un atto di cortesia e a raccogliere un foglietto di carta caduta ai piedi del reverendo. Non mi ha nemmeno ringraziato. In realtà non ho potuto far a meno di leggere ciò che c'era scritto. Si trattava di una sola frase. Non cercare di agire da solo o sarà peggio per te. Strano messaggio per un missionario. Chi è veramente questo Kicester? Ha un aspetto innocuo ma le apparenze ingannano. Lo chiederò a Paget. Paget sa sempre tutto. Mi sono lasciato cadere con eleganza sulla sedia a sdraio di fianco a quella della signora Blair e ho interrotto il suo tête-à-tête con il colonnello Reis facendole parte della mia sorpresa e osservando che l'atteggiamento del clero ai giorni nostri non era più quello di un tempo. Poi l'ho invitata a cena per il ballo in maschera e non so bene come il colonnello Reis è riuscita a farsi includere nell'invito. Dopo il pranzo la giovane Anna Bedinfield ci ha raggiunto per il caffè. Avevo ragione a proposito delle sue gambe. Sono proprio le più belle che ci siano a bordo. Inviterò anche lei, questo è certo. Vorrei tanto sapere che cosa può aver combinato Paget a Firenze. Tutte le volte che si menziona l'Italia lui sembra sprofondare nello sconforto. Se non ne conoscessi la rispettabilità senza macchia, lo sospetterei di una storia d'amore disdicevole. In fondo, conoscendo la natura umana, persino l'uomo più corretto potrebbe. Come sarei felice se così fosse. Paget è un suo colpevole segreto. Divertente. Capitolo tredicesimo. La serata è stata interessante e strana. Il solo costume trovato a bordo che si adeguasse alla mia corporatura era una specie di pelle d'orso nella quale mi sono infilato. Non mi dispiace giocare a fare l'orso in Inghilterra con delle belle ragazze durante una serata invernale, ma non direi che si tratti di un travestimento adatto al caldo dei tropici. Sono riusciti tuttavia a creare intorno a me un'atmosfera piena d'allegria e ho vinto anche un premio per il travestimento più originale. La signora Blair aveva rifiutato di mascherarsi, mostrando di avere in proposito le stesse idee del mio segretario. Il colonnello Reis aveva seguito il suo esempio. Ann Bedinfield era riuscita a confezionarsi un costume da zingara che le stava molto bene. Paget non si è fatto vivo con la spusa dell'emicrania. Per sostituirlo ho invitato un personaggio piuttosto bizzarro. Un certo Rives pare che sia un importante membro del partito laburista del Sudafrica. Piuttosto antipatico, ma ho pensato che mi conveniva farne la conoscenza in quanto mi serviranno le informazioni che mi potrà dare. Mi sarà utile conoscere meglio le posizioni delle due forze avverse riguardo all'agitazione del rando. Faceva troppo caldo per ballare, eppure ho invitato due volte la signorina Bedinfield che ha finto di apprezzarlo. Una volta la signora Blair che non si è presa nemmeno la briga di fingere. Ho messo alla tortura varie altre signorine che mi avevano colpito per il loro grazioso aspetto. Poi siamo andati tutti a cena. Ho ordinato champagne francese. Il cameriere ha suggerito un Veuve Clicquot del 1911, il migliore che avessero a bordo e mi sono lasciato convincere. Avevo scoperto quello che ci voleva per far sciogliere la lingua al colonnello Reis. Lungi dall'essere taciturno, l'uomo si è dimostrato piuttosto un buon conversatore. Per un po' mi ha divertito, poi mi sono accorto che stava accaparrandosi l'attenzione degli altri e diventando l'anima della festa. Ha preso in giro la mia abitudine di tenere un diario. Rivelerà tutti i vostri segreti pensieri nel corso degli anni, mio caro Pedler. Colonnello Reis, ho ribattuto. Vorrei suggerirvi che non sono così sciocco come pensate. Mi capita certo di commettere delle, chiamiamole indiscrezioni, ma non sono così imprudente da scriverle nero su bianco. Dopo la mia morte, i miei esecutori testamentari conosceranno l'opinione che avevo su molta gente, ma non credo proprio che saranno in grado di aggiungere o togliere niente che riguardi l'opinione che avevano sulla mia persona. Un diario è utile per raccontare le idiosincrasie degli altri, non le proprie. Non è difficile individuare in un diario rivelazioni inconsce che svelano i segreti reconditi di chi lo scriva. Agli occhi dello psicanalista tutto può assumere un significato abietto, ho ribattuto in tono sentenzioso. Avete avuto una vita molto interessante, colonnello, vero? Ha chiesto la signorina Beddinfield, fissandolo con i suoi begli occhi lucenti. Ecco come si comportano le ragazze. Otello incantò Desdemona raccontandole le sue meravigliose avventure. Ma non è forse vero che Desdemona conquistò Otello ascoltandolo con attenzione appassionata? La ragazza è riuscita nel suo intento e il colonnello Reis si è lanciato in una serie di racconti di caccia grossa. Un uomo che ha abbattuto una certa quantità di leoni si conquista un vantaggio sleale sugli altri uomini. Mi è sembrato che fosse giunto il momento in cui anch'io dovevo raccontare aneddoti basati sulle battute di caccia grossa che sembravano piacere tanto alle signore. Storie di sui leoni, certo, ma di ben altro tenore, scegliendo quelle che meglio si confacevano al mio carattere. A proposito, l'ho interrotto. Questo mi ricordo una storia interessante che mi hanno raccontato. Un mio amico era andato a caccia in Africa orientale. Una notte uscì non so per quale ragione dalla sua tenda e fu spaventato da un ruggito sommesso. Si voltò bruscamente e vide un leone accovacciato pronto ad aggredirlo. Aveva lasciato il fucile nella tenda. Quando il leone gli balzò addosso, con presenza di spirito, si chinò rapidamente e il leone gli passò sulla testa e si atterrò un po' più in là. Irritato per aver mancato la preda, il leone brontolò e si preparò a balzargli di nuovo addosso. E di nuovo il mio amico si chinò e il leone gli passò sulla testa. Nel frattempo il mio amico era riuscito a riavvicinarsi alla tenda. Vi entrò e presso il fucile uscì di nuovo all'aperto, ma il leone era scomparso. Ne fu molto sorpreso. Cautamente, nella notte, a passi furtivi, andò alla sua ricerca. Lo trovò a pochi metri di distanza in una piccola radura. Il leone stava esercitandosi a fare balzi sempre più bassi. La mia storia è stata accolta da una risata ed applausi. Ho bevuto un po' di champagne. Questo stesso mio amico, ho ricominciato a dire, ha vissuto un'altra curiosa esperienza. Stava percorrendo a piedi il paese con muli e portatori e aveva fretta di giungere a destinazione prima che facesse troppo caldo. Ordinò quindi ai suoi portatori di sellare i muli e di aggiogarli prima che soggesse il sole. Ebbero alcune difficoltà a farlo, in quanti i muli sembravano più resti del solito a lasciarsi preparare. Alla fine i preparativi riuscirono nel loro intento e tutti si misero in cammino. I muli non avevano mai proceduto ad una simile andatura. Parevano volare. Quando si fece giorno ne capirono la ragione. I portatori avevano aggiogato un leone nella retroguardia. Anche questo mio racconto pieno di umorismo è piaciuto e tutti hanno riso divertiti. Ma sono certo che il maggior tributo me lo ha dato anche se involontariamente la mia nuova conoscenza, il pezzo grosso del partito laborista, che era rivasto serio e pensieroso. Poi finalmente ha reagito e ha chiesto con voce ansiosa. Dio mio, e chi ha dovuto togliergli il gioco? Devo proprio andare a visitare la Rhodesia, ha esclamato la signora Blair. Dopo tutto ciò che ci avete raccontato, mi rendo conto che deve essere un paese molto interessante. Purtroppo il viaggio è terribilmente faticoso. Mi hanno detto che ci vogliono cinque giorni di treno. Sarà meno penoso se verrete nel mio vagone privato, le ho offerto galantemente. Oh, Sireustaz, come siete gentile. Dite sul serio. Certo che dico sul serio, ho esclamato con tono di rimprovero e bevendo un altro po' di champagne. Fra una settimana saremo in Sudafrica, ha sospirato la signora Blair. Ah, in Sudafrica, ho esclamato con sentimento e ho cominciato a citare alcuni passi di una conferenza che avevo tenuto di recente al Colonial Institute. Che cos'ha il Sudafrica da mostrare al mondo? Le sue prefattorie, i suoi prodotti, la sua lana, le sue mandrie, il suo pellame, il suo oro, i suoi diamanti. Parlavo con una certa fretta perché sapevo che non appena mi fossi fermato, Rives si sarebbe lanciato in una diatribba tenendoci a farci sapere, per esempio, che il pellame era senza valore, perché gli animali si ferivano contro il filo spinato o per fare qualche altra critica del genere, per poi passare a definire infernale la vita che conducevano i minatori nelle miniere del Rand. Poiché non mi sentivo disposto a farmi bistrattare nella mia qualità di capitalista, ho cercato di non permettergli di intervenire. Ma l'interruzione mi è venuta da ben altra fonte, alla parola magica appena pronunciata, Diamanti. Diamanti, ha esclamato la signora Blair e statica. Diamanti, ha mormorato la signorina Beddinfield. Tutte e due si sono rivolte al colonnello Reis. Sarete sicuramente stato a Kimberley? Anch'io ero stata a Kimberley, ma non ho fatto in tempo a dirlo. Reis si è trovato sommerso da una valanga di domande. Com'erano le miniere? Era vero che i minatori venivano rinchiusi in una specie di recinto? E così via. Reis ha risposto alle loro domande e ha mostrato di essere molto ben informato. Ha descritto il sistema usato per dare asilo ai minatori. Ha spiegato come venivano trattati gli indigeni. Ha elencato gli studi e le ricerche che si facevano sul posto. Le varie precauzioni che prendeva la Debir. Allora è praticamente impossibile rubare i diamanti, ha chiesto la signora Blair, con un senso di acuta delusione, come se il suo viaggio avesse avuto proprio quello scopo. Non c'è niente di impossibile, signora Blair. I furti avvengono lo stesso, come in quel caso che vi ho narrato, quando un cafro riuscì a nascondere una pietra nella sua ferita. Sì, lo ricordo, ma furti su più vasta scala? È capitato una volta sola, proprio prima che scoppiasse la guerra. Ricorderete certo il caso, Pegler. Non eravate in Sudafrica in quel periodo? Ho annuito Raccontateci ciò che è successo, ha chiesto incuriosita la signorina Beddinfield, per favore. Reis ha sorriso D'accordo, vi racconterò tutto quello che so. Immagino che abbiate tutti sentito parlare di Sir Lawrence Hardsley, il famoso magnate sudafricano, proprietario di ricche miniere aurifere. Non si è trovato implicato in questa faccenda direttamente, ma solo a causa di suo figlio. Vi ricorderete che poco prima della guerra si era sparsa la voce che una nuova Kimberley giaceva nascosta in qualche parte nel terreno roccioso della Guaiana Britannica. Due giovani esploratori, così almeno correva voce, erano tornati in Sudafrica portando con sé un'interessante collezione di diamanti grezzi, alcuni di notevole grossezza. Piccoli diamanti erano già stati trovati nelle vicinanze dei fiumi, esse Quibbo e Mazzaroni. Ma quei due giovani, Gionno Hardsley e il suo amico Lucas, affermavano di aver trovato ricchissimi depositi di pietra diamantifera alla sorgente comune dei due fiumi. I diamanti erano di tutti i colori, rosa, azzurro, verde, nero e bianco povissimo. Hardsley e Lucas vennero a Kimberley per fare esaminare le pietre che avevano raccolto. In quel preciso periodo si scoprì che la Debir era stata vittima di un furto sensazionale. La società mineraria, quando deve mandare in Inghilterra una partita di diamanti, li fa confezionare in un piccolo pacco che viene custodito nella cassaforte. Le due chiavi della cassaforte sono conservate da due persone diverse e una terza persona ne conosce la combinazione. Poi il pacco è consegnato alla banca con l'incarico di spedirlo in Inghilterra. Ogni pacco vale grosso modo circa centomila sterline. Quella volta la banca notò che il pacco era stato sigillato in modo un po' diverso dal solito. Lo aprirono e scoprirono che conteneva zollette di zucchero. Non so come i sospetti caddero su John e Arlesley. Si disse che durante gli anni universitari a Cambridge aveva condotto una vita dissipata e che più di una volta suo padre aveva dovuto pagare i suoi debiti. Comunque sia, si sparse presto la voce che la storia della scoperta dei diamanti nella Guagliana britannica era tutta un'invenzione. John Eard de Ré fu arrestato. In suo possesso furono trovati alcuni diamanti della Dibir. Il caso non fu mai portato davanti al tribunale. Sir Lawrence Heavley pagò il prezzo dei diamanti rubati e la Dibir non denunciò il furto. Non si seppe mai come fosse stato eseguito il colpo. Ma l'idea che il figlio fosse un ladro spezzò il cuore del povero padre. Poco dopo ebbe un primo infarto. In quanto a John il destino gli è stato favorevole. Si è arrolato in guerra, ha combattuto coraggiosamente ed è stato ucciso sul campo di battaglia, cancellando così, con un colpo di spugna, la sua colpa. Sir Lawrence è stato colpito da un terzo infarto, ed è morto circa un mese fa. È morto senza fare testamento e tutti i suoi beni sono passati al parente più prossimo, un uomo che conosceva appena. Il colonnella ha smesso di parlare e intorno a lui si è levato una babbele di esclamazioni e domande. In quel momento l'attenzione di Anne Bedinfield è stata attratta da qualcosa che l'ha costretta a voltarsi. All'esclamazione di sorpresa che si è lasciata sfuggire, mi sono voltata anch'io. Il mio nuovo segretario, quello che diceva di chiamarsi Rayburn, era fermo sulla soglia. Sotto l'abbronzatura aveva la faccia terrea. Pareva un uomo che avesse visto un fantasma. Il racconto di Rayburn lo aveva evidentemente profondamente scosso. Accorgendosi di essere osservato, Rayburn si è voltato bruscamente ed è scomparso. «Lo conoscete?» mi ha chiesto Anne Bedinfield. «E' l'altro mio segretario», le ho spiegato. «Si chiama Rayburn, finora non si è sentito bene». La ragazza giocherellava con il pane che aveva sul piatto. «E' vostro segretario da molto tempo?» «No, non da molto tempo», le ho risposto cauto. «Ma la cautela non serve quando il vostro avversario è una donna. Più trattenete i dettagli che la interessano, più lei si fa pressante». Anne Bedinfield non ha mollato la presa. «Quanto tempo?» ha chiesto bruscamente. «Beh, per la verità, l'ho assunto proprio prima di partire. Mi è stato raccomandato da un vecchio amico. Non ha detto nulla, è rimasta in silenzio pensierosa. Mi sono rivolta al colonnello Reis, pensando di dover mostrare un certo interesse al suo racconto. Chi è il parente più prossimo di Sir Lawrence Hairley? Lo conoscete? «Certo che lo conosco», mi ha risposto sorridendo. «Sono io». Capitolo quattordicesimo Riprende il racconto di Anne La sera del ballo mascherato decisi che era tempo di confidarmi con qualcuno. Fino a quel momento avevo agito da sola e mi ero molto divertita. Ora la faccenda aveva cambiato aspetto. Non mi fidavo più del mio giudizio e per la prima volta mi sentivo a salire da un sentimento di desolazione e di solitudine. Mi sedetti sull'orlo della mia cucetta, indossava ancora il costume da zingara e mi misi a riflettere sugli sviluppi della situazione. Pensai prima di tutto al colonnello Reis. Si era mostrato amichevole ed ero certa che mi avrebbe ascoltata con gentilezza e disponibilità. Ero un uomo intelligente. Eppure, ripensandoci, esitai. Dotato di una forte personalità, avrebbe probabilmente deciso di togliermi il caso di mano. L'indagine era mia. E poi c'erano altre ragioni, ragioni che facevo persino fatica ad ammettere con me stessa e che non era il caso di confidare al colonnello Reis. Passai alla signora Blair. Si mostrava sempre molto gentile con me. Non mi illudevo che ci fosse tra noi un rapporto che avesse un significato particolare. Provava per me una simpatia che non era destinata ad avere un futuro. La interessavo e lei era una donna che aveva probabilmente provato tutte le normali sensazioni della vita. Io ero disposta a farle provare emozioni inattese straordinarie. Mi era simpatica, mi piaceva, mi incantavano i suoi modi disinvolti, la sua assenza di smancerie, il suo atteggiamento privo di ogni affettazione. Feci la mia scelta e decisi di andare subito a parlarle. Di sicuro non era ancora andata a letto. poi mi ricordai che non sapevo il numero della sua cabina ma la mia amica, la cameriera di notte, sapeva probabilmente dove alloggiava. Suonai il campanello e dopo un'attesa abbastanza lunga si presentò un cameriere che dopo essersi scusato per aver tardato a rispondere in quanto era sola a disimpegnare il servizio di tutte le cabine, mi diede l'informazione richiesta. La signora Blair stava alla cabina numero 71. Dov'è la cameriera allora? gli chiesi. Le cameriere terminano il servizio alle 10 di sera. Intendo la cameriera di notte. non vi sono cameriere di notte signorina. Ma come? Una cameriera è venuta nella mia cabina l'altra notte. Era luna. Avete sognato signorina. Nessuna cameriera presta più servizio dopo le 10. Se ne andò e rimasi sola a digerire quel modesto ma preoccupante scampolo di informazione e a riflettere. Chi era la donna entrata nella mia cabina la notte del 22? L'astuzia e l'audacia dei miei ignoti antagonisti mi fece capire la gravità della situazione in cui mi ero messa. poi mi riscossi lasciai la mia cabina e cercai quella della signora Blair bussai alla porta chi è? domandò Susanne Blair sono io Anne Bedinfield entrate piccola zingara entrate entrai la cabina era piena di vestiti sparsi un po' ovunque Susanne Blair si era drappeggiata in uno dei più bei kimono che avessi mai visto era un indumento squisito coloratissimo dominavano l'arancione il nero e l'oro signora Blair le dissi bruscamente vorrei raccontarvi la storia della mia vita se non è troppo tardi e se non vi annoia troppo detesto andare a letto presto esclamò la signora Blair il viso illuminato dal suo radioso sorriso e sono ansiosa di conoscere la storia della vostra vita siete una creatura stravagante piccola zingara a nessun altro verrebbe in mente di precipitarsi nella mia cabina a luna di notte per propormi di farmi ascoltare la storia della propria vita specialmente considerando il modo elusivo con cui per settimane avete mortificato la mia curiosità non sono abituata ad essere snobbata e una piacevole novità sedetevi sul divano e toglietevi questo peso dal cuore le raccontai tutto ci volle molto tempo perché le riferì coscienziosamente tutti i dettagli quando ebbi finito su samblerra emise un profondo sospiro ma non reagì nel modo che mi era aspettata mi guardò con attenzione sorrise e disse sapete mia cara che siete veramente una ragazza fuori dal comune non vi vengono mai scrupoli scrupoli chiesi stupita ma sì scrupoli scrupoli partite sola e senza praticamente nemmeno un soldo in tasca che cosa diamine farete quando vi ritroverete in un paese straniero dopo aver speso tutto quello che avete non è il caso di pensarci ora ho ancora molti soldi ho le venticinque sterline che mi ha dato la signora Fleming che sono praticamente intatte ieri ho vinta alla lotteria altre quindici sterline ho una quantità di soldi 40 sterline sono praticamente ricca avete molti soldi dio mio mormorò la signora Blair io non avrei potuto agire così Anna anche se sono abbastanza coraggiosa a modo mio non ce l'avrei fatta partire allegramente con poche sterline in tasca e senza sapere né dove andare né come sopravvivere ma è proprio questo il divertimento esclamai piena di entusiasmo mi mi dà uno straordinario senso d'avventura continuo a fissarmi annui divertita poi sorrise siete una ragazza fortunata Anna sono ben poche le persone al mondo che provano questo sentimento straordinario di libertà dunque signora Blair ditemi cosa ne pensate penso che sia l'avventura più straordinaria di cui abbia mai sentito parlare e ora tanto per cominciare smettetela di chiamarmi signora Blair chiamatemi Susanne d'accordo mi farà molto piacere Susanne brava torniamo al tuo problema hai detto che hai riconosciuto l'uomo che è stato ferito e che è venuto a rifugiarsi nella tua cabina si tratta del segretario di Sir Eustace non Paget dalla faccia patibolare ma quell'altro vero a noi sono quindi due i legami che collegano Sir Eustace al tuo caso la donna viene assassinata nella sua casa ed è il suo segretario che si fa pugnalare proprio a luna di notte l'ora fatidica non credo che si possa sospettare di Sir Eustace ma non si può più pensare che si tratti solo di coincidenze deve esserci un collegamento che probabilmente lui stesso ignora inoltre c'è la strana faccenda della cameriera proseguì pensierosa che aspetto aveva l'ho appena notata ero così nervosa e preoccupata e poi l'apparizione della cameriera è stata così inattesa però ora che ci penso mi è sembrato che si trattasse di un viso familiare e lo sarebbe se l'avessi già vista a bordo ti è sembrato una faccia familiare ripetè Susanne sicura che non fosse un uomo era molto alta a misi non si trattava quindi di Sir Eustace e non credo nemmeno che potesse essere Paget un attimo afferrò un foglio di carta e cominciò a disegnare febbrilmente poi esaminò la sua opera d'arte sollevando il foglio e piegando leggermente la testa ecco un ritratto somigliante del reverendo Kicester e ora i particolari mi passò il foglio è questa la tua cameriera è proprio lei esclamai entusiasta sei bravissima disdegnò il complimento con un vago gesto della mano l'ho sempre sospettato quel Kicester ti ricordi come ha lasciato cadere la tazzina del caffè al bar quando l'altro giorno stavamo parlando di Krippen e ha fatto di tutto per avere la cabina 17 sì direi che tutto sembra combaciare ma che cosa diamine significa che cosa doveva veramente succedere nella cabina numero 17 non ha senso pensare che volessero pugnalare il segretario di Sireustase per quale ragione si dovrebbe compiere un delitto in un dato giorno a una data ora e in un posto speciale no credo piuttosto che si dovesse trattare di una specie di appuntamento lo hanno pugnalato mentre gli si recava con chi si doveva incontrare non certo con te forse con Kicester oppure con Paget non mi sembra possibile obiettai si possono incontrare quando vogliono tutte e due rimanemmo a lungo in silenzio poi a Susanne venne un'altra idea c'era forse qualcosa di nascosto nella cabina che ne dici questo mi sembra molto probabile ammisi spiegherebbe la ragione per la quale hanno frugato tra la mia roba eppure non c'era nascosto nulla ne sono sicura il giovane segretario potrebbe aver fatto scivolare qualcosa in un cassetto non credi scossi la testa lo avrei visto cercavano forse quel tuo prezioso foglietto sì forse ma a me sembra poco probabile c'era solo scritto un nome una data e un'ora che ormai non hanno più alcuna importanza Susanna annui hai ragione no non cercavano quel tuo foglietto a proposito lo hai qui con te mi piacerebbe dargli un'occhiata avevo portato con me il foglietto lo consideravo la prova più importante che avessi in mano lo esibì con orgoglio e glielo tesi lei lo esaminò aggrottando le sopracciglia c'è un punto dopo il 17 e forse c'è un altro punto dopo l'uno c'è piuttosto uno spazio le feci notare sì c'è uno spazio ma si alzò improvvisamente fissando il foglietto e tenendolo quanto più possibile vicino alla luce di una lampada c'era nei suoi modi un'eccitazione contenuta Ann questo non è un punto è solo una macchiolina sulla carta va ignorata contano solo gli spazi gli spazi mi ero alzata e le stavo vicino lessi le cifre così come ora mi apparivano 1 71 22 vedi esclamò Susanne è lo stesso ma non proprio si tratta ancora del luna di notte la data è sempre il 22 ma la cabina è la numero 71 la mia cabina Anna rimanemmo a guardarci così soddisfatte della nostra nuova scoperta e così entusiaste che si sarebbe detto che avessimo risolto tutta la misteriosa faccenda fui a tornare alla dura realtà Susanne è forse successo qualcosa nella tua cabina all'una di notte del 22 anche lei cambiò espressione no non è successo niente niente mi colpì un'altra idea questa non era la tua cabina vero intendo dire non era quella che avevi prenotato no il commissario di bordo mi ha permesso di cambiarla mi chiedo se non era stata prenotata prima della partenza da qualcuno che poi non si è imbarcato suppongo che sarà facile saperlo non occorre chiedere questa informazione l'ho già piccola zingara me lo ha detto il commissario di bordo la cabina era stata fissata da una certa signora grey ma a quanto pare grey era lo pseudonimo della famosa ballerina russa madame nadina non ha mai ballata a londra ma ha fatto furora a parigi ha avuto un successo eccezionale specialmente durante la guerra non credo sia una persona molto perbene ma è sicuramente una gran bella donna il commissario di bordo dandomi la sua cabina ha usato parole assai significative che mostravano il suo disappunto di non averla sulla sua nave il colonnello Reis in seguito mi ha parlato molto di lei sembra che a Parigi durante la guerra fossero corse strane voci sul conto di quella donna è stata sospettata di spionaggio ma non è mai stato possibile provarlo mi è persino venuto in mente che il colonnello Reis sia stato a Parigi proprio per questo scopo mi ha raccontato cose interessantissime il servizio segreto era riuscita a sapere che c'era una vera e propria organizzazione spionistica che non era formata da tedeschi sospettavano addirittura che il capo conosciuto solo con il soprannome di colonnello fosse addirittura un inglese di cui non sono mai riusciti a conoscere l'identità il colonnello controllava una formidabile organizzazione internazionale di spie e di criminali truffe rapine pirateria industriale spionaggio ha fatto di tutto era inoltre abilissimo a provvedere alla giustizia un capro espiatorio convincente che pagasse al suo posto un uomo diabolicamente abile si suppone che questa famosa ballerina fosse uno dei suoi agenti ma non sono mai riuscite ad inchiodare né lei né il suo capo si Anna siamo sulla pista giusta l'appuntamento all'una del 22 era sicuramente nella sua cabina ma lei dov'è perché non si è imbarcata un lampo mi illuminò all'improvviso aveva l'intenzione di imbarcarsi dissi lentamente e allora perché non l'ha fatto perché è morta Susanna Nadine è la donna che è stata assassinata a Marlow ritornai con la mente a quella stanza nuda nella casa vuota e mi sentì di nuovo investire da quell'indefinibile sensazione di minacce e di paura ricordai naturalmente anche la penna che mi era caduta e il rotolo di pellicole che avevo scoperto un rotolo di pellicole mi parve un ricordo più recente dove avevo sentito ultimamente parlare di un rotolo di pellicole e perché associavo quel pensiero alla signora Blair feci un balzo verso di lei e per poco non l'afferrai per le spalle scuotendola tanto ero eccitata il tuo rotolo di pellicole quello che ti hanno restituita attraverso la presa d'aria è successo la notte del 22 vero? quello che avevo perso come fai a sapere che è lo stesso perché mai qualcuno te l'avrebbe restituito in un modo così stravagante nel bel mezzo della notte è una pazzia no c'è sicuramente qualcos'altro forse si è trattato di un messaggio hanno tolto le pellicole dalla piccola custodia di metallo giallo e ci hanno messo dentro qualcos'altro lo hai ancora? potrei averlo usato no eccolo ricordo di averlo messo sullo scaffale di fianco alla cucetta me lo tese era un banale piccolo cilindro di latta di quelli che si usano per proteggere le pellicole nei climi tropicali lo presi con mani tremanti il cuore mi batteva all'impazzata era più pesante di quanto avrebbe dovuto essere tolsi l'adesivo che lo sigillava tolsi il coperchio e un mucchietto di pezzi di vetro cadde sul letto sassolini dissi delusa sassolini esclamò susanna il tono della sua voce mi colpì sassolini no mia cara anna non sassolini diamanti capitolo quindicesimo diamanti fissai affascinata il mucchietto di vetri ne presi uno in mano se non fosse stato per il peso avrebbe potuto essere un pezzetto di vetro rotto di bottiglia sei certa susanna oh sì mia cara ho visto troppo spesso diamanti grezzi per avere dubbi sono splendidi anna alcuni sono unici questi diamanti hanno sicuramente una storia quella che abbiamo sentito stasera esclamai vuoi dire la storia che ci ha raccontato il colonnello Reis non può trattarsi di una coincidenza aveva uno scopo ben preciso per vedere l'effetto che faceva su di noi annui l'effetto su Sir Reustas sì ma mentre lo dicevo fu colta da un dubbio il colonnello aveva voluto proprio mettere alla prova Sir Reustas oppure la storia era stata raccontata a mio personale beneficio ricordai l'impressione provata quella sera in cui mi era sembrato che il colonnello cercasse di farmi cadere in trappola per una ragione che non riusciva ad individuare il colonnello Reis mi considerava con sospetto che parte aveva lui in quest'intricata faccenda chi è il colonnello Reis chiesi non è facile risponderti disse Susanna è un famoso cacciatore caccia grossa naturalmente lo hai sentito dire da lui stesso stasera ero un lontano parente di Sir Lawrence Eartley non l'avevo mai conosciuto di persona prima di questo viaggio ho sentito dire che si reca spesso in Africa corre voce che faccia parte del servizio segreto ma non so se sia vero è di certo un uomo molto misterioso immagino che avrà ereditato molti soldi alla morte di Sir Eartley mia cara Anne naviga sicuramente nell'oro sai che sarebbe uno splendido partito per te piccola zingara è inutile che io cerchi di accalappiarlo finché ci sei tu a bordo dissi ridendo ho queste donne sposate sì lo ammetto abbiamo una certa attrattiva mormorò Susanna con aria compiaciuta tutti sanno che sono fedele e devota al mio Clarence mio marito lo sai è così piacevole e rassicurante fare la corte ad una donna che si sa fedele al marito come deve essere felice Clarence di averti per moglie mia cara è logorante vivere con me mia cara lui per sua fortuna può sempre fuggire e rifugiarsi al ministero degli esteri dove si fissa il monocolo nell'occhio e si addormenta sulla sua poltrona si potrebbe mandargli un telegramma per chiedergli tutto ciò che sa del colonnello Reis adoro mandare telegrammi Clarence invece li considera fastidiosi dice sempre che sarebbe bastato una lettera temo che non ci direbbe molto è maledettamente discreto è una delle qualità che rendono la vita vicina a lui così difficile ma torniamo ai nostri progetti matrimoniali sono sicura che il colonnello Reis è molto attratto da te Anna lanciagli un paio di occhiate assassine con quei tuoi occhi da seduttrice e sarà ai tuoi piedi tutti finiscono con il fidanzarsi a bordo non c'è nient'altro da fare non voglio sposarmi non vuoi sposarti chiese Susanna stupita perché no a me piace moltissimo essere sposata persino con Clarence non avevo voglia di seguirla su questo terreno frivolo e impertinente quello che voglio sapere dissi con voce risoluta e che cosa c'entra il colonnello Reis in questo guazzabuglio non credi che ci abbia raccontato quella storia per puro caso vero no non ci credo dissi con ferma certezza ci stavo osservando tutti attentamente ricordi che ci ha detto che alcuni diamanti sono stati ritrovati e altri no forse questi sono quelli che mancavano o forse forse non risposi direttamente vorrei sapere dissi che cosa ne è stato dell'altro giovane non è Arsley ma quell'altro come si chiamava Lucas stiamo comunque riuscendo a fare un po' di luce in questa brutta storia tutti stanno sicuramente cercando i diamanti ed è stato per impadronirsene che l'uomo vestito di marrone ha ucciso Nadina non l'ha uccisa ribattei aspramente ma certo che l'ha uccisa chi altri avrebbe potuto farlo non lo so ma sono sicuro che non l'ha uccisa lui è entrato nella casa tre minuti dopo di lei e ne è subito uscito pallido come un cencio lavato perché l'ha trovata morta nessun altro è entrato a Mill House allora l'assassino era già nella villa oppure è entrato da un'altra parte può non essere passato dalla portineria e aver scavalcato il muro di cinta Susanne mi guardò con un sguardo indagatore l'uomo vestito di marrone disse pensierosa Susanne chissà chi è la sua descrizione è comunque identica a quella del medico della metropolitana ha sicuramente avuto il tempo di togliersi il travestimento e di seguire la donna sin a Marlow Nadina e Carton si erano sicuramente dati un appuntamento lì poiché tutti e due avevano il permesso di visitare la casa e se avevano preso tante precauzioni per far sembrare il loro incontro casuale era probabilmente perché temevano di essere seguiti tuttavia Carton non sapeva che il suo inseguitore fosse l'uomo vestito di marrone quando lo ha riconosciuto ha avuto tanta paura che ha perso completamente la testa e facendo involontariamente quel passo indietro è caduto sui binari mi sembra abbastanza chiaro non credi Anna non risposi si è andata così il falso medico gli ha poi tolto il foglietto dalla tasca e nella fretta lo ha lasciato cadere ha seguito la donna sin a Marlow ma in seguito che cosa ha fatto dopo averla uccisa o secondo te dopo averla trovata morta dove è andato rimasti di nuovo zitta mi chiedo ora proseguì Susanna sempre pensierosa se non è possibile che abbia convinto Sir Reustas a portarlo con sé a bordo come segretario un'occasione eccezionale per lasciare l'Inghilterra senza dare nell'occhio e sollevare sospetti ma come è riuscito a persuadere Sir Reustas sembra avere un certo potere su di lui o su Padgett le suggerì mio malgrado mi sembra che tu non abbia molta simpatia per quel povero Padgett Anne Sir Reustas dice che è un giovane capace è un gran lavoratore per quanto ne sappiamo noi potrebbe proprio esserlo ebbene per proseguire nella mia ricostruzione dei fatti è chiaro che l'uomo vestito di marrone è Reiborno ha fatto in tempo a leggere il foglietto che poi ha perso ingannato come lo sei stata tu dalla macchiolina ha tentato di raggiungere la cabina numero 17 all'una di notte del 22 dopo aver cercato in precedenza di assicurarsi la cabina mediante l'intervento di Padgett mentre si starra e canda all'appuntamento qualcuno gli infligge una coltellata chi la interrompe chi c'è sta si tutto combina telegrafa all'ordo nasbi che hai scoperto chi è l'uomo vestito di marrone e la tua fortuna è fatta mia cara Anna hai trascurato parecchi dettagli quali Reiborno ha una cicatrice sulla guancia lo so ma non è difficile farsela con un buon trucco inoltre corrispondono figure e statura a proposito com'è che hai descritto la testa di quel giovane stendendo a terra gli uomini di Scotland Yard mi senti tremare Susanne era una giovane donna colta e di buone letture pregai che i termini usati in antropologia non le fossero noti dolicocefalo dissi con tono leggero Susanne mi fisso dubbiosa è stata la parola che hai usato sì significa testa a forma allungata lo sai descrive una testa la cui larghezza è meno del 75% della sua lunghezza le spiegai con abbondanza di dettagli ci fu una lunga pausa stava ricominciando a respirare liberamente quando Susanne mi chiese bruscamente e come si dice l'opposto che cosa intendi dire con l'opposto beh ci sarà di sicuro un opposto come si chiamano le teste la cui larghezza supera il 75% della lunghezza brachicefalo mormorai contro la mia volontà ecco cos'era ricordavo il termine che mi hai detto poco fa davvero è stato un lapsus intendevo dire dolicocefalo dissi con tutta la sicurezza di cui fui capace Susanne mi osservò con molta attenzione poi si mise a ridere sei bravissima a mentire mia cara piccola zingara ma eviteremo di perdere tempo e di fare inutili errori se mi vorrai dire tutta la verità non ho nient'altro da dire ribattei imbronciata davvero accidenti credo proprio che te lo dovrò dire a mi si controvoglia non è che me ne vergogni non ci si può vergognare di qualcosa che ti capita tra capo e collo non ci capisco molto è stato detestabile maleducata è ingrato ma questo posso capirlo si è comportato come un cane che è stato maltrattato o incatenato un cane che morderebbe chiunque ecco come è stato amaro e sarcastico non so proprio perché gli voglio bene eppure lo confesso ci tengo molto a lui e al suo avvenire mi è bastato vederlo per pochi minuti e tutta la mia vita è cambiata mi sono innamorata innamorata follemente attraverserei tutta l'Africa a piedi per ritrovarlo farei di tutto perché anche lui mi amasse sarei la sua schiava morirei per lui lavorerei per lui ruberei per lui chiederei l'elemosina per lui ecco ora lo sai Susanna rimase silenziosa continuando a fissarmi hai un carattere così poco inglese mia piccola zingara disse finalmente non c'è un briciolo di sentimentalismo nel tuo temperamento non ho mai incontrato nessuno che potesse essere insieme così pratico e passionale per mia fortuna non potrò mai amare con tanta dedizione eppure in fondo ti invidio è importante essere così capace di amare sono in pochi ad averne il coraggio quel tuo medico di paese che hai rifiutato di sposare è stato fortunato se l'è cavata per il rotto della cuffia non mi sembrava abbastanza audace da tenere in casa una persona così esplosiva come sei allora niente telegramma all'ordo nasbi se ho ben capito scossi la testa eppure eppure sei convinta che sia innocente vero sono anche convinta che si possono impiccare gli innocenti sì questo è vero ann bisognerà che tu affronti la realtà dei fatti nonostante la tua convinzione lui potrebbe aver assassinato la donna no dissi non l'ha uccisa lui stai lasciando parlare i tuoi sentimenti no non si tratta di sentimenti potrebbe averla uccisa potrebbe anche averla seguito sin alla villa con quell'idea in mente ma sono sicura che non si sarebbe servito di una cordicella nera per strangolarla se l'avesse uccisa lui l'avrebbe fatto con le sue mani nude Susanna rabbrividì socchiuse gli occhi come se stesse soppesando e valutando la ragazza che le stava davanti mmm Anna comincio a capire perché trovi così attraente quel tuo giovanotto capitolo sedicesimo il mattino successivo ebbi la possibilità di far parlare il colonnello Reis era appena terminato il sorteggio della lotteria e stavamo passeggiando insieme sul ponte come state piccola zingara stamane desiderata ancora la terra ferma e il carrozzone scossi la testa ora che il mare è calmo sento che potrei stare qui per sempre che entusiasmo ci appoggiamo tutte e due al parapetto il mare era piatto come uno specchio sembrava che le onde fossero state avvolte da una spessa coltre d'olio si notavano qua e là molte enormi macchie di colore che andavano dal blu all'azzurro al verde pallido al verde smeraldo con strane strisce dorate che nell'insieme ricordavano una pittura cubista di tanto in tanto quella superficie quasi immota veniva interrotta dal rapido guizzare argenteo di un pesce volante l'aria era calda umida quasi appiccicosa il soffio una carezza profumata ci avete raccontato ieri sera una storia molto interessante dissi interrompendo un lungo momento di silenzio quale quella dei diamanti è proprio vero che le donne si interessano sempre ai diamanti naturalmente a proposito che ne è stato dell'altro giovane ci avete detto che erano in due vero il giovane lucas beh non lo si poteva certo trascinare in tribunale da solo quindi anche lui se l'è cavata e che cosa ne è stato di lui voglio dire com'è finito c'è qualcuno che lo sa il colonnello reis stava fissando un punto in lontananza la sua faccia era priva di espressione come una maschera ma intuivo che la mia domanda lo disturbava ciò nonostante mi rispose senza troppo esitare si è arruolata anche lui ha fatto coraggiosamente il suo dovere lo hanno dato per ferito e disperso si pensa che sia morto anche lui avendo avuto l'informazione che mi premeva preferì non insistere provai più che mai il desiderio di scoprire che cosa sapeva veramente il colonnello reis e quale era il suo ruolo in quella vicenda confusa e complessa c'era un'altra piccola indagine da fare interrogai il cameriere di notte un piccolo incoraggiamento finanziario lo spinse a parlare spero che la signora non si sia spaventata mi è sembrato uno scherzo innocuo se ho ben capito si era trattato di una scommessa mi feci raccontare tutta la storia durante il viaggio da città del capo a Sudempton uno dei passeggeri gli aveva consegnato la pellicola dandogli l'ordine di farla cadere sulla cucetta della cabina 71 a luna di notte del 22 durante il viaggio di ritorno una signora avrebbe occupato la cabina non sapeva più se si trattava di uno scherzo o di una scommessa il cameriere aveva ricevuto una lauta mancia per questo suo piccolo servizio non gli avevano specificato il nome della signora e siccome Susanna era andata direttamente in quella cabina dopo aver parlato con il commissario appena messo piede sul piroscafo il cameriere non aveva nemmeno lontanamente sospettato che non potesse essere lei la signora in questione il nome del passeggero che gli aveva chiesto di fare quello scherzo era Carton e la descrizione corrispondeva esattamente a quella dell'uomo che era morto nella metropolitana così almeno uno dei tanti misteri era stato chiarito e i diamanti erano ovviamente la chiave di tutta la faccenda gli ultimi giorni sul Kilmorden Casfor lo passarono rapidi ci stavamo avvicinando a città del capo e io fui costretta a riflettere seriamente e a pianificare il mio immediato futuro c'erano tante persone che volevo sorvegliare Kicester Sire Eustaz e il suo segretario e naturalmente sì anche il colonnello Reis come fare? naturalmente era Kicester che reclamava tutta la mia attenzione mi trovavo quasi sul punto di scartare dalla lista dei sospetti Sire Eustaz e il suo segretario dalla faccia patibolare Guy Paget quando una conversazione ascoltata per caso risvegliò tutti i miei dubbi non avevo dimenticato l'ispiegabile turbamento che sembrava attanagliare Paget ogni volta che si parlava dell'Italia e di Firenze l'ultima sera a bordo eravamo tutti seduti sul ponte e Sire Eustaz rivolse una domanda del tutto innocente al suo segretario ho dimenticato la domanda ma ho il vago ricordo che si trattava dell'abituale ritardo con cui viaggiavano i treni della penisola notai subito che Paget eri in preda al solito imbarazzo già riscontrato in precedenza quando Sire Eustaz invitò a ballare la signora Blair ne approfittai per cambiare posto e andare a sedermi vicino al segretario con l'intento di andare in fondo alla questione che mi incuriosiva ho sempre desiderato andare in Italia dissi e avrei tanto voluto visitare Firenze vi siete molto divertito quando ci siete stato sì certo signorina Bellinfiel ma vi prego di scusarmi devo andare a terminare la corrispondenza di Sire Eustaz lo afferrai risoluta per la manica della giacca oh non dovete scappare gli gridai con la voce querula di un'anziana signora offesa sono certa che a Sire Eustaz non farebbe piacere sapere che mi avete abbandonato qui sola senza nessuno con cui chiacchierare mi sembra che non vi faccia mai piacere parlare di Firenze oh caro signor Paget credo proprio che voi stiate nascondendo un vergognoso segreto la mia mano era ancora appoggiata al suo braccio avvertì subito il sussulto che lo scosse ma no signorina Bedinfield cosa dite ribatté ansioso sarei felice di raccontarvi tutto del mio soggiorno ma vi assicuro che ho ancora molto da fare ci sono i telegrammi oh signor Paget queste sono solo scuse lo dirò a Sireustaso non proseguì nemmeno e lo sentì tremare quell'uomo aveva i nervi a fior di pelle che cosa volete sapere il tono di martire rassegnato mi fece sorridere oh voglio sapere tutto il panorama gli ulivi l'arte mi fermai non sapendo che altro dire suppongo che sappiate parlare l'italiano affermai a guisa di commento riassuntivo non ne so neanche una parola purtroppo ma naturalmente mi sono arrangiato con l'aiuto dei portieri d'albergo e delle guide certo mi affrettai a proseguire e ditemi qual è stato il quadro che vi ha colpito di più oh beh la madonna la madonna di raffaello cara cara vecchia Firenze mormorai con tono sentimentale ed evocatore le rive dell'Arno così pittoresche un fiume magnifico e il Duomo vi ricordate il Duomo naturalmente naturalmente un altro magnifico fiume vero azzardai quasi più bello dell'Arno sì senza dubbio direi incoraggiata dal successo del mio modesto tranello continuai sulla stessa scia ma ormai non avevo più dubbi Paget si stava consegnando nelle mie mani ad ogni parola che aggiungeva quell'uomo non era mai stato a Firenze in vita sua ma se non era a Firenze dove era andato in Inghilterra in Inghilterra proprio quando era stato compiuto quel misterioso delitto nella villa di Sireustaz decisi di fare un altro tentativo pieno di audacia esaminai l'espressione della sua faccia senza nascondere il mio intento i suoi occhi avevano lo sguardo di un animale braccato si passò la lingua sulle labbra aride dove dove mi sembra di avervi visto terminai per lui la frase rimasta in sospeso forse a Marlow siete stata a Marlow signor Paget a che sciocca Sireustaz ha una casa in quel soborgo di Londra vero? mormorando una scusa incoerente la mia vittima si alzò e prese la fuga ancora in preda all'eccitazione quella stessa sera mi precipitai nella cabina di Susanne dopo averle raccontato tutto dissi ti rendi conto Susanne paggetter in Inghilterra a Marlow il giorno del delitto sei ancora così certa che l'assassino sia l'uomo vestito di marrone? di una cosa sono più che certa esclamò Susanne gli occhi pieni di malizia di che cosa? sono convinta che l'uomo vestito di marrone è sicuramente molto più affascinante del povero paggett no Anna non ti irritare sto solo scherzando siediti scherzi a parte credo che tu abbia fatto una scoperta importante finora avevamo tutte e due pensato che paggett avesse un buon alibi ora sappiamo che non ce l'ha è vero rincarai dobbiamo tenere d'occhio anche lui come tutti gli altri aggiunse Susanne tristemente ecco questo è uno degli argomenti che volevo discutere con te questo è il latte economico no non fare quella faccia altezzosa lo so che sei assurdamente orgogliosa e indipendente ma dovrai ascoltare il mio ragionamento che è pratica e sensato siamo socia non ti offrirei nemmeno un soldo perché mi sei simpatica o perché sei una ragazza sola ciò che desidero è l'avventura e sono pronta a pagare per esservi coinvolta dobbiamo agire insieme e senza badare a spese tanto per cominciare verrai con me al Mont Nelson Hotel e sarò io a pagare il conto lì progetteremo il nostro piano di battaglia discutemmo a lungo e alla fine dovetti cedere non ero particolarmente soddisfatta della situazione in cui mi veniva a trovare avevo voluto fare tutto di testa mia allora siamo d'accordo vero disse Susanna alzandosi stiracchiandosi e nascondendo uno sbadiglio questo sforzo di eloquenza mi ha stancato e ora parliamo delle nostre vittime chi cesta parte per Durban Sireustaz scenderà allo stesso nostro albergo di città del capo e poi si preparerà a partire per la Rhodesia mi ha detto che riserverà un vagone privato che farà agganciare al treno in un momento di buon umore dopo la sua quarta coppa di champagne l'altra sera mi ha offerto un posto sono quasi sicura che non ci tiene particolarmente ma se insisto non potrà tirarsi indietro bene approvai tu ti incaricherai di controllare Sireustaz e Paget io mi occuperò di Ticester e il colonnello Reis Susanna mi fissò con uno sguardo sorpreso Ann non mi dirai che sospetti anche lui certo sospetto tutti mi sto guardando in giro e i miei sospetti si appuntano anche su quelli che sembrano essere gli indiziati meno probabili anche il colonnello Reis deve recarsi in Rhodesia disse pensierosa Susanna se si potesse convincere Sireustaz ad invitare anche lui sono certa che ce la faresti ti riesce sempre tutto come mi piacciono i complimenti mormorò Susanna deliziata ci siamo separate con l'intesa che Susanna avrebbe adoperato il suo talento nel migliore dei modi mi sentivo troppo eccitata per andare subito a letto era la mia ultima notte a bordo il mattino seguente era previsto il nostro arrivo nella rada di Table Bay sgusciai sul ponte la brezza era fresca e frizzante il piroscafo stava dolcemente rollando su un mare appena increspato il ponte era buio e deserto era passata la mezzanotte mi appoggiai al parapetto per osservare meglio la traccia spumeggiante che la nave lasciava nella sua scia davanti a noi c'era l'Africa e noi ci stavamo avvicinando rapidamente solcando un mare dalle onde scure mi senti sola in un mondo meraviglioso avvolti in una strana coltra di pace rimassi a lungo in piedi senza badare al tempo che scorreva persa in un sogno all'improvviso provai una strana premonizione di pericolo non avevo udito alcun rumore eppure mi voltai istintivamente un'ombra mi aveva raggiunto alle spalle nell'attimo stesso in cui mi voltai mi balzò addosso una mano mi afferrò alla gola soffocando il grido che avrei potuto lanciare lottai disperatamente senza speranza la stretta di quella mano forte mi stava togliendo il fiato ma io continuai a dibattermi mordevo graffiavo colpivo con quanta forza avevo usando tutte le risorse di un colpo femminile l'uomo era un po' impedito dal suo tentativo di non permettermi di gridare se fosse riuscita a raggiungermi alle spalle e a prendermi di sorpresa gli sarebbe stato facile gettarmi in mare facendomi volare oltre il parapetto gli squali avrebbero terminato l'opera pur continuando a lottare sentì che stavo per cedere lo capì anche il mio aggressore che raddoppiò i suoi sforzi proprio allora dopo una corsa silenziosa sul tavolato fummo raggiunti da un'altra ombra che con un pugno formidabile mandò a terra il mio aggressore liberata mi appoggiai al parapetto stravolta e tremante il mio salvatore si voltò rapidamente verso di me siete ferita c'era un tono stranamente violento nella sua voce una minaccia per chi osava attentare alla mia incolumità lo avevo naturalmente riconosciuto subito anche prima che parlasse era il mio uomo l'uomo della cicatrice quel momento di distrazione bastò all'uomo colpita e finita a terra rapido come un lampo si rialzò e si mise a correre con un'imprecazione Raiburno si lanciò sulle sue tracce sono incapace di accettare di essere lasciati indietro mi precipitai anch'io all'inseguimento girammo intorno al ponte e poco dopo vicino alla porta del salone c'era un uomo accovacciato per terra Raiburno era chino su di lui lo avete colpito di nuovo chiesi senza fiato non è stato necessario mi rispose bruscamente l'ho trovato svenuto vicino alla porta oppure non essendo riuscita ad aprirla ha fatto finta di perdere conoscenza lo sapremo subito e sapremo anche chi è il vostro aggressore il cuore in tumulto mi avvicinai mi resi subito conto che il mio aggressore era un uomo molto più alto del reverendo Kicester e comunque Kicester era un uomo subdolo che avrebbe preferito usare il coltello piuttosto che il pugno e che non aveva probabilmente molta forza nelle mani Raiburn accese un fiammifero tutti e due ci lasciamo sfuggire un'esclamazione l'uomo era Guy Paget Raiburn sembrava assolutamente stupefatto dalla scoperta Paget mormorò mio dio Paget provai un sottile senso di superiorità mi sembrate sorpreso lo sono disse con tono perplesso non avrei mai pensato si voltò improvvisamente e mi fissò e voi voi non siete sorpresa lo avete riconosciuto quando vi ha aggredito no non l'ho riconosciuto allora ma non importa non sono sorpresa seguitò a fissarmi sospettoso non riesco a capire come mai siete coinvolti in questa faccenda che cosa sapete veramente sorrisi sono moltissime cose signor lucas mi afferrò per un braccio l'inconsapevole forza della sua presa mi strappò una smorfia di dolore da dove avete tirato fuori questo nome chiese con voce roca perché non è il vostro nome gli chiesi con voce flautata oppure preferite essere chiamato l'uomo dal vestito marrone accusò il colpo mi lasciò il braccio e fece un passo indietro siete una ragazza o una strega sussurrò attonito sono un'amica mossi un passo verso di lui poche notti fa vi ho già offerto il mio aiuto ve lo offro di nuovo lo accetterete mi sorprese la violenza della sua risposta no non voglio avere a che fare né con voi né con qualunque altra donna dannazione fate tutto quello che volete ma lasciatemi in pace come era capitata al nostro primo incontro cominciai a perdere la pazienza non vi rendete conto che siete il mio potere ribatte ironica una parola al capitano diteglielo mi schernì lui poi avvicinandomisi e poiché mi spingete ad avere una visione realistica della situazione in cui ci troviamo sarà bene che vi rendiate conto anche ragazza mia che ora siete nelle mie mani potrei stringerle intorno a questa bella gola bianca con un rapido gesto fece seguire l'atto alle parole sentire le sue mani stringersi appena intorno al mio collo ecco potrei fare così e togliervi la vita e poi come ha tentato di fare questo nostro amico che ha perso conoscenza ma con maggiore successo potrei buttarvi oltre il parapetto e abbandonarvi agli squali che cosa ne dite non dissi niente risi eppure sapevo che il pericolo era reale in quel momento lui mi odiava ma io sapevo di amare il pericolo di amare la dolce sensazione delle sue mani sulla mia gola indifesa non avrei barattato quell'attimo con qualunque altro momento della mia vita all'improvviso con una breve risata mi lasciò andare come vi chiamate mi chiese bruscamente Ann Bedinfield non c'è niente che vi faccia paura Ann Bedinfield oh sì dissi con una freddezza che ero lungi dal provare mi fanno paura le vespe le donne sarcastiche i ragazzi molto giovani gli scarafaggi e alcuni commessi di negozio pieni di boia rise brevemente come aveva fatto un attimo prima poi toccò con un piede il corpo abbandonato di Paget che cosa ne facciamo di questa porcheria lo buttiamo a mare chiese con non curanza se lo volete gli risposi sullo stesso tono ammiro la vostra calma e i vostri istinti sanguinari signorina Bedinfield ma preferisco lasciarlo qui non tarderà a riprendersi non ha niente di grave non vi va di commettere un secondo delitto vedo dissi dolcemente un secondo delitto pareva sinceramente sorpreso la donna di Marlow gli ricordai osservando da vicino l'effetto delle mie parole l'espressione del suo viso si fece cup e truce aveva dimenticato la mia presenza avrei potuto ucciderla disse credo anzi di avere a volte avuto l'intenzione di ucciderla un selvaggio groviglio di sentimenti violenti mi invase provavo un odio profondo per la donna morta avrei potuto ucciderla anch'io se l'avessi avuta la di fronte a me avevo capito lui l'aveva amata ne ero certa solo per questo poteva provare un sentimento di odio così forte ripresi il controllo dei miei sentimenti e riuscì a parlare con una voce quasi normale mi pare che ci siamo detti l'essenziale buonanotte buonanotte signorina beddinfield e addio au revoir caro signor lucas trasalì di nuovo udendo il suo nome si avvicinò perché lo dite perché au revoir perché ho l'impressione che ci rivedremo mai più se dipende da me usò un tone effatico ma non mi offese al contrario provai un profondo senso di piacere non sono così sciocca eppure ripetei con aria seria sono certa che ci rivedremo perché scossi la testa incapace di spiegargli le sensazioni che mi avevano spinto a dirgli quelle parole io mi auguro di non vedervi mai più disse bruscamente e con contenuta violenza non si mostrava particolarmente gentile nei miei confronti eppure mi limitai a ridere dolcemente e a sparire nel buio lo sentì muovere qualche passo alle mie spalle fermarsi una parola fluttuò nell'aria calda ho l'impressione che fosse strega capitolo diciassettesimo estratto dal diario di Sir Eustace Pedler Mount Nelson Hotel città del capo sbarcare dal Kilmorden Castle è stato un vero sollievo per tutto il tempo in cui sono rimasta a bordo ho avuto la sensazione di essere circondato da una fitta rete di intrighi per colmo di orrore Guy Padgett la notte scorsa ha avuto la bella idea di lasciarsi coinvolgere in una rissa di ubriachi sono sono anche disposta a trovargli delle giustificazioni ciò non toglie che si è proprio trattato di questo una rissa tra ubriachi che altro vi verrebbe in mente se vi foste visto apparire davanti agli occhi un uomo che aveva un bernoccolo sulla testa grosso come un uovo di piccione e un occhio che stava assumendo tutti i colori dell'arcobaleno naturalmente Paget ha tentato di farmi credere che ci fosse un lato misterioso in questa sua squallida vicenda secondo lui l'occhio nero gli è stato fatto perché aveva cercato con la solita devozione di curare i miei interessi la storia che mi ha raccontato mi è sembrata confusa e farraginosa mi c'è voluto un bel po' di tempo per farla quadrare per prima cosa pare che abbia visto un uomo dal fare sospetto sono le sue precise parole che penso gli siano state suggerite da quei romanzi polizieschi tedeschi che legge quando gli ho chiesto cosa intendesse dire con fare sospetto non è stati in grado di spiegarmelo in modo esauriente si è limitata ad insistere stava camminando furtivamente ed era già passata la mezzanotte beh e voi pagget che cosa ci facevate in giro a quell'ora perché non eravate già andate a letto come ogni buon cristiano timorato di dio gli ho chiesto irritato stavo preparando quei telegrammi che dovevamo spedire sir e ustaz e avevo battuta a macchina le ultime pagine del vostro diario pagget non si lascia mai prendere in castagna ha sempre una spiegazione plausibile e non manca mai l'occasione di atteggiarsi a martire e allora ho pensato di fare un giro prima di andare a letto sir e ustaz l'uomo veniva dal corridoio che porta alla vostra cabina ho subito capito che c'era qualcosa di poco onesto nel suo comportamento è sgusciato per le scale che portano al salone e l'ho seguito mio caro paggett gli ho detto perché mai quel pover uomo non doveva salire indisturbato sul ponte senza avere qualcuno alle calcagne c'è persino gente che va a dormire sul ponte anche se ho sempre pensato che era terribilmente scomodo farlo pensate essere svegliati la mattina all'alba dai marinai che puliscono il ponte rabbrividivo solo all'idea se comunque vi siete messo a seguire un poveretto che soffriva di insonnia non mi stupisco che vi abbia steso con un pugno ben assestato paggett mi ascoltava paziente si reustase vi prego ascoltatemi sin in fondo ero convinto che quell'individuo fosse andato ad aggirarsi furtivamente vicino alla vostra cabina non avrebbe dovuto essere in quei paraggi il fondo del corridoio da cui l'ho vista emergere porta solo alla vostra cabina e a quella del colonnello Reis Reis ho detto accendendo con cura il mio sigaro è perfettamente in grado di badare a se stesso senza il vostro aiuto paggett poi ho aggiunto dopo averci ripensato e lo sono anch'io allora paggett si è avvicinato e respirando pesantemente come sempre gli succede quando è sul punto di svelarmi un segreto ha detto vedete si reustase mi è sembrato e ora ne sono certo era Rayburn Rayburn si si reustase scossi la testa Rayburn è un giovane troppo sensato per venirmi a svegliare nel bel mezzo della notte avete ragione si reustase penso che sia andato a trovare il colonnello Reis un incontro segreto per farsi dare gli ordini smettetela di sussurrarmi nell'orecchio paggett ho detto allontanandomi da lui e controllate il vostro respiro la vostra idea è assurda perché mai dovrebbero organizzare un incontro segreto nel bel mezzo della notte se avessero qualcosa da dirsi lo potrebbero fare sul ponte bevendo una tazza di brodo in modo del tutto casuale naturale ho capito subito di non aver convinto il mio sospettoso segretario ieri sera è sicuramente successo qualcosa ha insistito altrimenti perché mai Rayburn avrebbe dovuto assalirmi con tanta violenza siete sicuro che sia stato Rayburn paggett ne era assolutamente convinto era anzi il solo dettaglio di tutta quell'oscura vicenda di cui fosse sicuro c'è qualcosa di molto strano e inspiegabile in ciò che mi è successo ha detto inoltre dove è ora Rayburn questo è vero da quando siamo sbarcati non abbiamo più rivisto quel giovanotto non è venuto in albergo con noi e mi rifiuto di credere che abbia paura di incontrare il mio povero paggett tutta questa storia è molto seccante uno dei miei segretari è sparito nel nulla e l'altro assomibile ad un pugile in declino non posso permettermi di portarlo in giro con me in quelle deplorevoli condizioni mi farei prendere in giro da tutta la società che conta di città del capo ho un appuntamento importante per consegnare la lettera sigillata che mi ha affidato a Londra il vecchio Milray ma non mi farò accompagnare da paggett al diavolo lui e la sua mania di mettere il naso nelle faccende che non lo riguardano sono inoltre piuttosto infuriato mi hanno servito un'orrenda prima colazione ci è voluto una mezz'ora alla cameriera olandese dalle gambe pesanti per portarmi un immangiabile filetto di aringa era ancora stanco per essermi dovuta alzare alle 5 del mattino non appena siamo entrati in porto per subire il solito rito farsesco al quale vengono sottoposti dal medico tutti coloro che sbarcano in Sudafrica più tardi è accaduto un fatto molto grave sono andata all'appuntamento con il primo ministro portando con me la busta sigillata che mi aveva consegnato Milray a vederla sembrava intatta eppure quando è stata aperta conteneva solamente un foglio bianco e ora sono in un mare di guai perché mai ho permesso a quel vecchio sciocche piagnucoloso di Milray di mettermi in questo pasticcio Paget come al solito non mi è di alcun conforto sulla sua faccia c'è ora un'espressione di cupa soddisfazione che mi esaspera ha approfittato del mio turbamento per appiopparmi il baule della cancelleria a meno che non si comporti con molta prudenza il primo funerale a cui assisterà sarà il suo tuttavia alla fine sono stato costretto ad ascoltarlo Sireustaz supponete che Rayburn abbia sentito per caso parte della vostra conversazione con Milray gli avete creduto senza mettere in dubbio le sue parole eppure ricordatevi che non aveva in mano nessun ordine scritto da parte di Milray allora pensate che Rayburn sia un imbroglione gli ho chiesto parlando lentamente Paget ne era convinto non saprei dire se questa sua opinione fosse influenzata dal risentimento che provava per il pugno che si era beccato comunque sia è riuscita a pronunciare un atto d'accusa ben circostanziato contro Rayburn la cui scomparsa pareva dimostrare che forse il mio Paget non aveva tutti i torti di sospettarlo io continuava a pensare che non avesse niente a che fare con il guaio in cui mi sono trovato un uomo che si è lasciato raggirare non ha nessuna voglia di farlo sapere agli altri ma Paget reso più energico e risoluto dal suo recente infortunio era propenso ad usare le misure forti e alla fine mi sono naturalmente lasciato convincere Paget si è precipitata alla stazione di polizia ha mandato un numero impressionante di telegrammi ha convocato una schiera innumerevole di poliziotti inglesi e olandesi offrendo loro a mie spese un'incredibile quantità di bevande abbiamo avuto stasera la risposta di Milray non ha mai saputo nulla del mio secondo segretario da tutta quella situazione assurda ho potuto trarre un solo elemento di conforto possiamo essere certi mio caro Paget gli ho detto che voi non siete stato avvelenato soffrivate come vi ho sempre detto di una delle vostre solite crisi di fegato l'ho visto trasalire è stato il solo colpo che sono riuscita a mettere a segno oggi un po' più tardi ancora Paget sembra muoversi nel suo elemento dal suo cervello sprizzano in continuazione brillanti idee sostiene ora che Rayburn è il famoso uomo vestito di marrone e forse ha ragione in genere ha sempre ragione ma tutta la faccenda comincia a diventare spiacevole non vedo l'ora di partire per la Rhodesia lo farò non appena mi sarà possibile ho già spiegato a Paget che non mi accompagnerà vedete mio caro ragazzo gli ho detto voi dovete rimanere qui potranno avere bisogno di voi per identificare Rayburn inoltre io devo assolutamente pensare alla mia dignità di membro del parlamento non posso andare in giro con un segretario che di recente si è lasciato coinvolgere in una rissa di ubriachi Paget trasalì di nuovo è un uomo così ligio alla rispettabilità che il suo occhio nero lo addolora ed è fonte di imbarazzo e di vergogna e la corrispondenza e gli appunti per i vostri discorsi provvederò in qualche modo ho replicato con tono distaccato il vostro vagone privato sarà collegato domani al treno che parte alle 11 proseguì Paget ho provveduto a tutto la signora Blair parte con la sua cameriera la signora Blair mi ha detto che le avete offerto un posto nel vostro vagone ora che ci ripenso gliel'ho offerto davvero l'ho fatto la sera del ballo mascherato l'ho persino convinta ad accettare il mio invito ma non ho mai pensato che avrebbe acconsentito per quanto simpatica non so proprio se ho voglia di avere come compagnia di viaggio di andata e ritorno la signora Blair le donne hanno sempre bisogno di troppe attenzioni e a volte sono un'impiccia ad averle tra i piedi non avrò invitato qualcun altro ho chiesto un po' nervosamente in certi momenti di eccessiva espansività si fanno purtroppo questi tragici errori la signora Blair sembra credere che abbiate invitato anche il colonnello Reis mi è sfuggito un gemito se ho invitato il colonnello dovevo proprio essere ubriaco molto ubriaco datemi retta Paget non dimenticate mai il vostro occhio nero spero che vi ricordi sempre gli effetti deleteri dell'alcol Sireustaz lo sapete sono astemio è meglio fare voto di temperanza quando si ha questa debolezza ditemi Paget non ho invitato qualcun altro non che io sappia Sireustaz ho respirato sollevato ci sarebbe la signorina Bendingfield ho detto pensieroso credo che abbia l'intenzione di recarsi in Rhodesia per cercare carani di uomini preistorici mi è venuto in mente di offrirle temporaneamente il posto di segretaria sa battere a macchina lo so me lo ha detto con mia gran sorpresa Paget si è opposto con vehemenza a questa mia idea Ann Bendingfield non gli è simpatica sin dalla sera del suo occhio pesto si agita sola a sentirla nominare Paget è un uomo che sta diventando sempre più misterioso solo per dargli fastidio chiederò a quella ragazza di farmi da segretaria come ho già avuto occasione di dire ha un paio di bellissime gambe capitolo diciottesimo riprende il racconto di Ann non dimenticherò mai per quanto mi sia dato di vivere l'incredibile visione della montagna della tavola mi ero svegliata prestissimo quel mattino e contravvenendo alle regole della vita di bordo mi ero recata sul ponte delle barche perché sentivo che mi ci voleva un gesto di audacia per conquistare il piacere della solitudine stavamo entrando nell'ampio golfo di table bay ai piedi di un vasto arco di monti tra cui spiccavano oltre la montagna della tavola il piccolo il picco del diavolo e la testa di leone s'annidava sulle pendici e si stendeva sino al mare la città ancora addormentata illuminata dai raggi dorati del sole nascente colpita dall'eccezionale maestà della natura mi sentì mancare il fiato e provai quella strana sensazione di vuoto che a volte coglie chi si trova di fronte ad una visione di straordinaria bellezza non sono molto abile a descrivere i sentimenti che sperimentai sapevo solo di aver trovato anche se per un attimo fuggente quello che avevo cercato sin da quando avevo lasciato Little Hamsley qualcosa di nuovo qualcosa che andava al di là dell'immaginazione qualcosa che pareva soddisfare la mia appassionata ricerca di romanticismo in assoluto silenzio così almeno parve a me il Kilmorden Castle scivolava sulle onde e si avvicinava alla terra mi pareva di vivere un sogno purtroppo come capita spesso a chi sogna non mi sembrava possibile di poterlo vivere senza aggiungere mentalmente alle sensazioni che provavo tutta una serie di riflessioni questo è il Sudafrica continuava a ripetermi ossessivamente ansiosa di non dimenticare niente che potesse rendere più profondo e complesso il sentimento che provavo il Sudafrica il Sudafrica questo è il mondo il mondo che hai sempre voluto visitare pensaci Anne Benfield pensaci stai visitando il mondo assorbita dalla visione di città del capo che si stava rapidamente avvicinando avevo pensato di essere sola ma ad un tratto mi accorsi che c'era un'altra figura appoggiata al parapetto prima di voltare la testa avevo già capito di chi si trattava in quella mattinata piena di sole la scena della notte precedente assumeva un aspetto melodrammatico e irreale che cosa aveva pensato di me mi sentì arrossire ricordando ciò che gli avevo detto voltai risolutamente la testa e rimasi in ammirazione delle montagne che coronavano la baia se Raiburno si era recato sul ponte per essere solo io non lo avrei disturbato e non gli avrei fatto notare la mia presenza poco dopo con mia grande sorpresa udì un rumore di passi e una voce gradevole e dal tono gentile signorina Beninfield sì mi voltai vorrei chiedervi scusa mi sono comportato come un orso ieri notte è stata una notte strana mi affrettai a dire non era un'osservazione molto intelligente ma fu la sola che mi venne in mente potete perdonarmi gli tesi la mano senza parlare la strinse ho qualcosa da dirvi e il suo tono si fece più grave signorina Beninfield forse non lo sapete ma siete coinvolti in un imbroglio piuttosto pericoloso l'avevo capito no non l'avete veramente capito non potete conoscerne tutte le moltiplicazioni lasciate perdere non è un problema che vi riguarda non permettete alla vostra curiosità di coinvolgervi in questa faccenda con la quale non avete niente a che fare no per favore non voglio che vi infuriate di nuovo non lo dico per me non potete nemmeno lontanamente immaginare a che cosa potete andare incontro è gente che non ha scrupoli niente li può fermare sono dei criminali siete già in pericolo vi ricordate di ieri di notte vero sono probabilmente convinti che sappiate qualcosa il solo modo che avete per non rischiare è di convincerli che si sbagliano siate prudente e se mai cadete nelle loro mani non cercate di fare la furba dite tutta la verità sarà il solo modo di cavarvela state cercando di spaventarmi signor Raiburno dissi e c'era del vero nelle mie parole perché vi prendete la briga di avvertirmi rimase a lungo in silenzio poi disse a voce bassa potrebbe essere l'ultima cosa che potrò fare per voi quando sarò riuscita a sbarcare sarò in salvo ma potrei non farcela a mettere piede a terra come temo che voi non siate la sola persona a bordo a sapere che sono l'uomo vestito di marrone se credete che sia stata io cominciai a dire offesa mi rassicurò con un sorriso non dubito di voi signorina beddinfield se ve l'ho fatto credere ho mentito no c'è una persona a bordo che lo sa se parla per me sarà la fine tuttavia io punto sportivamente sulla certezza che non dirà niente alla polizia perché perché è un uomo a cui piace agire da solo se la polizia mi arrestasse non gli sarei più di nessuna utilità libero potrebbe succedere tra un paio d'ore lo saprò per certo rise come se si prendesse in giro ma mi accorsi che l'espressione del suo viso si era fatta a cupe determinata puntava tutto sulla sorte ma era sicuramente un buon giocatore capace di perdere e continuare a sorridere non credo che avremo l'occasione di rivederci disse con tono distaccato non lo credo neanch'io risposi con voce lenta addio risposi addio a mia volta mentre lui mi stringeva la mano fissandomi negli occhi poi si voltò bruscamente e un attimo dopo mi lasciò udivo risuonare sulla tolda il rumore dei suoi passi che si allontanavano passi che inesorabilmente ci separavano le due ore che seguirono non furono affatto piacevoli respirai di nuovo liberamente soltanto quando mi ritrovai sulla banchina dopo aver espletato tutte le assurde formalità burocratiche non era stato fatto nessun arresto a bordo mi tornò il buon umore la giornata era bellissima e scoprì che era affamata raggiunsi susanne per quella notte almeno avrei dormito in albergo con lei il piroscopo ripartiva solo il mattino seguente per porta elisabeth e durban un taxi ci portò a mont nelson hotel mi pareva di essere in paradiso il sole l'aria i fiori mi sentii invadere da un'estasi profonda quando pensai al little ampis lì in gennaio il fango in cui si sprofondava sino alle ginocchia la pioggia insistente e tenace susanne non provava il mio stesso entusiasmo era naturalmente una donna che aveva viaggiato molto ed era inoltre raramente in grado di riflettere o di provare sensazioni forti prima di aver fatto colazione rintuzzose veramente il mio entusiasmo che si esprimeva in continue esclamazioni e mi zitti quando mi eccitai alla vista di un colvolvolo gigante tutto coperto di fiori azzurri sarà bene che chiarisca una volta per tutte che questo mio racconto non vuole descrivere il Sudafrica non garantisco il colore locale non ci troverete tutta quella serie di nomi scritti in corsivo che in genere costellano le pagine dei diari di viaggio non ne sarei capace quando si parla del Sudafrica si usa spesso la parola stop so che cosa significa è il nome locale che si dà a quella che noi chiameremmo una veranda accennerò anche alla papaya mi era spesso capitato di leggere della papaya e quel mattino scoprì che cos'era in quanto me ne dettero una larga fetta a colazione e all'inizio dopo il primo boccone pensai che si trattasse di un melone andata male la cameriera olandese chiarì l'equivoco e mi incoraggiò a condirla con zucchero a velo e succo di limone dopo colazione l'umore di Susanne migliorò notevolmente mi avevano dato una stanza vicina alla sua con una magnifica vista sulla baia rimasi ad ammirare il panorama mentre Susanne andava alla ricerca di una crema antisolare la trovò se la spalmò in faccia e finalmente si decise ad ascoltarmi hai visto Sireustaz le chiesi stavo uscendo dalla sala da pranzo proprio quando c'entravamo noi gli avevano servito del pesce che non gli era piaciuto e stava dicendo al capo cameriere quello che ne pensava ha anche buttato a terra una pesca per dimostrargli quanto fosse acerba solo che la pesca non era dura come aveva creduto e si è spiaccicata sul pavimento Susanna sorrise Sireustaz è come me non gli piace alzarsi all'alba disse a proposito hai visto Paget l'ho incontrato in corridoio avevo un occhio opesto chissà che cosa ha combinato ha solo cercato di buttarmi fuori bordo le rispose disinvolta ero riuscita a scuotere la sua indifferenza Susanna smise di spalmarsi il viso di crema e insistette per sapere tutto ciò che era successo l'accontentai questa vicenda sta diventando sempre più misteriosa e confusa esclamò deliziata credevo che mi fosse toccata la parte più facile e che ti saresti divertita molto più di me a seguire il reverendo Kicester ora non ne sono più così sicura spero che Paget non mi scaraventerà fuori dal vagone in una notte scura credo che tu sia ancora al di sopra di ogni sospetto Susanna ma se dovesse capitare il peggio ti prometto che telegraferò a Clarence a proposito di telegram questo mi fa vedere in mente che devo spedirne uno passami un modulo che cosa posso dirgli coinvolta nel più elettrizzante mistero stop inviami subito mille sterline Susanna per economizzare cercai di togliere ciò che non mi sembrava essenziale fatica sprecata Susanna non sa nemmeno che cosa sia l'economia anzi ripensandoci ha aggiunto altre tre parole mi diverto immensamente Susanna era stata invitata a pranzo da alcuni amici che vennero a prenderla verso le undici rimassi sola scesi in giardino mi incamminai lungo un viale ombreggiato che portava alla strada principale passeggiai godendomi il sole osservando la gente di colore soffermandomi davanti alle vetrine scoprì un locale dove vendevano un gelato squisito comprai un cestino di frutta e tornai in albergo in portineria trovai un biglietto mandatomi dal direttore del museo aveva letto sul giornale locale che la figlia del defunto professor Beddinfield era venuta a città del capo con il Kilmorden Castle aveva conosciuto mio padre e lo aveva molto ammirato lui e sua moglie sarebbero stati molto felici di offrirmi quello stesso pomeriggio il tè nella loro villa a Muyzenberg e mi dava le indicazioni necessarie mi fece piacere di sapere che il mio povero padre non era ancora stato dimenticato previdi che avrei dovuto fare una visita guidata del museo prima di lasciare città del capo ma ero disposta a pagare quel modesto tributo per molti sarebbe stato un piacere lo ammetto per me invece forse perché per anni gli studi di mio padre la passione della sua vita mi erano stati ammanniti mattino mezzogiorno e sera rappresentava solo un peso che ero però disposta a sopportare in ricordo del mio genitore misi il mio più bel cappello Susanna lo aveva scartato e lo aveva donato a me indossai l'abito di lino meno strazionato e mi misi in cammino subito dopo il pranzo presi un treno rapido e dopo mezz'ora arrivai a Muizenberg il breve viaggio fu molto gradevole la linea ferroviaria percorreva la base della montagna della tavola gli alberi e i fiori erano splendidi non essendo molto ferrati in geografia non sapevo che città del capo era situata su una penisola fui dunque molto sorpresa quando scendendo dal treno mi accorsi che avevo ancora di fronte a me il mare la spiaggia era piena di gente era ancora presto per il tè decisi di concedermi un bagno di mare molti giovani si lanciavano con il surf sulla cresta delle onde sembrava così facile ebbene non lo è non dirò altro non vogli mollare non mi piace non mi piace dover riconoscere un insuccesso mi ostinai a riprovare poi quasi per caso presi l'onda giusta mi senti trascinare da una forza sconosciuta e provai un momento di gioia esaltante con una certa difficoltà riuscì finalmente a trovare Villa Medici si ergeva isolata sul pendio della montagna lontana dalle altre costruzioni suonai il campanello mi aprì la porta a un indigeno sorridente la signora Ruffing chiesi mi fece entrare e precedendomi andò ad aprire una porta proprio mentre stavo per oltrepassare la soglia esitai provai un improvviso senso di inquietudine la porta si richiusa alle mie spalle un uomo seduta al tavolo si alzò e mi venne incontro la mano tesa sono felice che abbiate accettato di venire a trovarci signorina Beddinfield disse alto corpulento una barba rossa fiammeggiante era certamente di origine olandese non aveva affatto l'aria di un direttore di museo in quel preciso momento mi accorsi di essermi comportata come una sciocca ero nelle mani dei miei nemici capitolo diciannovesimo la situazione nella quale mi trovavo mi ricordò il terzo episodio dei pericoli di Pamela quante volte seduta al cinema rosicchiando una tavoletta di cioccolato avevo desiderato di trovarmi coinvolta in una simile disavventura ebbene ero stata accontentata non mi pareva divertente come avevo creduto nel buio confortevole di una sala cinematografica tutto sembra possibile anche perché si è tranquillizzati dalla certezza che ci sarà sicuramente un altro episodio e che l'eroina non può morire ero nei guai mi tornarono alla mente con una chiarezza sgradevole le parole che mi aveva detto quel mattino Raiburn mi aveva raccomandato dite tutta la verità certo potevo dirla ma mi avrebbero veramente aiutata a trarmi d'impiccio potevo sperare che mi avrebbero creduta come pensare che menti pratiche potessero considerare probabile o possibile che mi fossi lanciata in quella folle impresa solo perché un foglietto di carta trovato per terra ai piedi di un uomo sospetto emanava un vago odore di naftalina io stessa ripensandoci mi rendevo conto di quanto fosse una storia assurda in un momento di fredda lucidità mi maledì e mi accusai di essere stata una romantica idiota quanto mi mancava la monotonia e la noia di Little Ampishly tutti questi ragionamenti mi passarono per la mente in un lampo istintivamente feci un passo indietro e afferrai la maniglia della porta il mio ospite si limitò a sorridere qui siete entrata e qui rimarrete disse ironico feci del mio meglio per non mostrare il mio turbamento sono stati invitata qui dal direttore del museo di città del capo se ho fatto un errore un errore oh sì un grosso errore riserozzamente che diritto avete di trattenermi state attento informerò la polizia smettetela di abbaiare come un cagnolino mi sedetti su una sedia allora posso solo pensare che voi siate un pericoloso demente dissi freddamente davvero vorrei farvi notare che i miei amici sanno dove sono andata e se non dovessi tornare stasera mi verranno a cercare mi capite ah i vostri amici sanno dove siete chi di loro feci un rapido esame delle alternative favorevoli su cui potevo contare per rispondere alla sua sfida era era caso di nominare Sireustasa era un uomo famoso e il suo nome poteva avere un certo peso ma se erano complici di Paget avrebbero subito capito che stavo mentendo meglio non arrischiarsi a fare il suo nome la signora Blair per esempio dissi è una mia amica siamo insieme all'albergo non credo disse il mio ospite scuotendo appena la testa color arancione l'avete vista nella tarda mattinata mentre il biglietto di invito vi è stato consegnato verso l'ora di pranzo le sue parole mi dimostrarono che i miei movimenti erano stati controllati con estrema cura non avevo l'intenzione di cedere senza prima aver dato battaglia vi credete forse molto astuto dissi chissà se anche voi avete sentito parlare di quell'utile invenzione che si chiama telefono la signora Blair mi ha chiamato quando riposavo nella mia camera e le ho detto dove avrei passato il pomeriggio con mia grande soddisfazione vidi un'ombra di preoccupazione passargli sulla faccia non aveva evidentemente previsto che Susanna avrebbe potuto chiamarmi per telefono come avrei voluto che l'avesse fatto basta disse bruscamente alzandosi che cosa intendete fare gli chiesi facendo del mio meglio per non perdere la calma mettervi in un posto dove non ci potrete nuocere se i vostri amici vi verranno a cercare per un attimo mi sentia agghiacciare il sangue nelle vene ma la frase seguente mi rassicurò domani dovrete rispondere a molte domande sapremo dopo quello che dovremo fare di voi vi assicuro signorina che noi abbiamo molti mezzi per costringere gli ostinati e gli sciocchi a parlare la prospettiva non era rassicurante ma perlomeno prometteva una dilazione avevo tempo sino al giorno dopo quell'uomo obbediva evidentemente agli ordini di un superiore paget due indigeni entrarono nella stanza chiamati dall'uomo dei capelli rossi nonostante cercassi di dibattermi e di resistere mi afferrarono mi imbavagliarono e riuscirono a legarmi mani e piedi mi trascinarono in una stanza all'ultimo piano piccola e polverosa era evidente che quella soffitta non era mai stata abitata l'olandese mi feci ironicamente un inchino poi uscì richiudendosi la porta alle spalle non c'era niente che potessi fare per quanto mi girassi e mi divincolassi non riuscì nemmeno ad allentare i nodi che mi immobilizzavano mani e piedi il bavaglio mi impediva persino di gridare se per un'improbabile fortuna qualcuno fosse entrato in quella casa non aveva alcun modo di attirare la sua attenzione udì una porta a chiudersi al piano inferiore l'olandese se ne stava probabilmente andando via l'impotenza a cui ero ridotta mi faceva impazzire dalla rabbia tirai con tutte le mie forze i lacci ma i nodi resistevano alla fine dovetti desistere poi svenni o mi addormentai quando mi risvegliai ero tutt'indolenzita era buio calcolai che la notte doveva essere piuttosto avanzata la luna era alta nel cielo e la sua luce livida entrava attraverso le finestre dai vetri polverosi il bavaglio mi stava soffocando e i muscoli irrigiditi mi facevano male fu allora che gli occhi mi caddero su un pezzo di vetro che giaceva in un angolo della stanza un raggio di luna lo aveva fatto brillare e aveva attirato la mia attenzione mi venne un'idea gambe e braccia erano impedite ma poteva ancora rotolare lentamente penosamente mi misi in movimento non fu facile oltre ad essere estremamente doloroso poiché non potevo proteggere la faccia con le braccia era anche difficile controllare il movimento pareva che riuscissi a rotolare in tutte le direzioni eccetto in quella che mi interessava alla fine arrivai proprio con le mani sull'oggetto del mio desiderio anche allora non fu facile ci volle un tempo infinito prima di riuscire a mettere in posizione il pezzetto di vetro in modo da poterlo usare per tagliare le corde che mi tenevano legata fu un lavoro lungo e penoso non privo di momenti di sconforto ma alla fine ce la feci e riusci a liberarmi le mani il resto fu solo questione di tempo non appena ebbi ristabilito la circolazione nelle mani e nelle braccia mi tolsi il bavaglio e potei respirare liberamente sciolto l'ultimo nodo mi ci volle ancora un po' di tempo prima di riuscire a stare in piedi ero tutta intorpidita avevo fame aspettai per un buon quarto d'ora per essere certa di aver ripreso le forze poi mi avvicinai silenziosamente alla porta come avevo sperato non era chiusa a chiave l'apri e mi affacciai per dare un'occhiata in giro tutto era silenzio i raggi della luna filtrati da un lucernario illuminavano la scala polverosa priva di tappeto scesi lentamente e con estrema cautela nessun rumore mi fermai sul pianerottolo del piano inferiore e da lì udì un leggero e lontano mormorio di voci rimasi immobile e tratteni il fiato un orologio a muro mi informò che era passata la mezzanotte ero perfettamente consapevole del rischio che correvo se fossi scesa più in basso ma la curiosità fu più forte della paura con precauzioni infinite mi preparai a fare un piccolo sopralluogo scesi l'ultima rampa di scale e mi trovai nell'ingresso mi guardai in giro e all'improvviso tratteni il respiro un cafro era seduto davanti alla porta dalla quale ero stata fatta entrare nella villa non mi aveva visto per fortuna mi resi presto conto dal respiro regolare che si era addormentato che fare battere in ritirato o proseguire le voci venivano dalla stanza in cui mi avevano fatto passare quando ero arrivata una era sicuramente quella del mio ospite olandese ma non mi riuscì di riconoscere l'altra benché mi sembrasse vagamente familiare alla fine decisi che avevo il dovere di scoprire tutto ciò che potevo corsi il rischio di svegliare l'indigeno attraversai l'ingresso silenziosamente e andai ad inginocchiarmi davanti alla porta dello studio sulle prime non mi riuscì di capire niente le voci si udivano meglio ma non potevo distinguere le parole invece dell'orecchio accostai l'occhio al buco della serratura come avevo intuito uno degli interlocutori era l'olandese dai capelli rossi l'altro uomo era seduto fuori dal raggio della mia vissuale si alzò all'improvviso per andare a vessarsi da bere le sue spalle rivestite di un abito oscuro e decoroso entrarono nel mio campo visivo prima che si voltasse avevo già capito chi era chi c'è star ora incominciai anche a capire le parole è comunque pericoloso supponi che i suoi amici la vengano a cercare qui era stato l'olandese a parlare chi c'è ester gli rispose aveva completamente abbandonato il tono di voce con punto per questa ragione non l'avevo riconosciuto subito la ragazza ha mentito non sanno assolutamente dove si trova ha parlato con molta fermezza lo credo ma ho esaminato bene la situazione non c'è niente da temere comunque sono gli ordini del colonnello non credo che tu abbia voglia di fare di testa tua l'olandese brontolò qualcosa in una lingua sconosciuta ma perché non darle una botta in testa grugnì sarebbe così semplice la barca è pronta la si potrebbe portare in alto mare sì questo è proprio quello che farei disse chi c'è ester pensieroso sa troppe cose ma il colonnello preferisce agire da solo e secondo un suo preciso disegno quella ragazza potrà forse dargli informazioni preziose aveva fatto una pausa prima della parola informazioni e l'olandese fu svelto a cogliere l'imbeccata informazioni qualcosa del genere diamanti dissi a me stessa e ora passami le liste parlarono a lungo in termini che mi risultarono poco comprensibili pareva che trattassero di imponenti quantitativi di ortaggi udì specificare date prezzi località che mi erano totalmente sconosciute passò una buona mezz'ora prima che finissero di controllare le liste e i conti bene disse Kicester e sentì il rumore della poltrona che respingeva per alzarsi le porterò al colonnello per fargliele vedere quando parti basterà che me ne vada alle 10 di domani mattina vuoi vedere la ragazza prima di andar via no il colonnello ha dato l'ordine preciso di non vederla prima del suo arrivo sta bene le ho dato un'occhiata quando sono rientrato per cena dormiva credo devo darle da mangiare non le farà male digiunare il colonnello arriverà qui domani e se sarà affamata risponderà meglio alle sue domande è meglio che per ora nessuno l'avvicini l'avete legata con cura l'olandese si mise a ridere che ne pensi risero tutti e due e risi anch'io senza farmi sentire poi quando tutta una serie di rumori mi indicò che stavano per uscire dallo studio battei rapidamente in ritirata era tempo ero appena arrivata alle scale quando udì la porta aprirsi in quel preciso momento anche l'indigeno si mosse stiracchiandosi impossibile tentare di raggiungere la porta d'ingresso mi ritirai prudentemente in soffitta raccolsi i pezzi di corda me li avvolsi alle caviglie e ai polsi mi sdraiai a terra facendo finta di dormire nel caso avessero deciso di venire a darmi un'occhiata non lo fecero dopo circa un'ora scesi cautamente le scale un'altra volta ma il cafro era sveglio e stava canterellando avevo un solo desiderio lasciare al più presto quella casa ma non sapevo come fui costretto a tornare in soffitta il cafro sarebbe rimasto di guardia per tutta la notte mi armai di pazienza e attesi al primo mattino udì tutti i rumori delle solite faccende di casa gli uomini mi fecero colazione nella sala del pianterreno potevo udire le loro voci che salivano sino a me cominciava ad innervosirmi come diamine ce l'avrei fatta ad uscire da quella casa mi costrinsi alla pazienza un gesto sbagliato poteva rovinare tutto dopo aver fatto colazione Kicester si preparò a partire con mio grande sollievo l'olandese lo accompagnò aspettai ancora con il fiato sospeso i domestici sparecchiarono il tavolo e si dedicarono ai lavori casalinghi alla fine mi parve che ogni attività fosse cessata uscì di nuovo dalla mia tana e con estrema cautela scesi fino al pianterreno l'atrio era vuota in un lampo lo attraversai aprì la porta e mi ritrovai in pieno sole corsi lungo il viale come una pazza appena fuori dalla proprietà ripresi a camminare con passo normale la gente mi fissava incuriosita e non me ne stupì la mia faccia e le vesti dovevano essere coperti della polvere che avevo raccolto rotolando in soffitta finalmente raggiunsi un'autorimessa entrai ho avuto un piccolo incidente spiegai vorrei un'automobile che mi porti subito a città del capo devo riuscire a prendere il piroscafo per Durban dieci minuti dopo ero su un'automobile che filava rapida in direzione di città del capo doveva accertarmi che Kicester si fosse veramente imbarcato non sapeva ancora se mi sarei imbarcata anch'io o se sarei rimasta non riusciva a decidermi alla fine pensai che fosse più giusto partire anch'io Kicester non poteva sapere che lo avevo visto nella villa di Muezzinberg avrebbe sicuramente cercato di riprendermi in una delle tante trappole che avrebbe potute scogitare ma io ero ormai in guardia era l'uomo che dovevo sorvegliare l'uomo che cercava i diamanti per conto del misterioso colonnello purtroppo i miei piani furono vanificati quando raggiunsi il porto il Kilmorden Castle stava già uscendo dalla baia e non ci fu modo di sapere se Kicester era veramente a bordo capitolo ventesimo mi feci portare in automobile sino all'albergo non c'era nessuno che conoscessi nell'atrio così corsi al piano superiore e andai subito a bussare alla porta di Susanna la sua voce mi disse di entrare appena mi vide mi balzò incontro e mi abbracciò Anna mia cara dove sei stata ero folle di preoccupazione che cosa diamina hai fatto sono stata in balia dell'avventura le risposi terzo episodio dei pericoli di Pamela le raccontai tutto ciò che mi era successo quando ebbe finito Susanna si lasciò sfuggire un profondo sospiro accidenti perché mai a te le avventure più straordinarie perché non sono stata io ad essere imbavagliata e legata mani e piedi non ti sarebbe piaciuto credimi le assicurai io stessa non ho più tanta voglia di avventura non riuscì a convincerla un'ora di quello che avevo provato quando ero stati in balia dell'olandese e avrebbe sicuramente cambiato idea a Susanna piace molto l'inconsueto ma ci tiene alla sua comodità e ora che cosa facciamo chiese non lo so dovetti ammettere pensierosa tu devi naturalmente partire per la Rhodesia per tenere d'occhio il nostro budget e tu questa era proprio la difficoltà in cui mi dibattevo Kichester era veramente partito per Durban come era sua intenzione ripensando all'orario della sua partenza dalla villa di Muizenberg si poteva quasi essere certi che fosse a bordo avrei potuto prendere un treno e raggiungere Durban forse prima dell'arrivo del piroscafo d'altra parte se avessero telegrafato la notizia della mia fuga a Kichester avrebbero potuto anche fargli sapere che ero partita in treno per raggiungerlo gli sarebbe quindi stato facile scendere a Porta Elizabeth o a East London e sparire nel nulla il problema era complesso informiamoci comunque sull'orario dei treni per Durban dissi non è troppo tardi per prendere il tè disse Susanne scendiamo in sala mi informarono che il treno per Durban partiva la sera alle 8 e 15 rimandai la decisione e raggiunsi Susanne per un tardivo tè del mattino pensi di riuscire a riconoscere Kichester se dovesse usare un altro travestimento mi chiese Susanne scossi la testa sfiduciata non l'ho assolutamente riconosciuto quando si è travestito da cameriera e non mi sarei accorta che era lui senza il tuo disegno quell'uomo deve essere un attore disse Susanne pensierosa sa truccarsi magnificamente bene potrebbe scendere dal piroscafo dopo aver assunto un aspetto totalmente diverso e tu non ce la faresti mai a riconoscerlo sei molto incoraggiante in quel preciso momento il colonnello Reis entrò da una porta finestra e ci raggiunse sapete che cosa stia facendo Sir Eustaz gli chiese Susanne no non ho ancora avuto l'occasione di vederlo un'espressione strana apparve sulla faccia del colonnello gli è capitato un guaio che lo tiene molto occupato per favore raccontateci tutto non posso andiamo colonnello raccontateci qualcosa anche se dovrete inventarlo beh che ne direste se il famoso uomo vestito di marrone avesse fatto il viaggio con noi sul Kilmorden Castle cosa? mi sentì prima impallidire poi arrossire per fortuna il colonnello non mi stava guardando in tutti i porti la polizia era allerta ma lui è riuscito con l'inganno a convincere Pedler ad assumerlo come segretario Padgett no non Padgett l'altro quello che si fa chiamare Rayburn l'hanno arrestato chiese Susanne sotto il tavolo mi strinse la mano per rassicurarmi aspettai in ansia la risposta sembra svanito nel nulla come l'ha presa Sir Eustace lo considera uno sgarbo che il destino ha fatto alla sua persona più tardi avemmo l'occasione di ascoltare direttamente da Sir Eustace la sua opinione sulla sgradevole faccenda c'eravamo appena svegliate dopo un sonnellino corroborante quando un commesso ci portò un invito di Sir Eustace ad un tempo meridiano in termini commoventi ci pregava di raggiungerlo in salotto il poveruomo era in uno stato pietoso ci raccontò la sua desavventura incoraggiato dalla comprensione di Susanna prima di tutto una donna una sconosciuta all'improntitudine di farsi strangolare nella mia casa con l'unico scopo credo di importunarmi perché la mia casa perché tra tutte le case del Regno Unito ha dovuto scegliere proprio Mila House che male ho fatta a quella donna perché dovesse farsi ammazzare proprio lì Susanna espresse con un vago mormorio la sua comprensione e Sir Eustace proseguì con un tono di voce sempre più lagnoso ma non è tutto l'uomo che l'ha uccisa ha la sfacciataggine la colossale impudenza di farsi assumere come segretario come mio segretario incredibile sono stufo di segretari non avrò mai più segretari o sono brutali assassini o sono stolti ubriaconi avete visto l'occhio pesto di Paget certo non si può non vedere come si è ridotto la sua faccia sta assumendo un colorito viola e giallognolo che non si armonizza affatto al nero che circonda l'occhio non voglio più segretari a meno che non trovi una ragazza una cara ragazza una bella ragazza dagli occhi glauchi una ragazza che mi tenga per mano quando sono irritato signorina Badenfield accettate la mia offerta di lavoro per favore quante volte al giorno dovrei tenervi per mano gli chiesi ridendo per tutto il giorno mi rispose galantemente sireustaso non avrò molto tempo per battere a macchina che importa è Paget che ha la smania del lavoro mi ha fatto sgobbare come un negro non vedo l'ora di lasciarlo a città del capo e partire per la Rhodesia rimane qui sì e sono certo che si divertirà immensamente a dare la caccia a Rayburn è un compito che gli si addice adora gli intrighi la mia è un'offerta seria non volete venire sarete insieme alla signora Blair e di tanti in tanto avrete un po' di giorni di vacanza che vi permetteranno di fare scavi e cercare crani vi ringrazio sireustaso dissi prudentemente ma è probabile che io parta stasera per Durban non siate ostinata ragazza mia ricordatevi che in Rhodesia ci sono molti leoni vi piaceranno i leoni a tutte le ragazze piacciono i leoni credete che si stiano ancora esercitando a fare balzi adeguati gli chiesi ridendo no grazie sireustaso ma devo andare a Durban sireustas mi fissò sospirò profondamente poi andò ad aprire la porta che dava su un'altra sala e chiamò Paget se avete terminato il vostro riposo pomeridiano mio caro giovanotto forse non vi peserà di fare un po' di lavoro Gai Paget apparve sulla soglia ci salutò con un inchino sussultando appena quando mi vide e rispose con voce malinconica ho passato il pomeriggio a battere a macchina questo memorandum sireustaso beh allora è tempo di smettere andate alla camera di commercio alla banca dell'agricoltura all'associazione mineraria o dove diavolo volete e trovatemi una segretaria che sia disposta a seguirmi in Rhodesia deve avere occhi glauchi e deve essere disposta a tenermi per mano sì sireustaso chiederò una brava dattilografa paggett è un giovane pieno di malizia disse sireustaso quando il suo segretario se ne fu andato sono pronta a scommettere che sceglierà una donna brutta con l'unico intento di farmi un dispetto attirai attirai l'attenzione di Susanne e la trascinai quasi a forza nella sua stanza Susanne le dissi sovraeccitata dobbiamo rivedere i nostri piani e lo dobbiamo fare presto paggett rimane a città del capo glielo hai sentito dire vero sì certo suppongo che adesso non potrò più partire per la rodesia mi dispiace avevo proprio voglia di andarci che seccatura non ti abbattere la rassicurai devi partire non puoi cambiare idea all'ultimo momento senza destare sospetti inoltre paggett potrebbe essere richiamato improvvisamente da Sire Eustaz e allora ti sarebbe molto difficile seguirlo non sarebbe affatto rispettabile disse Susanne ridendo e per convincerlo dovrei fingere di essere in preda ad una passione fatale mentre se tu fossi già lì la tua presenza sembrerebbe naturale inoltre non credo che sia prudente perdere di vista gli altri due oh Anna non sospetterai di Sire Eustaz e del colonnello Reis sospetto di tutti dissi cupamente e se tu avessi letto più romanzi polizieschi Susanne dovresti sapere che il colpevole è sempre la persona meno sospettabile molti crimini molti criminali hanno l'aspetto bonario di un uomo grassoccio come Sire Eustaz il colonnello Reis non è né grasso né gioviale a volte sono anche snelli e taciturni ribattei non dico di sospettare seriamente nell'uno nell'altro ma dopo tutto quella donna è stata assassinata in casa di Sire Eustaz sì sì è inutile tornare sull'argomento te lo terrò d'occhio Anne e se dovesse ingrassare e diventare più gioviale e bonario ti manderò subito un telegramma Sire E sta ingrassando molto sospetto vieni Susanne per favore esclamai non prenderlo come un gioco sì è vero ammise Susanne imperterrita ma come non farlo è colpa tua mi sono lasciata trascinare dal tuo desiderio d'avventura quello che succede non mi sembra reale povera me se Clarence dovesse sapere che me ne vado in giro per l'Africa sulle tracce di pericolosi criminali gli verrebbe un colpo apoplettico perché non gli mandi un telegramma le chiesi sarcastica quando si parla di telegrammi Susanne perde completamente il suo senso dell'umorismo prese seriamente in considerazione la mia proposta potrei ma dovrà essere un lunghissimo telegramma i suoi occhi brillarono al pensiero ma penso che sia meglio che non lo faccia i mariti hanno la pessima abitudine di interferire in questi piccoli divertimenti innocenti beh dissi riassumendo la situazione tu sorveglierai Sire Eustasa e il colonnello Reis so perché devo sorvegliare Sire Eustasa mi interruppe Susanne a causa della sua corporatura e della sua conversazione ironica ma temo che tu stia esagerando a proposito del colonnello Reis ricordati che fa parte del servizio segreto così almeno si dice credo proprio Anna che dovremmo avere fiducia in lui perché non gli raccontiamo tutto mi opposi vigorosamente alla sua proposta Susanne alla fine mi promise di non confidarsi con il colonnello Reis e continuammo a fare i nostri piani è evidente che io devo rimanere qui per sorvegliare Paget e il miglior modo di riuscire in questo intento è di fingere di partire per Durban stasera portandomi via tutti i bagagli invece andrò naturalmente in un alberghetto modificherò un po' il mio aspetto metterò una parrucchia bionda un fulare in testa mi sarà più facile capire qual è il suo gioco se Paget mi crederà lontana Susanna provò il mio piano con entusiasmo ostentai i miei preparativi chiesi un'altra volta l'orario del treno per Durban e rifeci il baule cenammo in albergo il colonnello Reiss non si fece vedere ma Sire Eustasa e Paget erano seduti al loro tavolo vicino alla finestra a metà pasto Paget lasciò il tavolo ne fui molto seccata avevo progettato di salutarlo comunque Sire Eustasa poteva bastare quando terminai la cena mi alzai e andai al suo tavolo arrivederci Sire Eustasa gli dissi parto stasera per Durban Sire Eustasa sospirò Siete sicura di non avere voglia di venire con me mi farebbe piacere come siete gentile siete certa di non cambiare idea e di non aver voglia di dare un'occhiata ai leoni della Rhodesia ne sono certa deve essere proprio un bel giovane disse in tono l'agnoso Sir Eustasa uno di quei giovani audaci e atletici che mettono in ombra il mio fascino di uomo maturo a proposito Paget deve recarsi in centro in automobile tra un paio di minuti potrebbe accompagnarvi alla stazione oh no grazie ribattei in fretta la signora Blair ed io abbiamo già ordinato il taxi andare alla stazione con Paget era proprio l'ultimo dei miei desideri Sir Eustasa mi fissò attentamente Paget non vi è simpatico vero non vi biassimo è un povero asino pieno di sussiego che se ne va in giro con quella sua aria da martire sempre pronto ad irritarmi per la sua insistenza e a farmi dispetto che cosa vi ha combinato gli chiesi incuriosita mi ha trovato una segretaria che donna 40 anni occhiali scarpe pratiche un'aria di efficienza che mi farà morire di orrore brutta come il peccato non acconsente a tenervi per mano spero che non lo faccia mai esclamò Sir Eustasa sarebbe il colmo arrivederci occhi glauchi se dovessi abbattere un leone non vi regalerò la sua pelle mi avete vilmente abbandonato mi strinse la mano con calore e lo lasciai Susanne mi stava aspettando nel salone d'ingresso era pronta ad accompagnarmi andiamo via subito dissi in fretta e mi avvicinai al portiere per chiedergli un taxi una voce alle mie spalle mi fece sussultare scusatemi signorina Beddinfield devo andare in centro mi permettete di accompagnarvi alla stazione grazie mi affrettai a rispondere non è il caso che vi disturbiate nessun disturbo vi assicuro mettete il bagaglio nella mia automobile portiere mi sentì presa in contropiede avrei forse tentato di protestare ancora se Susanne non mi avesse avvertito stringendomi il gomito di stare attenta grazie signor Paget dissi freddamente salimmo tutti e tre in auto mentre la macchina correva veloce mi scervellavo per trovare qualcosa da dire alla fine fu lo stesso Paget a interrompere il silenzio ho trovato una bravissima segretaria per Sir Eustace disse la signorina Pettigri non mi sembrava entusiasta gli feci notare Paget Paget mi guardò freddamente è un asteno da tilografa molto efficiente ribatté con tono severo raggiungemmo la stazione ferroviaria pensavo che lì ci avrebbe finalmente lasciato mi rivolsi a lui stendendo la mano ma lui non accettò il commiato sono venuto sin qui per accompagnarvi al treno sono le otto rimane un quarto d'ora alla partenza cominciò a dare ordini al facchino non ce la feci a guardare in faccia Susanna ero incapace di reagire l'uomo mi sospettava e aveva deciso di assicurarsi che sarei partita davvero che fare non mi venne in mente niente stavo già immaginando la mia partenza mentre Paget sarebbe rimasto sulla piattaforma a salutarmi era stato molto abile inoltre i suoi modi erano cambiati pareva pieno di buona volontà un atteggiamento che mi dava la nausea quell'uomo era un ipocrita prima tentava di uccidermi poi mi faceva un mucchio di complimenti credeva forse che non l'avessi riconosciuto quella sera a bordo no no di certo stava recitando e mi stava costringendo a stare al suo gioco mi lasciai accompagnare come una pecora il mio bagaglio il mio bagaglio fu ammucchiato nella cabina a due cucette erano le 8 e 20 mancavano due minuti alla partenza ma paget non aveva fatto i conti con l'abilità di susanna sarà un viaggio terribilmente caldo anna disse all'improvviso specie quando domani attravesse verete carro ti sei portato un po' d'acqua di colonia vero? capì al volo oh povera me esclamai ho lasciato l'acqua di colonia nel bagno dell'albergo l'abitudine al comando che caratterizzava la mia amica ci fu di estrema utilità paget è presto abbiamo appena il tempo c'è una farmacia proprio davanti alla stazione anna deve avere con sé un po' d'acqua di colonia lui esitò ma i modi imperiosi di susanna lo costrinsero a cedere susanna è un'autocrate nata paget si allontanò rapidamente susanna lo seguì con gli occhi sino a quando la sua persona sparì alla vista presto ann scendi dal lato opposto nel caso non se ne sia veramente andato e ci stia osservando da lontano lascia stare il bagaglio puoi sempre recuperarlo mandando domani un telegram speriamo che il treno parti in orario aprì aprì lo sportello sul lato opposto della piattaforma e scesi nessuno stava osservandomi mi nascosi vedevo susanna ferma dove l'avevo lasciata il viso sollevato verso il filestrino come se stesse parlando con me un fischio lacerò lacerò l'aria il treno si mossa solo allora udì lo scalpiccio di passi che correvano lungo la piattaforma mi ritirai all'ombra di un'edicola e rimasi lì ad osservare susanna si voltò dopo aver sventolato il fazzoletto verso il treno che si stava avviando troppo tardi paggett disse allegramente è partita avete trovato l'acqua di colonia che peccato non averci pensato in tempo uscendo dalla stazione mi passarono a pochi metri di distanza paggett era molto accaldato aveva evidentemente fatto una corsa per andare in farmacia e tornare volete che vi chiami un taxi signora Blair Susanna continuò a recitare il suo ruolo sì grazie avete molto da fare per Sireustaz come avrei voluto che la signorina Bedinfiel avesse accettato di venire con noi in Rhodesia non mi va di saperla viaggiare da sola sino a Durban ma di certo c'era qualcosa qualcuno che l'ha attirata non udì più nulla erano ormai troppo lontani lasciai passare un paio di minuti e poi abbandonai anch'io la stazione ferroviaria andando quasi a sbattere contro un uomo un individuo dall'aspetto sgradevole munito di un naso enorme che lo sfigurava sbagliata sbagliata rodolo